Capitolo I Melchiorre Carta saliva la montagna ritornando al suo vile. Era un giovane pastore biondastro di piccola statura. Una ruga gli si disegnava fra le sopracciglia folte e nere che spiccavano nel fosco giallore del suo volto contornato da una rada barbetta rossiccia. Anche la sopraggiacca di cuoio del suo costume era giallognola e il cavallino che egli montava era rossasto, tozzo, angoloso e pensieroso come il suo padrone. Melchiorre era un giovane di buoni costumi ed ottima fama. Molto spensierato ed allegro non lo era mai stato ma da qualche tempo si mostrava più taciturno del solito e si sentiva quasi malvagio perché sua cugina Pasca lo aveva abbandonato alla vigilia delle loro nozze e senza motivo. Così, solo perché ella si era improvvisamente accorta di essere graziosa e corteggiata anche da giovani signori. Il cavallino saliva con prudente lentezza scuotendo la testa tenuta alta dal freno. Dopo le falde sassose, polezzanti di cespugli aromatici dalle quali si scorgeva nuoro e un panorama di valli selvagge e di montagne lontane il pastore si inoltrò nei boschi delci. Il mattino d'agosto era pulissimo. Il giorno prima aveva piovuto e nel bosco regnava una dolce frescura. Le felci, l'erba, i tronchi umidi, le rocce lavate esalavano un profumo quasi irritante. La brezza dava marezzi argentei alle chiome degli enci. Il cielo sorrideva azzurro come un lago negli sfondi sereni. Emel Chiorre saliva triste e truce fra tanta dolcezza di cielo e di bosco. Sentiva un indistinto vocio, un riso di donne che lo precedevano su per il sentiero. Gli sembrava di riconoscere il riso fresco e sonoro di sua cugina e si rodeva a dire «E lei!» e ride fermando il cavallo e stette ad ascoltare. Le voci si allontanarono, il riso si spense con la vibrazione dell'eco. Mel Chiorre sospirò e spronò il cavallo. E il cavallo riprese a salire. A salire con ritmi condeggiare della groppa, con lento sbatter della coda sui fianchi ossuti. Su per lechine rocciose dalle quali il vento aveva spazzato le foglie e denudato le grandi radici degli enci, rossastre contorte e avviluppate come serpenti. Il suo passo risuonava metallico e il suo ferro lucente traeva scintille dal granito. Dopo lechine si aprirono silenziose radure circondate da alberi che si slanciavano sui limpidi sfondi. Qua e là le rocce, accavalcate, parevano enormi sfingi. Alcuni blocchi servivano da piedestalli a strani colossi, a statue mostruose appena abbozzate da artisti giganti. Altri davano l'idea di aree, di idoli in mani, di simulacri di tombe, dove la fantasia popolare racchiude appunto quei ciclopi che in epoche ignote sovrapposero forse le rocce dell'ortobene, traforandole nelle cime con nicchie ed occhi attraverso cui ride il cielo. Dopo le radure, di nuovo il bosco. Sentieri umidi, piccoli corsi d'acqua, profumo di giunco, erbe calpestate da greggie ed armenti, e sempre ombra, tremoli rabeschi di sole, qualche grido di gazza, qualche picchio di accetta ripercorso da due, tre, quattro ecchi, poi ancora la salita, ma dolce, molle di felci fresche. Guadagnata anche questa, il pastore incontrò alcune donne e fanciulli che scendevano carichi di sacchi di carbone. Fermò il cavallo per lasciarli passare. In quel tratto, il sentiero serpeggiava fra rupi aride e il sole batteva giacaldo sul terreno sassoso e privo di alberi. La montagna appariva improvvisamente desolata. Era un adeguato sfondo al triste gruppo di quelle donne lacere e scalze, con la testa conficcata nei gravi sacchi neri, di quei fanciulli che scendevano curvi sotto l'enorme carico con le manine nere penzolanti, la testa tirata indietro dalla corda dei sacchi e gli occhi e la bocca spalancati per il calore e la fatica. Donne e fanciulli scendevano cauti, silenziosi, coi visi rossi lucenti di sudore e gli occhi nuotanti in un sogno di dolore e malvagio. Vedendo il pastore tranquillo e seduto a cavallo, lo invidiarono e glielo dimostrarono gridandogli rudemente di scostarsi, aizzando il cavallo e imprecando. Due donne, rimaste ultime, gli si fermarono davanti ridendo di un riso spezzato e maligno. «Vai all'ovile, mezz'olio carta?» «Così pare. Se aizzi il cavallo farai un bell'incontro. Io non devo incontrare nessuno», disse egli duro, ma dentro il cuore parve saltargli alla gola. «E dunque lei?» pensò con rabbia. Le donne, intanto, ripresa la discesa, fermarono un ragazzo per il sacco. «Grida così, tanti saluti a pasca carta!» Il ragazzo si volse in faccia al sole, socchiuse gli occhi, si portò le mani giunte alla bocca e gridò, «Faccia di volpe! Oh, eh, tanti saluti a pasca carta!» Il maligno grido finì di inviperire Melchiorro. Tuttavia non si volse, non rispose, e non si fermò finché non giunse a una fontana. Grandi elci immobili ombreggiavano la radura coperta di tenere erbe bionde. Davanti alla rozza fontana di pietre si scorgevano le tracce di un banchetto. macchie nere ove era stato acceso il fuoco, felci appassite su cui erano state distese le tovaglie, avanzi di frutta, frantumi di stoviglie, e in giro alcune pietre che avevano servito per sedili sembravano ancora accolte a muto convito. Il pastore e il cavallo parevano piccolissimi in quella solenne grandiosità d'alberi e di sfondi azzurri. Belchiorre smontò e, tirando il cavallo per la briglia, si avanzò fino alla fontana. Si inginocchiò sulle pietre, rigettò indietro sul capo la berretta e, curvandosi sino a baciare la sua figura riflessa dall'acqua, bevette a lunghi sorsi. Si rialzò con i baffi stillanti, si accomodò la berretta e fece bere il cavallo alla fontana, invece che alla pozza praticata apposta per abbeverare le bestie. Mentre il cavallo si abbeverava, egli guardava intorno sospettoso, provando un gusto dispettoso nel veder l'acqua intorbidata dall'animale. La fontana era stata pulita pochi giorni prima per uso di alcune famiglie che facevano la novena nella chiesetta in vetta al monte. Pasca serviva in una di queste famiglie e ogni giorno scendeva alla fontana per attingere acqua con la rossa anfora di creta sul capo. I suoi adoratori, certo, la rincorrevano fino laggiù. Che dunque il cavallo bevesse, che intorbidasse, che potendo inquinasse la fresca acqua pura come quei signori avevano avvelenato l'anima del pastore. Che bevesse. Anzi, in un impeto d'ira che diede un giallo fulgore ai suoi occhi, Melchiorre si curvò, aprì le mani, afferrò uno, due, tre massi dalla base nera di fango e li gettò entro la fontana. L'acqua gorgogliò, sprizzò, traboccò, si sparse sulle pietre circostante. Egli riprese la briglia, risalì rapido in sella e s'allontanò. Tutto ritornò nel grave silenzio di prima. Si udiva solo il crepitare dalle foglie secche e dei ramoscelli spezzati dalle zampe del cavallo. Un po' più su, Melchiorre si fermò. Il suo ovile era a Levante, un po' lungi dalla chiesetta, davanti alla quale non occorreva passare. Eppure, per un momento, egli fu tentato di salire lassù, ma poi rallentò la briglia e lasciò che il cavallino seguisse da sé la via. E il cavallino rizzò le orecchie e attraverso i labirinti del bosco e delle rupi s'avviò all'ovile. Allora, riprendendo la solita via, Melchiorre tornò alla realtà e si sdegnò della sua debolezza. Gli accadeva sempre così. Sta quieto, gli diceva il vecchio padre, meglio prima che poi. Ma questo conforto era come il sale sopra una ferita. Gli destava spasimi feroci. E sempre, senza volerlo, si trovava sulle tracce della ridente creatura che pareva lo affascinasse appunto con l'insultante letizia della sua giovinezza, libera e leggera. Gli sembrava di aver diritto ancora su di lei, come parente, e senza l'idea del padre vecchio e cieco si sarebbe compromesso. Giunse all'ovile a sole alto. Il cavallo si fermò al solito posto, presso una mangiatoia di pietra sotto onerice. Un piccolo cane nero dai limpidi occhi castani e un gatto tigratto dagli occhi celesti gli vennero incontro, silenziosi, l'uno saltellando, l'altro a passettini lenti e leziosi. Sudiva il tintinnio delle capre al pascolo e il grido del giovane mandriano che, in assenza di Melchiorre, custodiva l'ovile e il vecchio cieco. In quel versante l'ortobene guardava l'oriente chiuso dalle azzurre montagne della costa fra le quali intravedevasi il mare, confuso col cielo in una zona grigio perla. Terre solitarie e ondulate si stendevano ai piedi della montagna e lassù, intorno all'ovile, l'ortobene era tutto un incanto di rocce, di boschi e di radure. La capanna sorgeva in uno spiazzo dal libero orizzonte. Il sentiero che la conduceva insinuavasi nel bosco. Rasentava precipizi, chine coperte d'erba bionda, scendeva e saliva per scalinate antri archi di granito. Il muschio copriva i tronchi e le pietre. L'edera, sugli alti crepacci, abbandonava i suoi ciuffi alle carezze del vento. Nella radura intorno alla mandria sorgeva un solo elce. Davanti l'orizzonte, dietro il bosco. A destra e a sinistra enormi rocce sovrapposte forate in alto da occhi che per lo sfondo del cielo sembravano azzurri e più giù da nicchie inghirlandate d'edera e dalle quali pareva fossero scomparsi idoli antichi. qualche roccia si slanciava sottile come un obelisco. Oltre, giacevano su enormi piedistalli come sarcofagi coperti da drappi di musco verde. E tutte le cose, alberi, rocce, macchie, in quel luogo di solitudine, parevano immerse nella contemplazione dei solenni orizzonti. Anche le capre, allor che salivano sulle rocce, volgevano il viso di sfinge e barbuta e gli occhi melanconici alle lontananze marine. Anche il gatto, nei suoi lunghi sogni sulle pietre, fissava le pupille di afane all'oriente e il vecchio cieco e il mandriano e Melchiorre guardavano sempre laggiù come in attesa di qualche cosa. La capanna di rami e di pietre era abbastanza vasta e pulita con un gran focolare nel centro. Dai rami sporgenti pendevano recipienti di sughero per il latte e i gabbani dei pastori. Al giungere di Melchiorre zio Pietro uscì dalla capanna. Era alto e rigido con qualche cosa di eratico nel volto rose o dalle palpebre abbassate col profilo aquilino e una lunghissima barba di un candore metallico calvo con una corona di riccioli argenti sulla nuca. Le folte sopracciglia bianche aggrottate tradivano l'intensa continua attenzione ai suoni e alle impressioni esterne. Indossava il costume di vedovo nuorese ma sul capo invece della berretta sarda aveva un tocco di pelle di volpe. Col suo leggero bastone di legno d'oleandro sul cui manico era rozamente incisa una testa di cane parve volersi far largo protendendolo in avanti e di fianco alla ricerca di un invisibile ostacolo. Anche la sua mano sinistra rossa rugosa e tremante brancicava cercando un appoggio spingendo spingendo un ostacolo. Sebbene calmo in apparenza non sorrideva e solo quando sentì che Melchiorre arrivava spianò le sopracciglia e il suo bel volto parve quello di un patriarca. Dal suono rimbalzante delle staffe e del freno si accorse che Melchiorre toglieva la sella al cavallo e si fece un po' indietro per lasciarlo passare. L'altro entrò senza dir parola e depose bruscamente per terra la bisaccia intorno alla quale il cane si aggirò fiutando. Cos'ha? pensò zio Pietro accorgendosi subito che il figliolo era più irritato del solito. Ma tosto sentì un profumo di frutta e si rallegrò come un bimbo. Cosa hai portato? chiese. Toccate disse Melchiorre questo è un cocomero e questo è un popone bene dove è quello scimmiotto? domandò Melchiorre buttandosi sulla stoia accanto alla porta. Sporse il capo fischiò gridò Basilio oh Basilio anche zio Pietro si dette. Il cane e il gatto da buoni amici fiutavano assieme la frutta recata da Melchiorre. Basilio il mandriano rispose con un beeeh tremule prolungato che pareva il belato di una capra poi fischiò e arrivò saltellando e correndo con una lepre sotto il braccio. Nel lasciare il suo villaggio che si scorgeva dall'ortobene Basilio aveva preso con sé una lepre di nido così piccola che stava entro il pugno e il padrone gli permetteva di allevarla col patto di arrostirla un giorno o l'altro. Dopo i primi tentativi di fuga la palpitante bestiola dalle lunghe orecchie bionde parve a domesticarsi bevette il latte rosicchiò il pane raspò le ghette di zio Pietro morsicò le dita di Basilio e quando credeva di non essere veduta giocava e saltellava strofinandosi il musino con ambe le zampette anteriori ma i suoi grandi occhi dolci sempre aperti e intenti meditavano la fuga e guardavano lontano come assorti nel ricordo della libera vigna natia dove i fratelli dovevano danzare alla luna e rosicchiare i primi acini violetti dell'uva che maturava Basilio però la teneva sempre legata e spesso la prendeva con sé a guardare le capre entrato nella capanna la legò ad un piolo e mettendo piccoli gridi di contentezza alla vista dell'anguria sulla quale si gettò fiutandola e morsicandola per scherzo mangierono in fretta il grigio pane d'orzo silenziosi accanto alla solenne figura del vecchio contrastava quella bronzina e ridente del giovinetto dei begli occhi neri dall'ondulata capigliatura d'oro bruciato e gli splendidi denti che nel riso apparivano tutti fino ai molari nella rosea cornice delle gengive sarebbe tempo di finirla con la tua lepre disse ad un tratto Melchior cosa volete farne questo disse il padrone e con la mano fece atto di praticare un buco prima facciamolo a questa rispose Basilio mettendosi l'anguria fra le gambe o lo faremo anche alla lepre altro bene voi non abbiate lo dicevo io mi meraviglio scimmiotto alla tua età si amano le donne non le lepri disse ironicamente Melchior ma forse le vuoi bene perché ti somiglia forse un pezzetto di pane alla lepre e proseguì sì con quelle orecchie somiglia a te e all'asino cavolo gridò ritirando la mano mi ha morsicato tutta te ecco che sembri sciocco e sei una volpe Basilio rise tutto intento a buccare l'anguria col suo coltello lepre volpe bah disse zio Pietro cui non piaceva il linguaggio aspro del figlio del resto aggiunse anche la lepre ha la sua parte di perfiglia ha l'alito pestidenziale se sugge le mammelle di un'altra bestia e il latte di questa si dissecca una volta una pecora trovò un nido di leprotti la cui madre era stata uccisa cosa fa la pecora stupida li allatta ebbene il suo agnello comincia a deperire a deperire la pecora non aveva più latte chiese Basilio attentissimo si conti di soppo disse Melchiorre sprezzante e poi e poi raccontate zio Pietro e la lepre e l'agnello ma zio Pietro tacque risentito poi chiamò il gatto tortorella Basilio dà da mangiare agli animali zio Melchiorre ha già mangiato disse Basilio ridendo intanto sbatteva lievemente per terra l'anguria finché questa non s'aprì in due stelle carnose ed un rosa pallido sparse di sementi bianche acerba domandò zio Pietro purtroppo grugnì Melchiorre comicamente desolato tuttavia prese una fetta e vi tuffò ferocemente la bocca imprecando fra sé perché nessuna cosa gli andava a seconda dopo il pasto tutti uscirono fuori Basilio riprese a fischiare e a belare e Melchiorre portò al cavallo gli avanzi dell'anguria da lontano arrivava il tintinnar delle capre ma voci e suoni sfumavano nel gran silenzio nell'immensa serenità del paesaggio e fra gli alberi e le rupi enormi le figure dei pastori apparivano piccolissime nere sui limpidi sfondi il pio della montagna di Grazia de Redda capitolo secondo un po' giù dalla radura sotto le rocce dalle quali scaturiva un filo d'acqua Melchiorre aveva pazientemente formato un piccolo orto e una rozza vasca di pietre piante di fagioli dai fiorellini scarlatti si attorcigliavano a lunghe pertiche e i grappoli del pomidoro cominciavano nella frescura dell'uovo a imporporarsi come usava tutti i giorni egli si arrampicò sulle rocce e là ritto fischiò e batte le mani per radunare le capre onde si abbeverassero senza saltare la siepe dell'orticello zio pietro scese il sentiero fermandosi ogni tanto tastando il terreno col bastone trovato il suo posto favorito una pietra scavata in forma di sedia a braccioli accanto alla vasca sedette sentì l'odore fresco dell'orto del musco bagnato sentì le capre che saltellavano scendevano dalle alture e salivano le chine urtandosi spingendosi con un tremulo tintinio di campanelle nell'accostarsi all'acqua si facevano tranquille e bevevano pacatamente una dopo l'altra stendendo la mano zio pietro poteva toccarle gli passavano davanti con leziosa andatura di gatte Melchiorre intanto le contava distinguendole una per una con i suoi occhi di falco e continuava a fischiare e a battere le mani mentre la voce i belati e i fischi di basilio spingevano quelle che erano rimaste indietro egli le chiamava con nomi bizzarri ultimo a salire fu zio frate un vecchio caprone nero dalla barba bianca che aspettò si abbeverassero tutte le sue compagne poi si avvicinò alla vasca cozzandole un po' benevolmente e spingendole alla discesa qualche capretta si indugiava rizzandosi sulla siepe ma un feroce di melchiorre e la fronda di basilio l'allontanavano zio pietro ascoltava e quando il suono dei campanacci si sparse nuovamente per le chine sentì melchiorre scendere il sentiero e passare oltre dove andava zio pietro trovava sempre una vaga inquietudine quando il figlio si allontanava in quei giorni poi pasca non era lontana dove andava adesso melchiorre forse in cerca della ragazza e di uno scandalo in alto al di là delle rocce il vecchio sentiva il bosco stormire percosso da un brivido di brezza e questa voce lamentosa e monotona gli echeggiava dentro nel buio dell'anima inquieta dandogli un senso disperato di tristezza e di abbandono per lui la luce era la presenza del figliolo ma da qualche tempo sentiva che melchiorre incalzato dalla sua passione lo abbandonava anche lui e talvolta provava un terrore simile a quello di un bimbo smarrito in luoghi deserti s'alzò e stette in penoso ascolto solo il bosco continuava a mormorare e di qua e di là i cristallini tintinni delle capre ma quando tornò alla capanna i soliti rumori il ruminar del cavallo il guarire del cane il rosicchiare della lepre lo rassicurarono sentì la bestiola raspargli le ghette la prese fra le mani e la accarezzò malignaccia malignaccia mormorò sentendole batter forte il cuoricino anche tu hai paura poi cominciò a preparare il pranzo cercando a tastoni i pochi utensili domestici che erano nella capanna si curvò sul focolare avvicinò la mano alla cenere e sentendo calore scoprì una grossa braccia con la punta del bastone forato che serviva anche da soffietto mise una manata di fuscelli secchi e soffiò la cenere si sparse intorno al focolare il gatto scappò scuotendo le zampe e la fiamma brillò al suo ritorno Melchiorre trovò i maccheroni conditi dentro la casseruola la stuoia spiegata il pane preparato nel canestro era passato mezzogiorno l'elce descriveva appena un cerchio d'ombre intorno al suo tronco e il sole penetrava per tutte le fessure della capanna dentro e fuori faceva caldo l'azzurro del cielo vaporava chiaro all'orizzonte sotto la luce fiammante del sole allo zenith le rocce parevano fatte di cenere ardente ma intorno i boschi fremevano con un sonoro sussurro di nuovo i pastori sedettero per terra e pranzarono tornando ai soliti discorsi le capre i pascoli i pastori amici o vicini e basilio rideva sempre mezzorra raccolse su un pezzo di sughero le sementi dell'anguria mentre con la buccia il mandriano intagliava statuette piatte che parevano idoletti fenici e componeva una dentiera dai feroci denti verdi che si applicò sotto le labbra ridendo grottescamente dopo pranzo Melchiorre e Zio Pietro se ne andarono a meriggiare sotto gli alberi il vecchio pose il berretto sotto il capo il bastone a fianco e in breve cullato dallo stormire del bosco si addormentò una chiazza di sole gli calava sul dorso e la brezza smuoveva le candide ciocche della sua barba pareva un vecchio santo addormentato nella serena solitudine del bosco Melchiorre supino con le gambe accavallate e le mani sotto il capo non poteva assupirsi sotto il cielo luminoso le foglie degli elci investiti dalla brezza parevano perle e con la voce canora e sonnolenta del bosco si accompagnavano sempre i tintinnì argentini delle capre e le gazze tessevano liquidi fili di armonia e Melchiorre non poteva trovare riposo il riso di pasca lo perseguitava che faceva essa nella capannuccia di frasche a fianco della chiesetta col fazzoletto graziosamente ripiegato sulla sommità del capo il volto roseo per il calore del fuoco forse cucinava svelta il succulento pranzo del padrone un violento desiderio di recarsi lassù di entrare di afferrarla e trascinarsela dietro lo vinceva se non fosse per quello lì pensava e fissava la macchia di sole che lentamente dal dorso saliva alla nuca di zio Pietro durante la mattina si era aggirato intorno alla chiesa con la scusa di cercare un pastore amico avvicinandosi al punto d'attrazione fino a scorger la capannuccia di pasca aveva sentito voci di donne che attingevano acqua al pozzo nella radura e fra le erbe gialle e le pietre aveva veduto un bambino vestito signorilmente che dava la caccia alle cavallette e acchiappatane una la portava a un piccolo falco addomesticato il falco aspettava fermo sopra una pietra seguendo il bimbo con i suoi rotondi occhi gialli avuta la cavalletta la premeva con la zampa e la beccava crudelmente stringendo e starnazzando le ali fulde Melchiorre aveva lanciato una feroce occhiata sul bimbo sul falco sulla chiesa sollevando le sopracciglia come per stender meglio il suo amaro sguardo fino all'orizzonte ed era tornato dal padre si volse sul fianco continuò a fissare la macchia di sole che saliva verso i riccioli argenti di Dio Pietro e gli parve di provare un improvviso benessere fisico e morale come sono matto pensò ho cento capri sono giovine sano onesto qual donna non mi vorrebbe io mi infischio di mia cugina e dei signorotti suoi innamorati vadano al diavolo finisci la Melchiorre non vedi che stai diventando stupido come una pietra ma un tratto le tempie cominciarono a martellarmi e un calore molesto gli punse tutta la persona fra il sussurro del bosco giungeva un suono di flauto fino tremulo che ora pareva morire tristemente ora s'avvivava di gorgheggi saltellanti e liquidi Melchiorre sollevò la testa per ascoltar meglio il suono trasportato dalla brezza oscillava veniva ora sì ora no insinuandosi nel bosco come ricamando una striscia serpentina di melodia sul fondo cupo del sussurro degli eci a intervalli quando il mormorio del bosco era meno forte qualche nota di chitarra vibrava grave e lenta fra i gorgheggi argentini del flauto erano certo i signori del monte che dopo un lauto pranzo suonavano e si divertivano e Pasca era forse tra loro Melchiorre ardeva d'ira e di odio io vado urlò fra sé si sollevò ma vide il viso del padre illuminato dal raggio del sole e non s'alzò ma anzi che calmarsi si buttò nuovamente per terra bocconi con le braccia aperte mordendo il fieno e gemendo come una bel valegata per tutto il resto della giornata fu cupo e taciturno andava e veniva dalla capanna al bosco coglieva vergulti per il cavallo si arrampicava sugli alberi e le rocce e dall'alto guardava sempre verso la chiesetta nella diafana senerità pomeridiana gli giungeva ancora appungendogli il cuore qualche trillo di chitarra col tramonto un nuovo incanto dilagò intorno gli alberi tacquero dall'occidente il cielo di corallo versò una misteriosa luce rossa fra i colonnati del bosco sulle rocce sull'edera e ogni cosa si imporporò nel silenzio solenne dell'ora il fuoco del tramonto giungeva fino all'oriente smorzandosi in vaporosità rose e gettando veli pavonazzi sulle montagne rontane Dio Pietro seduto davanti alla capanna pregava anche egli nella dolcezza del tramonto pensava alla chiesetta dove in quell'ora si recitava la novena e ricordava le preghiere e i gozos dalla cadenza melanconica e rivedeva la porta spalancata sul rosso occidente signore Edesumonte diceva fra sé piccola signora del monte fammi la grazia di venirti ancora a laudare nella tua chiesetta fammela questa grazia signoredda fammela Basilio mi guiderà vedrò quella ragazza e chissà che non possa dirle una parolina Pasqua ricordati del vecchio Zio Pietro che ha gli occhi chiusi non tormentarlo oltre figlia mia Ave Maria grazie appieno il Signore a momenti qualche tintinio di capra gli sembrava lo squillo del campanello della chiesetta e vedeva sempre quello sfondo di porta quel cielo color fragola velato di violetto e sull'altare le fiammelle dei cedi tremule come foglie d'oro con fragranza di ginepro asso Pasqua figlia di mio fratello dove sei tu sei lì inginocchiata e preghi come puoi pregare dopo tutto quello che ci fai soffrire ti ha veduto Melchiorve no e allora perché così cupo Ave Maria grazie appiene il Signore è teco e domani potessi andare a vederla forse potrei accomodare ogni cosa cosa ne dici vecchio Pietro nostro Signora del Monte concedetemi questa grazia piccola rosa mia piccolo giglio mio concedimi questo miracolo Ave Maria grazia piena sacquettò in questa speranza intanto udiva i tintinnì delle capre avvicinarsi fondersi in un solo suono melanconico la greggia tornava alla mandria Belchiorve e Basilio gettarono fasci di fronde sulle siete poi chiusero i rossi cancelli e il mandriano entrò nella capanna per riaccendere il fuoco mentre il padrone giovane si sdraiava accanto a zio Pietro in Bruni il fuoco dell'occidente si smorzò in luminosità violacee qualche stella apparve come goccia di rugiada sugli estremi rami degli alberi neri le montagne e il mare ad oriente svanirono nel sogno cinereo della sera era una pace sovrana eppure da quel silenzio profondo da quella immobilità delle cose che il crepuscolo rendeva gigantesche da quell'incipiente mistero della notte ispirava un senso vago di angoscia l'oscura linea del bosco pareva una nubola e in quella immensità di paesaggio nel silenzio della solitudine i pastori la capanna le bestie sembravano ancora più piccoli punti smarriti sotto i profili di sfinge delle enormi rocce chiare all'ultima luce col cadere della notte il chiorre si fece ancora più culo il rumore delle pallottoline del rosario sgranato da zio pietro lo irritava non vi stancate voi di pregare chiese ruvidamente zio pietro baciò la crocetta di metallo del rosario si segnò con essa si levò il berretto e disse dio sia lo dato perché lo dato domandò la voce acre del figlio per i beni che ci manda per i mali che ci risparmia dopo un momento di silenzio Melchiorre proruppe vostra nipote al monte ci sei stato a far che a cavarle gli occhi me l'hanno detto anche a me anche a voi e chi basilio basilio e come le sa queste cose quella faina basilio basilio vieni fuori piccola volpe hai abbandonato il gregge forse per andarla su bada che io non ti tronchi le gambe un giorno o l'altro basilio apparve sull'apertura illuminata della capanna e rise maliziosamente che andare che andare zio merzio sono venute qui le serve e le signore anche e i signori in cerca di latte non ce n'è ho risposto e di chi è questo vile di Melchiorre carta ebbene allora faremo venire la cugina a domandare il latte e perché non è venuta oggi perché è scesa a nuoro e risalirà più tardi hanno detto loro ah han detto queste cose perché non vengono quando ci sono io che vengano che vengano che venga ruggì Melchiorre oh non verrà state tranquillo cosa ne sai tu piccolo falco va e fai fatto tuo altrimenti ti faccio ridere il riso sardonico e non sapete padre disse poi rivolto al vecchio mi dimenticavo di dirvi le prodezze di questo piccolo astole ho trovato una capra legata dalla quale egli cercava di far suggere la lepre per sperimentare la vostra storiella cattivi esperimenti disse zio Pietro poi tacque col viso sollevato Melchiorre lo guardò quel viso atteggiato a pace melanconica quella bocca dolce e triste gli dicevano in silenzio mille cose buone che gli echeggiavano dentro il cuore oppresso ricordò d'avergli durante la giornata parlato sempre aspramente e provò un impeto di rimorso e di pietosa tenerezza padre domandò un tratto con voce mutata non sapendo che altro dire ma è proprio vera la storia della lepre vera disse il vecchio e raccontò altre storielle finché giunse l'ora di ritirarsi nella capanna e di andare a dormire Melchiorre pareva rasserenato ma svegliato di dopo breve sonno zio Pietro si accorse che la storia accanto era vuota nel posto dove Melchiorre solleva colicarsi zio Pietro palpò il corpo molle attorcigliato del gatto è andato gridò ed ebbe paura Basilio ma questi dormiva il profondo sonno dei felici e zio Pietro lo dovette cercare e pungere col bastone per farsi sentire chi mi tocca cosa volete dove è andato Melchiorre e ne so molto è uscito non c'è o ci sarà non lo so lasciatemi dormire zio Pietro si sentì paurosamente solo salzò si sedette sul limite della capanna e ascoltò il mistero della notte era completo il bosco rombava di nuovo col fragore di un torrente un roteare d'acque fredde torbide che si perdevano in nere lontanazze nessun altro rumore il cieco ricordava altre notti e gli sembrava di vedere le rocce nere nell'ombra e nel cielo in colore la via latea che descriveva appena una traccia di candore vaporoso ad oriente una nebbia grigia e triste e sulle montagne fra la nebbia un fuoco vermiglio che sembrava un fiore di melograno altri lavoratori erano lassù e dissodavano la montagna e la luce dei lentischi incendiati mandava un saluto ai solitari pastori dell'ortobene ma zio pietro nella sua tenebra profonda dava ascolto solo al lamento di solitudine e di abbandono del bosco e gli sembrava ad essere circondato da un freddo gorgo d'acqua nera un'angoscia mortale l'opprimera pensava puirilmente che belchiorre non sarebbe tornato mai più che egli sarebbe rimasto solo su quel limitare davanti al buio eterno gli sembrava di piombare in un abisso ed aveva due grandi occhi spalancati ma con essi non vedeva che una immensità vuota e nera solo in quella sua notte eterna più angosciosa della morte stessa il vecchio della montagna di grazia dell'edda capitolo terzo melchiorre attraversò a passi rapidi ed agili la raduna fermandosi nel sentiero accanto alla chiesa dietro un tronco delce biforcuto che gli permetteva di assistere non veduto come da un finestrino alla scena che gli si svolgeva davanti un gran fuoco rischiarava il bosco quasi tutti i novenanti stavano là attorno aggruppati e ridevano un cagnolino nero il cui collare di ottone scintillava al riflesso del fuoco abbaiò dietro melchiorre facendo atto di slanciarglisi contro senza usarlo e gli si volse disse piano piano con disprezzo aspetta marrano e accennò a correre di appresso la bestiola scappò una voce nasale gridò te leone leone te disse fra sé melchiorre e raschiò e sputtò al di là del tronco ma la sua sfida sprezzante più che il cagnolino pauroso era rivolta a tutta quella allegra gente dall'ombra egli vedeva un quadro fantastico il gran fuoco di tronchi e di rami crepitanti le cui fronde si cangiavano in braccia mandava in alto lunghe fiamme rosse illuminando a sprazzi la parte inferiore degli alberi e gli scorci di figure aggruppate qua e là per terra sulle pietre e al ridosso dei tronchi il bosco pareva una fantastica e mostruosa costruzione sorretta da nodose colonne e i cui intercolunni le volte e gli sfondi si perdevano in un vuoto oscuro nel circolo rosso descritto dalla luce della fiamma passavano correndo e traendosi dietro le loro lunghe ombre ragazzi che attizzavano il fuoco con bastoni a rami altri stavano appollaiati sugli alberi con le gambe ignude e penzoloni Melchiorre riconobbe il fanciullo delle cavallette che emetteva stridi acuti trascinando un ramo le cui fronde lasciavano intorno al fuoco una traccia di terreno spazzato risate allegre cantilene voci grida si univano al crepitare della fiamma sulle prime Melchiorre attratto dal bizzarro spettacolo provò un gusto quasi fanciullesco a contemplarlo il leggero vento che passava stormendo fra gli alberi gli batteva alle spalle mentre al viso gli giungeva il calore del fuoco un gruppo di signore col capo avvolto da fazzoletti di sete e da scialletti di lana sedeva sopra un tronco rovesciato alcune ridevano con i denti scintillanti una con le gambe accavalcate e le mani strette intorno al ginocchio sonnecchiava abbassando e rialzando la testa un'altra pareva sognasse il viso sollevato e la gola illuminata dal fuoco sedevano per terra e su pietre e addossate ai tronchi paesane con bimbi in grembo e alcuni uomini stavano sdraiati a pancia a terra col volto eretto e il mento appoggiato alle mani intrecciate ritto accanto al fuoco un giovinotto accordava un flauto la cui canna sembrava di colarlo e mandava il suo riflesso sulle mascelle gonfie e sulle mani del suonatore dopo aver fissato il bimbo delle cavallette e il ramo che spazzava il terreno intorno al falò Melchiorre mise attenzione agli striduli accordi del flauto seguendo con gli occhi i movimenti delle mani rosse del suonatore e provava un impulso d'ira e di sdegno ricordando la melodia lontana udita al meriggio e l'impressione di gelosia che ne aveva provato era costui che allora suonava questo giovanotto basso e scarno dai capelli così rasi che lasciavano scorgere la cuta del cranio dalle orecchie enormi e dalla scarsa barbetta rossa irta sul mento e costui col ridicolo gonfiare delle scarne guance era stato capace di attoscargli il cuore per tutta la sera dov'è Pasca rugì il suo cuore e i suoi occhi s'accesero e lo sguardo vagò dall'una all'altra delle paesane sedute per terra e sulle pietre e più su sulle panchine addossate al muro della chiesa Pasca non c'era ed egli ne provò sollievo ma non si mosse dal suo posto d'osservazione e fisio gridò la voce nasale che aveva chiamato il cagnolino finiscila con quel ramo e buttalo sul fuoco ma il bambino continuò a correre e per giunta il cagnolino andò dietro al ramo abbaiando che polvere si lamentò una signorina e fisio leone la voce nasale salzò così minacciosa che il cagnolino scappò e il bimbo cessò di correre i monelli appollaiati sui rami cominciarono a fischiare e a sputtare dall'alto figli di un capricorno finitela gridò il suonatore di flauto che sentiva qualche cosa d'umido sul collo finiscila tu corno di capra tutti ricominciarono a ridere e la signora che sonnecchiava si svegliò e fisio getta quel ramo sul fuoco il bimbo obbedì la fiamma si abbassò divampando poscia più alta e più crepitante insultati e presi di mira con pietruzze dal basso i monelli fischiavano e sputavano con maggior violenza le paesane gridavano vituperi e imprecavano col viso rivolto in su al diavolo che vi ha mandato la sopra vuoi finirla mendicante mendicante sei tu pieno di pidocchi pieno di pidocchi sei tu la questione viene spostata gridò la voce nasale vediamo se si può definirla altrimenti le chiorre vide un grosso uomo giallo e calvo dalla lunga barba nera ergersi gigantesco e minaccioso la finisca lei prima di tutto disse volgendosi al suonatore faccia un po' il piacere ma il giovinotto continuò a solfeggiare e monelli fischiavano e gridavano imitando la voce nasale del grosso signore pasca non si vedeva che fosse scesa a nuoro anche quella sera me chiorre cominciò stancarsi provava un senso di disprezzo per tutta quella gente che passava così scioccamente il tempo e pensava di andarsene quando la scena mutò una signorina aveva gridato un giovinotto che fumava tranquillamente la sua pippa di creta è arrivato un bastimento carico di nel ricevere il molle proiettile il giovinotto trasalì comicamente destando nuovi scoppi di riso ma ebbe la prontezza di spirito di lanciarla a sua volta sulla golla della signorina che sognava di impertinenti rispose è arrivato un bastimento carico di la sognatrice si scosse raccolse il fazzoletto e non seppe subito rispondere ma il gioco banale era cominciato e il fazzoletto continua a volare da un punto all'altro destando risate e malumori per la difficoltà dei carichi di in breve tutti presero parte al gioco anche i monelli si gettavano manate di foglie gridando arrivi di bastimenti carichi di impertinenze impossibile gridò il signore la voce nasale raccogliendo con le mani sul petto la palla bianca io sono fuori di gioco penitenza penitenza cambiamo la lettera con lì non si trovano vocaboli adatti penitenza penitenza mi dia quell'anellino che ha lei che io possa un giorno darglielo ai piedi dell'altare disse galantemente il giovane assonatore traendosi con due ditta l'anello fatto con un chiodo e mettendolo sulla palma della rosea mano aperta verso di lui cambiamo questo stupido i mettiamo il p pulcini pulcini insolentirono i monelli porchetti porchetti pasque pasque viva viva arrivato un bastimento carico di pasque viva pasqua viva melchiorre sollevò gli occhi ardenti pasca era finalmente apparsa e dritta davanti al fuoco piccola e snella con le maniche della camicia rimboccate e le cocche del fazzoletto nero rigettate sulla sommità del capo cercava con gli occhi un posto dove sedersi vieni qui vieni qui agnella mia la invitò il suonatore vieni e siediti al mio fianco al suo fianco il coltello ella rispose ma la sua voce era così dolce il sorriso così sonoro che a melchiorre parve di sentire davvero un coltello al fianco e si portò il pugno alle labbra in atto di mordere cosa mi tiene cosa mi tiene anima maledetta che ha il miele in bocca e il cuore un serpente ella si guardava sempre attorno sorridendo a tutti con civetteria il ciuffo dei suoi lucidi capelli castanei rialzato sulla breve fronte bianca che splendeva come l'avorio aveva riflessi di rame dorato e riverberi rossastri sfioravano il suo corsetto aperto su davanti e il petto della sua camicia dalle pieghe inamidate e sapientemente disposto quando ebbe scelto il posto attraversò con baldanza di giovine gazzella dei fianchi ondiggianti tutto lo spiazzo illuminato dal fuoco e balzò felinamente su una sporgenza di roccia di là dominò la scena col fulgore dei suoi limpidi occhi castani dalle lunghe ciglia le fu subito gittato il fazzoletto sul seno e uno studente si sdraiò su pino e sui piedi e cominciò a stuzzicarla con un bastoncino stia secco lei ella disse raccogliendosi le sottane intorno alle gambe e gli scaraventò il fazzoletto sul volto penitenza urlarono da ogni parte io non gioco non è vero che non gioco padrone gridò Pasca no tu fai davvero rispose la voce nasale e colui il suo padrone si domandò Melchiorre e capì subito l'istintiva antipatia che il fanciullo delle cavallette il cagnolino e la voce nasale gli avevano destato no ella non gioca ella fa davvero ripetè fra sé amaramente di momento in momento egli sentiva crescere la sua collera rabbiosa le orecchie gli titinnavano e gli ardevano e gli pareva che la fiamma e il calore del fuoco gli serpeggiassero nelle vene dov'è il falco domandò Efisio aggrappandosi alle gambe di Pasca col viso sollevato non lo so va e cercalo ella rispose con impertinenza pur tenendo presso di sé il bambino per salvarsi dai proiettili che dall'alto i monelli e dal basso i giovinotti le lanciavano il gioco proseguì quando tutti compresa lei ebbero dato un pegno si formò un comitato di ragazze e di giovanotti per le penitenze Pasca fu invitata a prendervi parte ma ella disse sto bene qui non mi muovo vengano qui se mi vogliono il comitato le si avvicinò e i giovanotti la circondarono strettamente ella rideva e mettendo piccoli stridi di gazza in amore Melchiorre vedeva le paesane curve l'una sull'altra mormorare e ridere fra loro certo per il contegno sconveniente di Pasca e fremeva e a momenti stringeva i pugni fino a conficcarsi le unghie nelle palme delle mani furono lasciati in grembo a Pasca i pegni del gioco e le persone del comitato si disposero in fila di chi è questo pegno ella domandò sollevando e sventolando un fattolettino bianco con la cifra rossa è mio rispose una voce sottile vuol riaverlo sfido se è mio allora bisogna che ella si alzi e vada a dare un bacio al mio padrone quello puoi farlo tu brava brava gridarono molte voci e tutti risero sguaiatamente bravissima pensò anche noi chiorri ma la sua collera crebbe se me lo impongo non lo faccio rispose arditamente Pasca ma fatelo tutte si può far benissimo esclamò la voce nasale per penitenza rispose il suonatore che puzza di spirito via finiamola disse una signora seccata che si desse tanta attenzione ad una serva non usciamo dai limiti del galateo cominci lei rispose una voce gli animi si nasprirono ma il comitato si riunì di nuovo e chi più chi meno volentieri tutti eseguirono le banali penitenze al suonatore toccò di ballare con la scopa e se la cavò allegramente gli venne restituito il flauto ed egli credeva finita la sua parte quando pasca gridò di chi è questa e agitò in alto tenendola con due dita per il corto picciuolo una grossa pera verde e lucente diavolo esclamò il suonatore battendosi le mani sulle tasche della giacca quella è mia me l'avete rubata come lei ha di queste provviste in saccoccia che altro ha altre frutta pane formaggio faccia vedere con tutta la sua poesia è mia è mia non è vero che è sua dalla a me pasca carta dalla a me gridavano i monelli il suonatore arrossì ma per puntiglio e per riaverla pera si sottomise alla penitenza della lettera fu fatto stupidamente inginocchiare e un giovane lungo e scarno in maniche di camicia nonostante il fresco della notte gli scrisse sulle spalle alcune righe insultanti e per virgole e pugni gli somministrava dei pugni sonori se ci arrivassi io pensiamo il chiorre ma perché quella bestia si lascia picchiare così ed è di uno scemo simile che quella sciocca innamorata ma non è più bello il mio caprone e le mie capre non hanno più serietà di tutta questa torma di matti la pera si è restituita al padrone sentenziò pasca quando il giovine si sollevò scuotendo le spalle indolenzite ma la pera se l'erano divisa e mangiata due ragazze del comitato e fra sonori sghignazzamenti furono restituiti al suonatore solo la buccia e il picciuolo egli non protestò ma riprese a suonare il flauto e non la smise più di chi è questo ditale un ditale d'alluminio scintillò sulla punta del mignolo del giovine in maniche di camicia è mio disse pasca è mio pensò Melchior riconoscendo con tristezza l'ultimo suo regaluccio alla fanciulla e cominciò ad agitarsi punto dei ricordi umiliato nel vedere il suo dono fra le mani di coloro che lo rendevano infelice se vuoi riaverlo pasca di rose raccontaci una novella una novella quale dissella come fra sé sollevando le braccia per accomodarsi il fazzoletto in quell'atto il suo busto svelto e pieno apparve stupendamente modellato dalla camicia e dal corsetto di velluto rosso e Melchiorre alle amare angosce che lo tormentavano sentì mescersi l'ostruggente desiderio di quel corpo flessuoso che tante volte aveva sentito palpitare fra le sue braccia chi adesso li divideva chi gli impediva di saltare al di là del tronco e di correre a sentire ancora col dolce abbandono antico il lieto cuore di pasca palpitare contro il suo e la fresca bocca di lei ridere contro le sue labbra chi li aveva divisi quella gente ridicola e sciocca che si aggirava intorno al fuoco come le farfalle attorno al lume egli si sentiva la forza e il coraggio di passare attraverso tutta quella gente e di urtarla spingerla gettarla sulla fiamma e farne un fuoco alto alla cui luce resta al soli lui e pasca e rivolgersi a lei urlando e adesso racconta la storia della gallina disse il fisio tirando le sottane della ragazza no quella del gallo gridarono i monelli quella della gallina che aveva fatto l'uovo no quella del gallo che non aveva fatto l'uovo chi 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 no disse pasca dominando il chiasso con la sua bella voce sonora racconterò la storia del magro che voleva dire del mago no quella del grasso quella del grasso si ricominciò a ridere a fischiare un ragazzo batteva una fronda sul fuoco e la fiamma percossa si divideva sollevandosi ed abbassandosi rossa sanguinante la scena cangiavasi in tregenda le figure apparivano e sparivano fra sprazzi di luce sanguigna e i portici e gli intercolonni del bosco si sprofondavano in antri misteriosi e in caverne scure pasca cominciò la fiamma dicono che una volta c'era un ragazzo chiamato Antone Edu disse la caustica voce del padrone no non così ma Melchiorre gridò una voce vibrante Melchiorre vibrò assieme con la voce che pronunziava il suo nome chi lo pronunziava chi lo derideva chi lo provocava la voce era come salita dal suolo e per quanto guardasse Melchiorre non riuscì a distinguere il suo provocatore ebbe sì Melchiorre disse pasca guardandosi attorno con uno sguardo di sfida egli un giorno andò a portare legna dal monte oh come non era un pastore chiese la voce vibrante ma che pastore d'Egitto era un ragazzo un contadino e incontrò zia Orca dunque quando incontrò zia Orca il ragazzo si spaventò sfido io come era fatta l'Orca domandò sommessamente Fisio che ascoltava stringendosi alle gambe della ragazza denti ne portava altro che denti aveva spiedi per denti e le ciglia così lunghe che se le rialzava con due stanghe povero Melchior il cuore mi dice che in questa storia si parla di chiavi disse la voce nasale il flauto suonava sempre dove vai agnellino mio domandò zia Orca se vieni con me e mi vendi questa legna ti do un canestro pieno di pane che per quanto ne togli resta sempre pieno il ragazzo che aveva sempre fame si lasciò tentare e le andò dietro curvo sotto il fascio di legna zia Orca trottava avanti spazzando il terreno con le ciglia finiscila tu con questa fronda che il diavolo ti metta a fumicare non vedi che mi viene tutto il fumo in viso gridò Pasca chiudendo gli occhi e torcendo la testa il fumo va verso le belle e le giuste disse il padrone giuste in direzione del fumo osservò la voce vibrante e il flauto suonava sempre una nota acuta e lamentosa che saliva saliva fra gli alberi oscuri sperdendosi in alto nel vuoto infinito del cielo nero Melchiorre guardava e ascoltava ma vedeva rosso e sentiva come un rombo lontano qualcuno afferrò il ragazzo che batteva la fronda sul fuoco e lo spinse lontano la fiamma si riunì corta e violacea e il fumo salì dritto come una colonna nera Pasca riprese la sua storiella dunque zia orca trottava avanti spazzando il terreno con le sue ciglia e cammina cammina dicono che arrivò a casa sua prese il ragazzo e lo chiuse dentro una cassa voleva farlo ingrassare per poi mangiarselo ma lui ogni giorno quando l'orca gli diceva di mostrare il mignolo per un buccherellino mostrava la coda d'un topo che aveva trovato dentro la cassa ma e come mangiava domandò piano piano il fisio tirando la sottana di Pasca e l'orca non poteva vederlo quando apriva la cassa lasciami stare non lo so dunque quando mostrava la coda del topo dicono che zia orca vedendo che non ingrassava mai lo tirò fuori dalla cassa e lo mise a fare il servo dicono che gli consegnò cento e una chiave il padrone cominciò a ridere di un riso nasale rumoroso l'ho detto io che c'entravano chiavi la finisca lei signor padrone dunque gli consegnò cento e una chiave e gli disse vedi queste cento e una chiave apri tutte le porte che s'aprono con queste cento chiavi ma guai se apri quella che s'apre con quella cento e una che cosa s'apriva con quella cento e una gridarono da ogni parte e ricominciarono a fischiare a ridere a dire impertinenze e peggio oh povero Melchiorre povero disgraziato Melchiorre socchiuse gli occhi per fissar meglio Pasca e gli parve di vederla arrossire forse perché arrossiva lui e sentì la gola stretta da un'ira feroce contro coloro che credendolo lontano vigliacamente lo sbefeggiavano e contro Pasca che tanto permetteva non la finisci la tua stupida storia gemeva fra sé te la farò finire io stanotte scimmia rana vipera dunque dicono che il ragazzo pigliò le chiavi e non apriva mai quella porta però pensava sempre a quello che doveva esserci da dentro e di giorno in giorno cresceva la sua curiosità un giorno non seppe resistere e aprì ma fuggì via inorridito perché vide la camera piena di cristiani rosicchiati dall'orca in fondo c'era un diavoletto che pestava le ossa entro un mortaio di pietra diavolo disse il giovine in maniche di camicia le utilizzavano anche l'avranno poi venduta questa polvere per mischiarla allo zucchero e alla farina dei maccheroni il piccolo Efisi aprì le labbra ma non poté parlare non meno inorridito del giovane servo dell'orca il flauto suonava sempre dunque quando il ragazzo fuggì inorridito il diavoletto fece la spia a zia orca dicendoli come il servetto era penetrato nella stanza zia orca allora prese il ragazzo e voleva ucciderlo poi lo lasciò vivo a questo patto che ogni notte le cuocesse per cena un cristiano e come fare il ragazzo ma come lo voleva allo spiedo lessato alte gamme pasca oh pasca cotto cotto semplicemente cotto come lei e la gridò destando nuove risate il ragazzo non sapeva come fare pensatelo voi preparare ogni notte la cena con un cristiano dopo averlo anche ammazzato non è cosa molto facile tanto più per un ragazzo zia orca se ne andò fuori dicendo guai se non trovo la cena pronta e l'altro a piangere a piangere veniva la notte intanto le stelle spuntavano cosa c'entrano le stelle ma proprio cosa c'entrano le stelle quando viene la notte di sella ironica il cielo sembrava un vaglio così tutto buccherellato di stelle originalissimo paragone infatti era notte e il ragazzo non sapeva come fare quando si sente il rumore sarà stato il rumore del mortaio no era un uomo che passava cantando cosa fa il ragazzo prende una stanga e si mette in agguato dietro un albero qui Pasca fece pausa quasi per indicare l'ansiosa attesa del ragazzo appiattato sudiva intorno solo l'incessante fischio del flauto per cui l'ironica voce nasale domandò ma dimmi un po' Pasca il malcapitato che passava cantava o suonava suonava vero si suonava suonava il flauto rispose la voce vibrante sta attento dietro l'albero Melchiorre Melchiorre si tirò istintivamente indietro impassibile il suonatore raddoppiò le note acute che si slanciavano su come razzi dunque quando l'uomo passò il ragazzo balzò fuori e gli ruppe la stanga sulla testa l'altro cadde a terra morto bel colpo non c'è male per un ragazzo di quell'età ma già abitando con chi abitava l'altro cessò di cantare sfido anche un suonatore avrebbe smesso di suonare cessò di cantare allora il ragazzo tutt'allegro bella allegria si vede che zia Orca gli dava una buona educazione da delinquente che ne dice cavaliere tutt'allegro cominciò a tirare a tirare proseguì Pasca stringendo i denti e facendo atto di chi con grave sforzo trascinò un peso col bianco visino spaurito e fisio sempre aggrappato alle sottane di lei ne seguiva con gli occhi spalancati tutti i movimenti delle mani e della bocca gli pareva di vedere il ragazzo a trascinare l'uomo morto per metterlo a cuocere e il suo terrore aumentava anche il cagnolino posato con le zampine anteriori tese in avanti sollevava la testa fissando su Pasca gli occhietti rosastri entro cui il riflesso del fuoco accendeva una favilla d'oro dunque tira che ti tiro il ragazzo riuscì a trascinare dentro l'uomo che cantava cioè che non cantava più accese il fuoco mise su un gran paiuolo colmo d'acqua e gettò dentro l'uomo morto con le vesti e con tutto vero e anche le scarpe bel brodo doveva riuscire non aveva bisogno d'altro condimento quando zia orca tornò trovò la cena pronta mangiò tutta contenta e poi andarono a letto ma ecco sul più bello dun dun alla porta chi è il re era la moglie dell'uomo morto che veniva coi carabinieri per vedere se era stata l'orca ad ammazzare il viandante l'orca prese gli avanzi della cena forse le scarpe cotte ma non abbastanza per essere masticate vero gli avanzi della cena e li gettò in un profondo pozzo nero poi gettò lì un caprone poi aprì la porta entrò tutta la giustizia entrò la donna che piangeva e si tirava i capelli guardarono dappertutto e non trovarono nulla e le cento è una stanza perché la perquisizione non fu regolare forse l'orca aveva protettori fra i giustizieri anche allora la giustizia non funzionava molto bene per i farabutti disse la voce nasale col malcelato dispetto già celei scusi cavaliere prego basta non trovando nulla stavano per andarsene quando la donna uscita nel cortile gridò è questo pozzo in questo pozzo guardate è vero disse il pretore e comandò ai soldati di scendere nel pozzo ma nessuno obbedì lo dicevo io che si andava male allora presero il ragazzo gli legarono una corda alla vita e lo costrinsero a scendere nel pozzo quando fu sceso gli gridarono che c'è e gli rispose un cadavere la donna allora cominciò a piangere a piangere a strapparsi i capelli e le vesti ad urlare ne aveva ben ragione poveretta allora il pretore gridò al ragazzo di dire i connotati della vittima e il ragazzo gridò alla donna tuo marito quanti occhi aveva mio marito aveva due occhi anche questo ne ha due tuo marito quante orecchie aveva mio marito aveva due orecchie anche questo ne ha due tuo marito quanti nasi aveva mio marito aveva un naso anche questo ne ha uno tuo marito quanti piedi aveva mio marito aveva due piedi e questo ne ha quattro tuo marito vello aveva mio marito vello non aveva e questo è il vello tuo marito corna aveva tutta la giustizia cominciò a ridere a ridere il pretore si gettò pancia a terra per non scoppiare anche gli ascoltatori della graziosa narratrice fecero ecco alle risate delle poco serie e poco accorte autorità della storiella i monelli ora ascoltavano attenti sporgendo i visi rossi fra i rami oscuri all'improvviso scoppiò il riso degli astanti il cagnolino abbaiò volgendo qua e là la testina ed Efisio ebbe un pallido sorriso sul visetto smorto solo il suonatore rimase impassibile e le note del suo strumento continuarono a salire come zampilli cristallini su per il cielo nero pasca riprese mio marito corna non ne aveva cominciò a gridare la donna imprecando e battendosi i pugni sul volto mio marito non ne aveva corna tu le avrai non mio marito le avrai tu e questo le corna le risate raddoppiarono la voce vibrante e disse sfacciato quel Melchiorre povero Melchiorre che stupido pasca di rose levalo fuori dal pozzo pasca e rosas affogalo se lo merita e la capì le allusioni e ridendo e gettando un po' indietro la testa in modo che si vedeva la sua bianca gola gonfiata dal riso disse sfacciatamente l'ho già affogato allora Melchiorre credette di impazzire gli parve di saltare al di là del tronco di piombare sul fuoco e di scottarsi una mano aveva schiaffeggiato a sangue la bella pasqua aveva percorso lo spazio che le divideva e le era balzato addosso prima che alcuno degli astanti sorpresi si muovesse ella si portò le mani al viso tirandosi indietro e gridando aiuto aiuto e il bambino anziché abbandonarla parve volesse difenderla agitando le piccole mani e gridando anche lui aiuto aiuto belchiorre si vide circondato da volti feroci e sentì sulle spalle grossi pugni che risuonavano sul duro cuoio della sua giacca vigliacco miserabile bestia infame pasca si mise a piangere di dolore e di terrore il bambino cominciò anche lui a strillare mentre il cagnolino abbaiava ferocemente facendo atto di slanciarsi nella mischia senza usarlo figliacchi siete voi gridò melchiorre con voce rauca divincolandosi lasciatemi andare altrimenti stanotte finite male il divertimento ma scalzone un poderoso pugno gli cadde come una pietra sulla nuca egli si divincolò furioso con gli occhi splendenti con uno slancio felino si gettò ancora su pasca e la schiaffeggiò con violenza poi ebbe di nuovo l'impressione d'un salto d'una fuga pazza e si trovò fra le rocce al di là della radura la sua persona vibrava tutta le orecchie gli ardevano le labbra frementi pronunziavano vituperi d'imprecazioni provavano spasimo senza nome avrebbe voluto gittarsi per terra morder le pietre sbattere la fronte al suolo spaccarsela e morire nell'oscurità che lo circondava distinse la massa nera del bosco e gli pareva di vedere ancora uno barlume del fuoco si sentiva ancora lo strillo del bimbo l'abbaiare del cagnolino e il singulto spezzato di pasca ma il flauto maledetto taceva ed egli si rimise a correre fra il monotono sussurro del vento che ogni altro rumore dominava vecchio vecchio della montagna di grazia da ledda capitolo quarto grande e sanguigno il sole sorgeva dal mare lontano quando squillò il campanello della messa tutto taceva nell'alpinitida frescura del mattino sotto il cielo puro e chiaro qualche donna vagava qua e là sonnata e silenziosa e nelle capannucce di frasche odoranti le caffettiere gorgogliavano e saltellavano sulle brage il secondo squillo di campanello risuonò come un piccolo nitrito metallico vibrò impaziente fuori dalla chiesa e si spense fra gli alberi il sole pendeva ancora sul mare incendiandolo con la sua luminosità di fuoco le porticine delle stanze le cumbessies addossate alla chiesa si spalancarono e nel vano apparvero figure assonnate di bimbi di ragazzi e di giovanotti al terzo squillo di campanello tutti entrarono in chiesa di nuovo un gran silenzio regnò al di fuori sotto il bosco rischiarato dal sole senza raggi e sulla spianata dove le pietre scintillavano di rugiale zio pietro venne di là dal bosco umido e brillante scese dalle rocce come una deità montana cieca e forte come le pietre solenne e mite come gli elci eretti al puro cielo del mattino aveva lasciato il berretto di volpe il cerchio nero della berretta sarda stringeva i suoi capelli argentei lo guidava basilio che se lo traeva dietro trascinandolo un po' ridendo curvando la testa alla ricerca di lembi di suolo meno pietrosi giunti a mezzo della radura zio pietro alzò il bastone e tenendolo in avanti disse siamo vicini vero ho sentito il campanello siamo vicini ma io non ho sentito nulla ci avete buone orecchie voi si vede nessuno si vede si vede disse basilio sollevando la testa e guardando qua e là si vede un cagnolino nero oh che bellino te 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 ridò scoccando le dita verso la bestiola che rispose abbaiando e dimanando la coda ritta ma senza avanzarsi non ti ho chiesto se si vedono cagnolini neri ti ho chiesto se si vedono cristiani nessuno zio pietro nessuno ma dopo qualche passo basilio socchiuse gli occhi rise fra sé e disse con malizia che rasentava la malignità e e zio pre si vede pasca il vecchio ebbe un lieve tremore fra le sopracciglia ma tosto disse severo bugiardo tu non la conosci neppure bada che non sono venuto per scherzare con te tira avanti la sorte ti tiri non ho scherzato zio pree mi passo proprio di vederla è piccola non è vero ha il volto rose o lucente gli occhi neri lucenti non è vero e due grandi sopracciglia nere come ale di corvo non è vero era là dietro quel cagnolino e quando ci ha visto è scappata tira avanti non è vero gridò il vecchio basilio guardava il cagnolino e gli rivolgeva continui ceni di richiamo quindi non badava più al suolo e il vecchio sebbene tastasse il terreno col bastone inciampava sovente la messa è cominciata non si sente più il campanello tira avanti scimunito e lascia stare quel cane non si vede nessuno neppure una gamba di cristiano vivo oh com'è bellino quel cane ha un collare d'oro e una campanella sentite zio pietro drin 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 te bellino te piccolo te sorcio se fossi stato solo lo avrei rubato bravo e stiamo per entrare in chiesa che male c'è l'avrei messo con la lepre pare impossibile che tu sia così il ragazzo esclamò zio pietro pure dopo un momento domandò dove l'hai lasciata chi la lepre oh disse il servetto ricordando la bestiola nascosta nel cavo d'un elce l'ho lasciata in un luogo dove nessuno neppure le fate possono trovarla lo so io solo dove dove se ve lo dico lo sapete voi pure e qualche giorno me la rubate ve la arrostite e poi dite che è scappata non c'è pericolo esclamò zio pietro tristemente intanto si accorse che erano giunti perché dopo una piccola salita stendendo il bastone aveva toccato un muro e col suo odorato finissimo sentiva il profumo del caffè bollente che usciva dalle capannucce di frasche il cagnolino ci viene dretro ma non vuole avvicinarsi disse basilio volgendosi ogni tanto bau 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 drin 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 perché non ti avvicini marrano vieni qui che ti faccio la festa datemi il bastone zio pre il cagnolino irritato dalle smorfie e dalle grida di basilio abbaiava forte e il piccolo e fisio uscì correndo da una capanna leone qui leone leone qui leone imitò basilio è tuo quel cane ragazzino sì è mio e non è tuo ruido e fisio inviterito se alzi la voce gli do tante bastonate che gli faccio cacciare le viscere per gli occhi e finiscila finiscila moniva zio pietro e fisio mostrò la lingua e basilio gli fece le corna e non contento di ciò appena ebbe condotto il vecchio in chiesa tornò fuori per continuare a insolentire contro il ragazzetto zio pietro si trovò solo inginocchiato per terra col braccio sinistro appoggiato al sedile lungo la parete la poca gente che assisteva alla messa si volse a guardarlo egli lo sentì e provò una tristezza uno smarrimento profondo il cuore gli batteva forte ma il volto roseo sollevato verso l'altare illuminato dalla luce della porta rimaneva sereno dove era Pasca? era in chiesa egli aveva sperato che ella nel vederlo sarebbe corsa a salutarlo ignorava lo scandalo della notte scorsa e veniva a insaputa di Melchiorre per visitare ancora una volta la Madonna ed anche per tentare un colloquio con Pasca ma Pasca non veniva e il cuore del vecchio si calmò e il suo pensiero si sollevò tutto alla piccola signora il cui rose o visino lucente pareva assorto nella contemplazione di una cresta azzurra di monte e di una cima delce che si disegnavano sullo sfondo della porta le donne salmodiavano con voce monotona e la loro cantilena aveva tutta la melanconica dolcezza dei sussurri notturni del bosco zio Pietro ricordava rievocate da quella cantilena altre messe ascoltate lassù in tempi lontani e rivedeva i luminosi sfondi delle porte le donne curve sotto la porpora dei loro corsetti di scarlatto e più su qualche testa nuda di paesano dai lunghi capelli unti raccolti in treccioline lucenti al chiarore dei cieli e il lento sacerdote che andava e veniva con le mani sollevate con la tunica di un equivoco candore tanto rialzata dietro da lasciar vedere l'orlo dei calzoni neri dopo le litanie le donne intonarono i gozos cambiando tono ma sempre con cadenza monotona e nostalgica zio pietro sentì un leggero brivido alla nuca e un'onda di tenerezza di ricordi di rimpianti gli coprì il cuore appoggiò le mani al bastone si sollevò sedette e la sua voce sonora sunì alla cantilena popolare e i versi che gli cantava gli ridiscendevano sul cuore con ineffabile dolcezza implorano sde su monte reina s'eterna vita il ritornello veniva ripetuto due volte le voci infantili sacquivano diventavano piccoli gridi rauchi poi all'improvviso si fece silenzio e zio pietro tornò a inginocchiarsi per la benedizione coi gomiti appoggiati al sedile nascose il volto fra le mani e attese e ricominciò a turbarsi sentì la gente andarsene i ragazzi e gli uomini scendere i gradini dell'altare ma nessuno si avvicinava a lui nessuno gli badava ella dunque non c'era attese ancora finché la chiesetta non rimase deserta sentì la voce rauca di una vecchia che usciva ultima e il lievissimo passo di un bimbo scalzo che attraversava ricorsa la chiesa poi più nulla allora si accorse che anche basilio lo aveva abbandonato e sentì una grave tristezza un doloroso senso di umiliazione le labbra continuavano a pregare ma l'anima era fredda e vuota come la vecchia chiesa e la preghiera vi si smarriva tristemente sentì basilio rientrare in punta dei piedi avvicinarglisi alle spalle e toccarlo al braccio zio pietro volete che andiamo non c'è più nessuno e tu dovevi io qui zio pietro non è vero sei bugiardo anche in chiesa non è ascoltato la santa messa inginocchia subito gli prese la mano lo fece inginocchiare e nel sentirlo sospirare e pregare fervorosamente a bassa voce gli accorgi do il suo perdono zio pietro che bei fiori sull'altare sono veri mi lasciate andare a vederli il vecchio pensò che basilio poteva far anche a meno del suo permesso e quindi crede bene di darglielo va pure e non toccare nulla ma dopo averlo sentito salire a passi a passi leggeri ed elastici i gradini dell'altare fu colpito da un tintinnio di vasi mossi e rovesciati immediatamente basilio fu di nuovo al suo fianco che hai fatto hai toccato nulla nulla zio pietro andiamo adesso se lo tirò dietro e uscirono pasca stava un po' curva sull'apertura ad una capannuccia quando vide la rigida figura dello zio presa dalla paura di un nuovo incontro con Melchiorre ella non era discesa in città per le proviste ma era stata alla fonte in buona compagnia e non aveva assistito alla messa né ancora veduto zio pietro e nel vederlo si sarebbe volentieri eclissata se basilio fissandola intensamente non l'avesse riconosciuta agli indizi se i pasca carta le domandò maliziosamente scuotendo la mano del vecchio nella sua quasi per dirle non riconosci quest'uomo non lo inviti ad entrare pasca uscì dalla capanna se zio pietro non fosse stato cieco né in valia di un monellaccio ella dopo lo scandalo della notte prima si sarebbe creduta in diritto di voltargli le spalle ma poiché egli era la più debole e infelice delle creature non poteva negargli il saluto e lo salutò infatti con un amichevole cenno di testa siete qui zio pietro sono qui e tu dovevi non eri a messa non c'ero ero alla fonte e non mi avanzava molto tempo per andare in chiesa era ironica e inquieta con le piccole mani rosse s'allargava sui fianchi il grembiule di percalle nero a fiori gialli e mille parole amare le salivano le labbra e il desiderio di sfogare tutta la sua ira e il suo dolore ingiuriando il povero vecchio la vinceva ma che pro che colpa aveva lui che poteva farle forse era venuta per chiederle pace e perdono e in fondo ella sentiva vergogna perché la sola presenza del vecchio era per lei un mutuo rimprove e poi c'era basilio che la guardava ostinatamente sorridendo con malizia seguendo con sguardo curioso ogni suo movimento e i padroni fattisi sull'uscio della stanzetta osservava si volse a loro e disse con voce rispettosa e amara questo è mio zio pietro poveretto il padre di quel miserabile che ieri notte mi ha percorso chi ti ha percorso ma il chiorre gridò il vecchio e per il dolore e la sorpresa sollevò le palpebre lasciando scorgere il bianco rossastro degli occhi spingi basilio spalancò la bocca e cessò di sorridere non lo sapete dunque strillò pasqua continuando a slargarsi il grembiule e volgendosi ora verso il zio pietro ora verso i padroni la signora era piccola e rossa in visa quanto suo marito era grosso e pallido narrò la storia metà in sardo metà in italiano curvando in ultimo le spalle come se i poderosi pugni di mecchiorre stessero lì pronti a atterrarla ancora e mio figlio ha fatto questo e mio figlio ha fatto questo ripeteva zio pietro con le mani l'una sull'altra appoggiate al bastone e il volto umilmente abbassato la barba gli copriva fin la cintura di cuoio dalla quale pendeva l'acciarino in forma in forma di piccola scura e vostro figlio ha fatto questo zio pietro e vostro figlio ha fatto questo contro sua cugina contro l'orfana di padre e di madre e forse si prepara a far altro perché già lo so egli vuol bere il mio sangue dopo che mi ha calugnata e vi li pesa in mille modi ma parola che gli do io e si posava una mano sul petto qualcuno gli troncherà le gambe quando meno egli pensa o non mi chiamerò più pasca carta pasca pasca cominciò il vecchio ma pasca anziché lasciarlo proseguire si mise a piangere strillò fra i singhiozzi pasca pasca che già lo so cosa volete dirmi zio pietro so tutto tutto so ma volete che mi lasci ammazzare da lui lo sto forse molestando io perché non mi lascia tranquilla dite buon uomo disse la signora poiché molti curiosi si avvicinavano venite qui dentro un momentino aiutalo pasca il marito le fece gli occhiacci ma la buona signora mormorò poveretto e atteso il vecchio sulla porta l'aiutò ad avanzarsi e lo fece sedere su una panca basilio gli sedette a fianco e torcendo il collo cominciò a guardarsi intorno curiosamente una tenda turchina divideva l'ambiente in due parti nascondendo i letti da campo rizzati in fondo alla stanza tetto di canne penetravano fili di sole che descrivevano macchie sul pavimento rosamente acciottolato soli mobili la panca ove sedevano qualche seggiola una cassa di legno giallo un tavolino ingombro di vassoi di bottiglie e di calici che brillavano alla viva luce della finestruola sullo sfondo di questa si vedeva il bosco verde sul cielo azzurro un piccolo specchio rifletteva di fronte un pezzo di quel luminoso paesaggio l'aria fresca che veniva dal bosco dava alla tenda un movimento di onda turchina a basilio pareva di trovarsi in un magnifico salone e ne provava un piacere infantile i suoi occhi andavano dal radioso sfondo dello specchio al prisma di una bottiglia di menta che alla luce sembrava un'anfora di smeraldo di cui ogni sfaccettatura sprezzava scintille e non sapeva quale più intensa delle due possibili gioie o sentir scendere per la gola il filo denso della verde bevanda o accorsarsi allo specchio e vederci si riflesso meglio che nella tremula superficie della fontana e Pasca era lì accanto fresca e bella come una rosa spiando i discorsi di zio Pietro e del figlio Basilio aveva tante volte pensato a lei dominato a poco poco da una potente curiosità di conoscere adesso ella era lì quel grembiule a fiori che le disegnava il puro arco dei fianchi era lì a testa nuda con le piccole mani fragranti di caffè egli non aveva mai veduto una donna più bella di così e la sua curiosità appagata e la speranza di bere il liquore e di guardarsi nello specchio lo rendevano di momento in momento ebbero di felicità dimenticava la lepre che lo attendeva nel cavo muscoso le capre abbandonate il padrone lontano zio Pietro che gli stava a fianco tutto ciò che vedeva compreso il volto rosso della signora e il viso giallo e la minacciosa barba nera del signore gli sembrava bello e non gli dava soggezione come dovevano esser felici là dentro coi dolci nascosti nella cassa e i liquori e i vini anche Pasca nonostante la batosta di zio Melchiorre e le lagrimette versate doveva essere molto felice ella intanto proseguiva i suoi lamenti resa più ardita dal doloroso e umile silenzio di zio Pietro egli la ascoltava sempre a capocchino e con le mani aperte appoggiate sul bastone sentiva lo sguardo dei signori fissarlo e non poteva protestare né parlare assorto più che nel racconto di Pasca nel ricordo dell'angoscia provata la notte prima durante l'assenza di Melchiorre dunque non s'era ingannato prevedendo Sciagura e forse non si ingannava neppure adesso tremando alle minacce di Pasca la voce nasale del padrone incitava alla vendetta la serva con frasi beffarde che poteva dire il vecchio come osare di parlare a Pasca in presenza di quel padrone rude e beffardo che la difendeva in quel modo tu hai ragione provò a dire ma tu sai come è mio figlio il dolore inasprisce figlia mia e devi compatire devi essere prudente devi perdonare egli l'ha fatto per troppo amore perché ti vuol bene ancora bell'amore zio mio bell'amore amore di bestie feroci io non voglio né il suo amore né il suo odio non so cosa farmi né dell'uno né dell'altro vuol piangermi dopo avermi ammazzata forse lasciatemi stare la testa zio mio queste non sono cose da dirsi Pasca fallo per amore mio sii prudente per questo povero vecchio che ha perduto la luce del giorno siamo nati tutti per morire e all'altra vita ci portiamo solo le buone opere il perdono delle offese il compatimento l'amore del prossimo ma buon uomo perché queste cose non le dite a vostro figlio domandò l'ironica voce del padrone si perché non le dite a vostro figlio zio mio la signora vide a russire il vecchio e ne ebbe pietà rivolta al marito e a Pasca disse via finitela porta da bere qualche cosa a questo vecchio abitate sempre nel bosco buon uomo sempre anche d'inverno anche d'inverno ma d'inverno ci deve essere molto freddo quassù e molta nebbia non importa che vita ella disse con pietà ma il marito era un magistrato e fissando gli occhietti neri lucenti sul volto di zio Pietro si ritrovava le stigmate della delinquenza sebbene sapesse che il vecchio era sempre stato un galantuomo quante ne avrà fatte costui in vita sua ma se ha sfuggito la umana giustizia non sfugge la divina cranio d'olicocefalo volto prognato angolo facciale imperfettissimo e quel muso di volpe lì accanto delinquente informazione di specie pericolosissima microcefalo con fronte depressa l'alba e il tramonto del delitto razza maledetta di dove sei tu domandò a basilio di oliena rispose sorridendo il giovinetto quanti anni hai non so diciotto credo non si direbbe ti piace il vino non ne vedo mai ma vedendone ti piacerebbe sicuro e a chi non piace il vino pasca vino gridò il padrone basilio si pentì della sua risposta no no disse però la signora è troppo presto per il vino cosa volete buon vecchio un po' di caffè e liquore e pasca servì la menta versandola lentamente nei caloci rose e fioriti d'oro mentre zio pietro sorbiva a poco a poco il liquore basilio vuotò avidamente in un sorso il suo calice arrovesciando la testa all'indietro chiudendo gli occhi per l'intenso godimento che frescura e che dolcezza sul palato e sulla lingua che cosa buona dio mio aveva l'irritante volutà del vento di primavera e del profumo intorno alla fontana basilio avrebbe voluto battersi un pugno sul petto per il piacere ma rimesso appena il calice sul vassoio di cristallo sentì la bocca ardergli come una volta che aveva masticato pepe e arrossì e fece una smorfia a un tratto apparvero la gracile figura di efisio e il musetto del cagnolino questo abbaiò e non volle entrare il ragazzetto spalancò gli occhi e andò a possi silenzioso accanto al padre basilio ebbe paura del visetto pallido e dei piccoli occhi che lo fissavano con odio andiamo zio pietro disse toccando il braccio al vecchio andiamo rispose pietro scuotendosi dal suo doloroso avvilimento e se ne andarono tristi ed umili senza aver ottenuto da pasca una buona parola zio pietro pensava che dirà il chiorre se saprà che mi sono avvilito al punto di venirla a cercare al punto di entrare da quei signori e di bere e di parlare con loro ogni cosa è perduta se egli non sarà prudente si perderà e che sarà di noi e mentre attraversavano la radura accompagnati dalle grida dei bimbi e dal santellante anelito del flauto zio pietro benché sentisse sul viso il tepore del sole e nella mano la mano di basilio provò di nuovo un terrore mortale e gli parve di essere in mezzo a un bosco tenebroso abbandonato da tutti affrettarono il passo per paura che Melchiorre fosse già ritornato ma solo il cane vigilava le capre dall'alto di una roccia e vedendoli volse la testa ma non si mosse il gatto invece che aveva fame venne fuori dalla mangiatoia con i baffi impigliati in una ragnatela e alcuni fuscelli di paglia tra il pelo arruffato e si sfregò sbadigliando sui piedi di zio pietro poi lo precedette a piccoli passi facendolo ogni tanto inciampare basilio si assicurò che nessuno era venuto in loro assenza contò le capre che pascolavano tranquillamente sui dirupi brucando i cespugli ancora lucenti di rugiada e appena potè scese a cercare la lepre nel cavo del tronco pensava con insistenza a pasca al bimbo al cagnolino dal collare d'oro ricordava con ammirazione la prima con odio il secondo e desiderava con stizza il cagnolino o almeno il collare e nell'irritante profumo umido del bosco sentiva ancora il gusto della menta e una fiamma di passione gli ardeva negli occhi ma tornò di botto alla solita realtà e dimenticò ogni altra cosa quando nel cavo del tronco donde sbucavano frettolose e grosse termiti nere non trovò la lepre si curvò a guardare di qua e di là stupito e addolorato frugò entro il cavo e trovò solo un pezzo della corvicella rosicchiata allora cominciò a imprecare a commentare il fatto ad alta voce curvandosi strisciando pancia a terra sotto le macchie rotolando le pietre guardando su e giù senza trovare la lepre e pareva domesticata che il diavolo da domestiche animale scellerato ma che l'abbiano rubata chi l'ha rubata dove sei tu ladro esci fuori che ti piglio a schiaffi e a pedate così si tocca la roba altrui ladro se egli dunque riusciva a rubare il cagnolino o almeno il collare il bimbo gialliccio dagli occhietti che sembravano due foglioline di pervinca avrebbe provato il dispiacere che provava lui e quell'altra cosa che aveva in tasca la trasse fuori era una rosa di carta esageratamente grande e scarlatta ne accomodò un po' l'indice le foglie sgualcite e la ficò in un cespuglio allontanandosi nel vederne l'effetto sul verde cinerio e vellutato del tasso barbasso la rosa parve un grosso papavero ma nell'affanno per la scomparsa della lepre basilio non pote godere a lungo il piacere di ammirare l'improvvisa fioritura del cespuglio e lasciò la rosa e tornò all'ansiosa ricerca allontanandosi man mano dal tronco vuoto nulla in nessun posto dovevano aver rubato la lepre forse perché Dio voleva castigarlo di aver preso una rosa dall'altare ma che prendere una rosa di carta era altra cosa che rubare una lepre animale vile chi sei tu che hai toccato la roba mia diceva stringendo i pugni e i denti perché l'hai toccata altro bene tu non abbi esci fuori esci fuori se hai fegato esci fuori fuori rispose Lecco ed egli trasalì poco dopo si udì il fischio di Melchiorre che lo chiamava a colazione e salì mogio mogio silenzioso curvo guardando per terra con occhi affascinati dimenticò la rosa nel cespuglio cos'hai gli chiese il padrone ma hanno rubato la lepre la lepre ti hanno rubato allora avranno rubato anche altre cose ti sei allontanato vuol dire sarà fuggita disse zio pietro trepidando e volse il viso verso basilio come per supplicarlo di tacere sarà fuggita sì Melchiorre si accosse che c'era qualcosa di nuovo e guardò il padre guardò basilio poi fissò lontano lo sguardo cupo e tacque sul tardi dopo che le capre furono abbeverate vide sul pallido cespuglio del tasso barbasso battuto dal sole la rosa fiammeggiante una macchia di sangue cristiano non gli avrebbe causato più ribrezze e stupore si curvò tolse la rosa fra il dito medio e l'anulare in modo che gli rimanesse aperta sulla palma della mano e l'esaminò a lungo fischiando intanto per chiamar basilio ancora in cerca della lepre quando lo vide venire incrociò rapidamente le mani sul dorso nascondendo la rosa e attese fermo nel sole con gli occhi lucidi e chiari come quelli del falco irato solo il campanaccio di una capra arrampicata su un tronco delce di cui brucava le fronde selvagge risuonava nel silenzio della fine hai ritrovato la tua lepre gridò mechiorre no vuol dire dunque che te l'hanno rubata non lo so ah non lo sai ma lo so io volpe di nido e so che questa mattina hai lasciato le capre sole dove sei stato parla e di la verità altrimenti te la faccio uscire di corpo assieme con l'anima ma zio melchiorre io non sono andato in nessun posto che possiate vedermi con questi occhi fuori chi allora è venuto qui chi voglio saperlo subito i signori del monte forse nessuno zio melchiorre nessuno sull'anima mia che non mi rivediate più scimmiotto malnato gridò allora melchiorre lanciandoglisi sopra ti do io le bugie e le imprecazioni e i giuramenti e questa rosa chi l'ha messa qui chi l'ha messa la vedi o non la vedi viso di forca gli sbatté sul volto la rosa e gli tirò forte le orecchie scuotendolo violentemente basilio non l'aveva mai veduto così inferocito ebbe paura e disse ogni cosa dopo tutto da zio pietro non aveva nulla da temere melchiorre ascoltava come stupidito e gli pareva di sognare uno dei brutti sogni della notte prima e mentre a basilio le orecchie ardevano per la stretta delle sue dita le sue si imporporavano e pulsavano di ira e di vergogna e mio padre ha fatto questo proruppe battendosi le mani sulle ginocchia e ha fatto questo oh gesù oh gesù ma è matto dunque quel vecchio e ha fatto questo gridava più forte parlando a se stesso ma non è possibile e questo scimmiotto mentisce mentisce e lui si è umiliato e ha parlato con quella e ha bevuto e si è seduto in casa di quella gente oh gesù oh gesù che accade di me in che pozzo profondo sono caduto mi vogliono perdere mi vogliono assassinare aspetta aspetta ah corvi ah volpi che mi divorate le viscere si incamminò correndo con la rosa in mano e basilio dietro spaurito e ansante pensava l'ho fatta ora vada a ammazzare suo padre poi ammazza me e ci getta in qualche grotta profonda che non ci vedono più san lussorio bello aiutatemi più della paura poteva però in lui la curiosità e correva dietro al padrone non per dare in tutti i casi aiuto al vecchio ma per vedere e ascoltare perché infine non capiva ancora bene che razza di storia c'era fra i padroni e pasca solo a frammenti aveva sorpreso il loro colloquio intorno alla ragazza ed ora voleva sapere voleva conoscere ogni cosa ma nella corsa Melchiorre parve calmarsi alquanto giunto presso la siepe dell'orto si fermò si volse lo attese e gli disse basilio per quanto hai carravita adesso che conosci quella baldracca va e torna e cerca di parlare a quattro occhi e le dici così e non cambiare neanche una parola altrimenti ti cambio gli occhi da un'occhiata all'altra le dici così mi manda Melchiorre carta tuo cugino e ti comanda di andartene capisci di andartene entro la giornata di oggi di tornare a nuoro di non provocarlo oltre perché altrimenti hai finito lo spasso non altro ma dille così come le dirai le dirò mi manda Melchiorre carta tuo cugino e ti comanda di andartene entro la giornata di oggi di tornare a nuoro di non provocarlo oltre perché altrimenti hai finito lo spasso va bene aggiungi questo che non creda sia stato io a mandar quel vecchio da lei e dai suoi padroni che il diavolo li scortichi che non ho paura di nessuno che dei suoi padroni me ne infischio altamente e che con lei non abbiamo ancora aggiustato i conti ora va corri Basilio si incamminò a malincuore provava tuttavia un certo piacere al pensiero di rivedere Pasca e di aver forse sotto mano il cagnolino ma non aveva fatto un centinaio di passi che il padrone lo richiamò cosa volete ancora oh di non alzar la voce bada che anche con te abbiamo da aggiustare i conti prendi questa e rimettila dove l'hai presa cercatemi la lepre raccomandò il mandriano prendendo al volo la rosa dite un credo a Sant'Antonio per ritrovarla Melchiorre andò in cerca del padre zio Pietro curvo davanti alla capanna si pettinava con uno sdentato pettinino di legno giallo i capelli divisi sulla nuca da una larga scriminatura tirati in avanti sul collo lucevano al sole e un fazzoletto turchiniccio che egli aveva steso sugli omeri biancheggiava di porfora Melchiorre stette a guardare un po' e non sapeva come cominciare che dire che Basilio aveva tradito il segreto e perché dare questo dolore al vecchio che costretto a passare tante ore solo col mandriano riponeva in questi tutta la sua fiducia dirgli di aver appreso il fatto da persone solite ad ascoltarla messa nella chiesetta ma non poteva Basilio che gli aveva riferito ogni cosa fare altrettanto col vecchio e questo cui ripugnava soprattutto la menzogna sarebbe poi entrato in diffidenza con entrambi stando Melchiorre in questi pensieri zio Pietro finì di pettinarsi rigettò indietro sulla nuca i riccioli dei suoi capelli bianchi e levandosi dalle spalle il fazzoletto lo scosse al suolo più volte con un lembo poi pulì il pettino tra i cui denti erano rimasti molti peli candidi e disse Melchiorre guarda un po' questo fazzoletto se c'è qualche cosa Melchiorre prese il fazzoletto lo guardò attentamente da una parte dall'altra ed esaminò bene le spalle gli omeri e il collo di zio Pietro ma per fortuna non trovo l'uno siete pulito come loro disse e intanto pensava che dirgli perché affliggerlo poveretto è vecchio è debole come quel pezzetto di legno su con cui si è pulito la testa ma è utile ancora come il vecchio pettine se gli stamattina si è mosso l'ha fatto a scopo di bene e l'umiliazione ricevuta gli parrà un castigo tacque dunque e ritornò verso le capre ma cominciò a seguire Basilio col pensiero agitato da un'anziosa inquietudine con le sue agili gambe di cerbiato a quell'ora il mandriano doveva essere giunto alla chiesa forse incontrava Pasca al pozzo e già le riferiva la poco benigna ambasciata e forse ella ne rideva con quel suo riso di uccellino canoro seppure aveva voglia di ridere dopo la lezione della notte scorsa ripensando la sua avventura a Melchiorre si stupiva del suo ardire e del modo con cui si era facilmente scampato e sentiva ancora la sua giacca di cuoio risuonare per le percosse e le morbide guance di Pasca ardere sotto il dosso della sua mano e imprecava e sogginiava mentre senza averne la precisa coscienza cercava la lepre frugando e scuotendo i cespugli con un bastone e mormorando a fior di labbro io credo in Dio Padre Onnipotente Basilio ritornò all'ora del pranzo e domandò subito della lepre ma la lepre non era stata trovata ho recitato una cinquantina di credo disse Melchiorre e ho perduto tutta la mattinata che vi disperda un turbine te e la tua lepre non uscirà più al mio cospetto ma se esce in verità che ha finito lo spasso anche se disse Basilio ridendo il padrone lo fisso torvo accennandogli di tacere poiché c'era zio Pietro e Basilio cominciò a muoverle le mani e le labbra e chiuse maliziosamente un occhio per far capire che la sua missione era riuscita bene o pranzo mentre il vecchio faceva la siesta sotto l'elce e la solita macchia di sole gli percorreva lentamente tutta la persona Melchiorre e Basilio confabularono davanti alla capanna il cane e il gatto dormivano assieme il cavallo ruminava sotto la corta ombra dell'elce e dal mare salivano lentamente nuvole argente che si fermavano sul cielo come una scalinata luminosa quando sono arrivato raccontò Basilio ho sentito che ridevano e giocavano sotto gli alberi mi avvicinai ma essa non c'era perché naturalmente i padroni non le permettono di divertirsi sin dalla mattina c'erano signori e signore che giocavano alle carte altri erano sdraiati su cuscini e piccoli materassi stesi al suolo e dicevano mille sciocchezze uno si dondolava entro una rete legata a due alberi basta va avanti cosa mi importa di tutto questo no sentite una cosa curiosa quello che stava nella rete prese un fuscello e lo gettò sul collo di una di quelle signore che giocavano questa prese un sassolino e lo gettò a uno di quelli che stavano sdraiati così cominciò una guerricciola segreta di fuscelli e sassolini già disse nel chiorre con disprezzo hanno bel tempo coloro è la stessa storia del fazzoletto di iersera ma grido poi cosa mi importa di tutto questo no sentite sentite che matti dopo i sassolini e i fuscelli si sono lanciati le carte i cappelli e poi manate di fieno e di foglie e poi cuscini e poi materassi e ridevano ridevano tanto che molte si gettavano a pancia a terra per non scoppiare e tutti coperti di polvere e di foglie sette si rotolavano al suolo e le donne scappavano gridando allora io vidi quel ragazzino col quale come vi dissi ci siamo bisticciati e per evitarlo passai dall'altra parte della chiesa subito cosa vedo pasca a testa nuda con le maniche rimboccate all'aperto davanti a una capanna di rami e che disse vedendoti non mi vide subito perché chiacchierava e rideva con un giovinotto che fumava appoggiato al muro e che le diceva molte cose allegre cosa le diceva com'era bassotto secco con la barba in color coda di volte e le orecchie grandi le orecchie non so non ci ho badato e lui quello che suonava maledetto boia deve essere il suo preferito quell'animale rossiccio almeno per chi almeno per chi mi fa girare la scatola e cosa diceva non lo so ma doveva dire cose allegre perché essa era lieta e ridente egli però maligno mi vide subito e strizzò gli occhi per accennarle di non parlare forte allora ella si volse e mi vide siete ancora qui mi gridò no dico io sono ritornato perché ho trovato questo fiore che deve essere della chiesa e voglio rimetterlo anzi vieni che mi aiuti forse ella capì che avevo da parlarle fatto sta che mise la testa contro la porta della stanzetta disse qualche cosa alla padrona disse all'amante ritorno subito e mi seguì quando fumo entro la chiesa io subito le dissi il fiore è una scusa sono venuto perché mi manda mechiorre carta tuo cugino e ti dice di andartene oggi da qui di ritornare immediatamente a nuoro di non provocarlo oltre che altrimenti hai finito lo spasso e lei e lei morta le si è fatto il viso bianco come la tele e non ebbe il coraggio di rispondere una parola e tu e tu e io aggiunsi e di non credere che sia stato lui a mandare quel povero vecchio ad umiliarsi davanti a te che egli non ha paura né di te né dei tuoi padroni che dei tuoi padroni se ne infischi altamente e che con te i conti non li ha ancora aggiustati va bene bravo e lei poi zitta come una chiocciola allora io le lascio il fiore e me la svigno ma da lontano spiando la vedo uscire tornare presso il giovinotto e mettersi a gesticolare a far croci e mille altri gesti doveva raccontargli il fatto lo racconti pure lo racconti le assicuro io che non lo racconterà tutto ora stiamo a vedere cosa fa io dico che non obbedirà non obbedirà lo dici tu scimiotto chi la difenderà quella faccia di volpe forse quello lì gridò basilio con disprezzo sputtando sopra una pietra quello non è buono a sollevare un dito e aggiunse quasi parlando fra sé è brutto come un cane essa è bella come una rosa come mai può guardare quegli uomini lì lo vedi proruppe nel chiorre per centomila diavoli almeno avesse guardato un uomo bello io non lo scambierei col mio scarpone e il padrone hai visto il padrone un otre col viso che sembra un lievito disse basilio ridendo ma un'ombra gli velava i degli occhi e per l'inquietudine di ciò che poteva capitargli dopo la sua pericolosa ambasciata a Pasca provava un'insolita oppressione contro la gente del monte e contro se stesso se la prese con le capre aizzandole caricandole di improperi di nomi vituperosi rincorrendole facendole saltare e cozzare l'una contro l'altra poi si rimise a cercare la lepre correndo qua e là nel sole del pomeriggio curvandosi a guardare con un sol occhio entro le frane mettendo la testa fra i cespugli strisciando sul muschio i cui fili verdi gli rimanevano fra i capelli e sulle vestie nulla nulla Melchiorre zappava nell'orto e rigava i piccoli solchi tutto era pace e serenità davanti a quel solenne orizzonte ove la scalinata di nuvole s'era stesa assottigliandosi in lunghe striscelate che sul fondo azzurro del cielo davano l'illusione di onde spumanti zio Pietro seduto sull'apertura della capanna tagliava col suo affilato coltello grossi gambi di ferula per formarne uno sgabello curva la testa quasi gli occhi seguissero l'opera delle mani pareva che sotto la sua fronte serena solo tranquilli pensieri ondeggiassero quietamente come le bianche nuvole dell'orizzonte il sole calava sui boschi vibravano le campanelle delle capre i gridi selvaggi di basilio i richiami delle gazze il rumore della zappa null'altro udivasi neppure il solito mormorar della selva perché la quiete pomeridiana era così profonda che non si muovevano neanche le estreme foglioline tenere dei rami giovani né le campanelle di corallo dei fiorellini pendenti dai fagioli dell'orto la montagna intera pareva assopita in un sogno di pace in faccia al mare e le tre povere creature dispersi in quella profonda solitudine parevano anch'esse vinte dal sogno mentre nei loro cuori turbinava la passione al cadere della notte mentre curvo sul focolare basilio soffiava sul fuoco un animaletto con una lunga coda passò rapidamente davanti alla capanna oh la lepre la lepre sarà il gatto no è la lepre aveva la cordicella è uscita ora che ha fame si diedero a cercarla e siccome le capre facevano un insolito chiasso entro la mandria basilio vi si cacciò dentro e velchiorre fece lume con una fronda accesa all'incerta luce giallastra le capre si strinsero l'una contro l'altra in modo che su una massa grigiastra apparve una fitta si e paglia di corna nere e in un angolo della mandria basilio ritrovò la lepre accucciata con le orecchie basse gli occhi spalancati e il cuoricino palpitante per fame e per paura nonostante le minacce nessuno osò castigarla anzi il suo ritorno farve dare un po' d'allegria ai pastori l'indomani all'alba padrone e servo munsero le capre che erano già pregne e davano poco latte belchiorre le afferrava ad una ad una cacciandosele fra le gambe e curvo remeva con le forti dita le mammelle grigie e nere seduto sui calcagni basilio reggeva il paiolino di rame lucente alla luce dell'alba e il latte gocciolava denso e fumante mentre i belati delle capre tremolavano nel lucido silenzio dell'ora come un pianto di bimbi abbandonati nel bosco dal mare saliva l'aurora aranciata e i gridi delle gazze attraversavano l'aria quieta più tardi melchiorre partì sul suo cavallino attraverso i sentieri umidi di rugiada a nuoro smontò nel vicinato di santussula davanti a una casetta d'apparenza meno miserabile delle altre dove abitava una donnicciola benestante avara che per pochi soldi si incaricava di vendergli il latte e gli faceva il pane e gli lavava e rattoppava le vesti la viuzza era deserta alcune galline giallastre e nere correvano silenziose lasciando l'impronta delle zampe sulla polvere e acchiappando a volo qualche mosca sulla facciata di granito della casetta s'aprivano due finestre di legno rosso con un piccolo vetro nel mezzo la porta d'entrata dava in un cortiletto aperto quasi tutto occupato dal babizzone bizzarro riparo composto di quattro grossi tronchi che ne sostenevano altri sui quali si ammucchiava una grande quantità di legna da albero questa forte tettoia serviva di riparo al bestiame da tiro quando si doveva farlo per nottare in città Melchiorre legò il cavallo ad uno dei tronchi levò dalla bisaccia il recipiente del latte entrò nella vasta cucina alle cui pareti colori di terra e al tetto di canna il fumo aveva dato uno smalto nero brillante zia caterina più conosciuta col nomignolo di zia bisaccia forse perché donna che sapeva riporre bene le cose sue vuotò il latte in una pentola di creta rossa la coprì con un piatto contenente piccole misure di latta versò un po' d'acqua nel recipiente e mentre lo scuoteva in ogni verso per ben risciacquarlo domandò e così dunque come va quella storia quale storia che volevi ammazzare tua cugina al monte avanti di sera oh lasciatemi stare la testa gridò Melchiorre facendo un molinello sui tacchi zia bisaccia uscì nel cortile e vuoto l'acqua bianchiccia poi rientrò col recipiente capovolto e gocciolante e fissò Melchiorre senza parlare anche lui la fissò era una donna di media statura ma agile e svelta come una gatta di gatta aveva gli occhi obliquini d'un grigio chiarissimo quasi bianchi maliziosi e acutti sotto le corte palpebre rossaste il suo viso maschio bianco molle e rugoso pareva quello d'un vecchietto sbarbato e non esprimeva mai nulla ma gli occhi chiari e fissi e la continua mimica e repieta di due enormi mani nodose facevano di lei una donna temibile e talvolta anche terribile lo sapevano lo sapevano lo sapevano bene i suoi creditori i suoi dipendenti i suoi servi ella era assai benestante e quei risparmi e le usure aumentavano ogni anno il patrimonio e soprattutto i figlioli dei quali tre erano in carcere condannati per furto e il marito pastore che appunto per paura di lei ritornava solo ogni tre mesi dall'ovile uno dei pochi a cui ella non incuteva paura era Melchiorre egli anzi riusciva talvolta ad avere su di lei un certo dominio e così quella mattina la lasciò lungamente e aspramente commentare il fatto della battosta data a Pasca poi le chiese ma a voi dopo tutto cosa vi importa non è vero che io come voi affermate volevo ammazzarmi né ha persi il coltello né presi il fucile volevo solamente darle una piccola lezione ma domandò poi sapete qualche cosa è ancora lassù o è ritornata a nuoro cosa ne so io cosa ne so io gridò zia bisaccia agittando le dita so solamente che tu ti stai rovinando Melchiorre Carta a me non importa nei fatti tuoi ma se tu vieni ad aver dei guai io non voglio seccature in casa mia io ti vendo il latte ti lavo e ti rattoppo e tu mi paghi e va bene non è che io abbia bisogno della tua miseria tu sei bene che la mia casa è piena come un uovo che in casa mia c'è pane e contava con la destra le dita della sinistra in casa mia vino in casa mia formaggio in casa mia lana in casa mia olio in casa mia lardo in casa mia accidenti completò Melchiorre che asseguiva con gli occhi i movimenti di quelle grosse ditta livide infine io non ho bisogno del tuo latte di campo questo volevo dire e voglio vivere tranquilla e se per caso tu caschi in mano della giustizia io non voglio che vengano a seccarmi in casa mia quasi che non sappiate cosa sia la giustizia disse l'altro ironicamente accennando ai tre figli detenuti appunto perché lo so appunto perché mi basta il mio di grattacapo del resto non è per volerti male che ti dico come vanno le cose le chiorre ma bada bene bada bene e lo minacciava col dito tanto che egli cominciò a provare un vago senso di inquietudine forse zia bisaccia sapeva qualche cosa pasca minacciava di perseguitarlo con l'aiuto dei suoi damerini e dei suoi padroni ella poteva fargli del male benché l'ora si facesse tarda egli si indugiò per sapere qualche cosa ma venivano donne e bimbe e zia bisaccia chiacchierava e gridava misurando e vendendo il latte con attenzione ed anche con frode melchiorre osservava e un momento che si trovaron soli disse ma voi ci guadagnate assai zia caterina sembra che misurate il vostro sangue guadagno un corno ti sei piantato qui per osservarmi stamattina vattene perché ho da uscire e poi devo recarmi in conciliazione dove ho da sbrigare quindici citazioni perché non fate andare vostro marito non vi vergognate ad andar voi andare io vergognarmi e perché maledetto il peccato vergogna è per chi ci va debitore non creditore come ci vado io mio marito mio marito così sia buono a mangiare come è buono a fare il fatto suo gli uomini siete tante bestie lanose vattene vattene non siete buoni a nulla a picchiare le donne solamente a rincorrerle a maltrattarle a volerle ammazzare come l'amico ma chi vi ha raccontato queste sciocchezze voglio saperlo voglio voi sapete qualche cosa e dovete dirmela subito io non so nulla se non che sono queste le vergogne di un uomo che invece di fare il fatto suo va dietro una ragazza così così come se nella vita non ci siano ben più gravi affari da sbrigare e poi vieni a dirmi che è vergogna andare dal conciliatore perché non mi pagano l'orzo il frumento l'olio e la lana venduti o prestati con l'interesse del 200% con le zucche con quel che mi pare e piace io li sfamo in inverno che il diavolo li sfami e poi in estate mi negano il fatto mio punciosi mennicanti non saranno certo tutti che vi pagheranno disse l'altro e la traeva su quell'argomento sapendo di farle piacere per rabbonirla e trarle il segreto e la rise come fra sé senza muovere un muscolo del viso sicura ed ironica ho buoni pegni io se non pagano ho pegni e cambiali perché non devono pagarmi non è forse il fatto mio che richiedo e i miei figli non hanno diritto di campare ma tre non sono al servizio del re non li campo a lui temo che debba entrarci tu pure fra poco al servizio del re e l'annunziò staccando da un chiodo una sottana d'orbace grigio orlata di scarlatto lingua mia mi si di secchi aggiunse indossandola e allacciandosi così il corsetto ma vedrai nel chiorre carta se seguiti di questo passo e ci andrai tu pure fra poco al servizio del re chiuse l'uscio che dava sulla scaletta chiuse la finestruola coprì il fuoco con la cellula nel chiorre le andava dietro inquieto e triste e mentre ella stava a curva sul focolare insistè supplichevoli voi sapete qualche cosa ditemelo zia Caterina ditemelo bisogna chi è venuto qui chi vi ha parlato di me dite dite io non so nulla io ho nulla dio ce ne scampi i liberi io non c'entro vattene che si fa tardi si incamminò e Melchiorre preso il recipiente del latte continuò ad andarle appresso sempre supplicandola e incalzandola di domande ma non ottenne che evasivi dio ci scampi i liberi e gesti fatti come per scacciare ogni sorta di tentazione e nel mentre che egli ricacciava entro la bisaccia il recipiente la donna chiuse a doppio giro la porta e se ne andò svelta e frettolosa coi grigi gheroni della sottana ondeggianti e come orlati di sangue egli rimontò a cavallo comprò vino in una bettola e si riprese la via della montagna una cupa tristezza un'inquietudine vaga lo salirono egli non era mai stato manesco né violento né ladro nessuno l'aveva quindi mai molestato doveva perdere la sua fama d'onestuomo la sua pace e la sua piccola fortuna per correre dietro uno sciocco amore mascherato d'odio gli schiaffi dati a pasca gli sembravano cosa da niente oh che un amante abbandonato non può bastonare la sua bella no io non ho paura disse fra sé stringendo i pugni sull'arcione e sollevando gli occhi verso le rupi dell'ortobene paura di chi dei padroni e dei vagheggini di pasca essi uniti tutti assieme contro uno potevano battere qualche pugno sul cuoio della sua mastrucca e gridargli vile con voce tremante ma che altro potevano fargli non accusarlo ai giudici perché egli non aveva mai né rubato né ucciso né detto il falso che doveva dunque temere nulla eppure la sua inquietudine non cessava si sentì debole davanti a una forza oppunta e paventava misteriosi insidie nascoste come una invisibile rete d'aguato tra le foglie sparse del bosco un sentimento d'argano timore simile a quello che zio Pietro provava nelle ore di solitudine l'opprimera i suoi occhi di faico distinguevano foglia per foglia gli elci e le macchie i sassolini del sentiero le scintille nere del granito ma è al di là è dove l'occhio non giungeva che c'era dietro gli alberi dietro le macchie fra i crepacci delle rupi venissero fuori i nemici occulti si mostrassero alla luce ed egli non avrebbe paura di loro gli puntassero il fucile in pieno petto ed egli non si smarrirebbe ma temeva l'insidia l'ombra il laccio la soltile rete del tradimento e ricordava le parole di suo padre l'uccello può salire fino alle nubi ma basta un po' di rischio per imprigionarlo avvicinandosi all'ovile cercò di scuotersi e di sorridere di quel suo stolto terrore ma col grido delle gazze gli giungeva come l'eco insistente della voce di zia Bisaccia e una triste luce si faceva nel suo pensiero si capiva pasca voleva liberarsi di lui e gli tramava qualche insidia con l'aiuto dei suoi adoratori ella poteva farlo cacciare in prigione come un volgare malfattore e la vista di suo padre che al solito stava in attese sorrideva nel sentire il passo del cavallo a cui la sua tristezza il vecchio s'avanzava nella radura e il gatto e il cane gli venivano ai fianchi Melchiorre trasse dalla bisaccia la zucca gialla incisa levò con due dita il tappo e la posse al Gio Pietro bevete padre ho portato del vino Gio Pietro l'ha prese fra le mani e accostandola alle labbra rovesciò lentamente la testa all'indietro il sole gli battè sul viso sul petto sui candidi riccioli della gola bevete bevete incalzava Melchiorre e lo guardava con tenerezza una tenerezza così triste e amara che pareva dispetto si accorgeva che se un sentimento simile alla paura lo aveva avvilito dopo le oscure parole di zia di saccia era per quel vecchio dagli occhi morti che vedeva con gli occhi del figlio e viveva della vita della libertà e del lavoro del figlio oh se non era per lui pensò morsicandosi i pugni zio Pietro beveva lunghi sorsi e il vino spandeva una calda serenità entro il suo vecchio cuore si tolse di bocca la zucca e col viso ancora sollevato e le labbra bagnate e rosse di vino la restituì a Melchiorre il signore ti ricompensi figlio mio allora anche Melchiorre bevette con rabbia con avidità si bisognava dimenticare ma andare giù in così i sorsi amari della gelosia e delle offese per lui per quel povero vecchio e dopo averla vuotata scaraventò la zucca contro una pietra come avrebbe voluto fare con i suoi nemici i rimanenti giorni d'agosto passarono sedini e tranquilli fermo nel suo proposito Melchiorre si acquetò nella rassegnazione amara di chi tutto ha perduto e continuò nelle solite occupazioni scendendo all'alba in città per portarvi il latte sempre più scarso e denso coltivando l'orto ove e pomodori corporavano tagliando fronde alle capre vagando in silenzio per il bosco zio Pietro proseguì a intagliare e inchiodare arnesi di ferula a preparare i pasti con gli erbaggi dell'orto a spazzare le mandrie a ricordare da pregare davanti a quell'orizzonte sul quale egli non vedeva salire in lente spide i primi vapori cineri che annunziavano l'agonia dell'estate nella pace dell'ovile solo basilio sembrava a un tratto preso da una misteriosa sofferenza la febbre gli serpeggiava nel sangue dandogli un malessere nervoso che a volte lo faceva correre ridere saltare e gridare dietro le capre a volte lo gettava in un cupo torpore da cui nulla valeva a scuoterlo pareva stordito dal caldo e in vero gli ultimi giorni d'agosto furono affosi e snervanti non una foglia si muoveva e le rocce ardevano come blocchi di cenere e di braccia eppure in certe ore di invincibile languore basilio si sdraiava al sole come un gatto lungo disteso tra il fieno giallo e si assopiva in un'acre ebrezza di calore il bosco taceva tacevano le campanelle delle capre meriggianti il cielo era quasi fosco per i caldi vapori che salivano dal mare in quelle ore di immobilità ardente le foglie degli elci avevano bagliori d'acciaio brunito l'orizzonte sembrava coperto di cenere azzurrognola e le erbe bionde così molli e lucenti nei dì sereni pungevano come fili metallici basilio si levava affranto indolenzito con la voce rauca e la mente pervasa da visioni febbrili dopo il folle buon umore del mattino verso sera diventava poltrone taciturno e cupo e se il padrone lo sgridava egli imprecava e talvolta scoppiava a piangere poi di notte aveva freddo si accucciava accanto al fuoco e batteva i denti col volto cenerognolo e gli occhi smarriti e nel sonno agitato mormorava continuamente strane parole cosa diavolo hai gli domandava Melchiorre guardandolo fisso tu sei malato e non vuoi dirlo dove hai male parla qui rispose basilio curvandosi e toccandosi il collo del piede e rise ma nel suo riso forzato che non aveva più la freschezza infantile di pochi giorni prima era la conferma alle supposizioni del padrone lì ah benissimo allora hai qualche grillo per il capo a che pensi se ti ammali quassù e muori in verità mia ti lascerò divorare dai corvi basilio alzò le spalle con stoica indifferenza mentre i suoi occhi si velavano di ombra lasciatemi pure ai corvi o ai cani come vi piace tanto cosa ci faccio io nel mondo e gli altri cosa ci fanno gridò zio pietro Melchiorre che invidiava la spensierata adolescenza di basilio lo guardava stupito anche quello era dunque scontento chi dunque poteva essere contento gli altri gli altri ma quali altri disse basilio con sprezzante franchezza voi credete che perché voi siete così gli altri non si divertano vedete i signori del monte che il diavolo rapisca che fanno quelli giocano ridono mangiano bene dormono meglio suonano la chitarra ballano cantano fanno all'amore con tutte la sua voce vibrante di invidia e quasi dodio e cheggiava nell'anima di Melchiorre anche tu basilio ma tosto si pentì del suo grido perché zio pietro volse il viso verso di lui e parlò rispondendo in apparenza al mandriano ma in realtà a tutti e due i signori cosa credi che siano i signori uomini come noi e credi che siano contenti un corno oi oi ragazzo perché te lo fai dire siamo tutti nati per soffrire per portare la nostra croce al posto di quei signori che ti sembrano felici se tu sapessi cosa bolle nella loro pentola tu non ti ci vorresti neppure morto dietro i loro giochi c'è un mostro che li divora sono deboli e malati di corpo e vili e miseri d'anima sono pieni di debiti di cure d'ansie e il loro riso è come il tinnio argentino di un piatto già rotto e che pur sembra nuovo fanno all'amore con tutte ma non amano e non sono amati da nessuna donna come potrai esserlo tu se lavorerai e ti procurerai onestamente un ovile e un branco di capre suonano suonano ah figli del cuor mio suonano come ronza la mosca in autunno quando sta per morire e a te chi ti impedisce di suonare va nella valle taglia le canne tenere e fa un paio di launeddas come pastore del campidano la tua musica sarà sempre migliore di quella della chitarra dei signori mangiano e dormono e tu forse non mangi e non dormi perché non mangi cose buone ma sai tu che quelli le cose buone le digeriscono assai peggio che tu il pane d'orzo samatta siat prena siate de pazza o siate d'arena purché sia pulita l'anima è vero cominciò me il chiorio bah cominciate ora voi un'altra predica disse basilio seccato e se ne andò fischiando più che tutte le prediche dei padroni gli fece bene il permesso di scendere una mattina a nuoro nel cortiletto di zia bisaccia invece che al solito posto legò il cavallo ad un palo intorno al quale si attortigliava un'esile pianta di vite e prima di partire staccò una manata di foglie che si ficcò in tasca per portarle alla lepre anche il cavallo allungò un po' troppo il collo annusò la vite e ne strappò con i lunghi denti gialli qualche foglia mai ciò fosse accaduto zia bisaccia si slanciò urlando nel cortile percosse la bestia ed ebbe un fiero battibecco con basilio che dovette saltare a cavallo con una violenta scarica di insulti di minacce e di ficche lo vedi il villano malvenuto dal suo paese al diavolo chi t'ha portato qui asino cialtrone bestia tru 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 lasciami venire qui il tuo padrone che aggiusteremo i conti lo vedi che vieni in casa mia a rovinarmi sentito lo hai in casa mia sto meglio di quello che sta tua madre nella sua buca e non voglio seccature se non fosse perché non hai che il cielo da vedere la terra da calcare ti citerei per i danni la vedremo trus l'asino trus basilio era sparito nonostante i vituperi di zia bisaccia si sentiva lieto e leggero come un uccello mentre il cavallino spaventato dalle percosse e dalle grida della donna trottava rapido e con le orecchie erette il mattino era di afano e azzurro invece di tornare direttamente all'ovile basilio andò sul monte e cercò pasca nonostante le sue conquiste i suoi trionfi e le alte protezioni di cui godeva ella viveva d'ansia e di paure scorgendo il mandriano cambiò colore ma gli si mostrò ironicamente benevola e di laggiù chiese accennando col mento verso l'ovile altra minaccia hai da comunicarmi pare così disse gli facendo il coraggioso se non fai attenzione vedrai cosa ti accadrà agnella mia e cosa ma accadrà agnello mio l'altro giorno hai fatto presto ad andartene e non hai atteso la mia risposta qual era questo solamente sputtò e passò il piede sulla saliva basilio seguì con gli occhi l'atto di lei poi la guardò fisso e sorriso eppure quel giorno non avevo voglia di scherzare così bella mia e adesso ho fretta e se è tardo egli mi massacra altrimenti ti direi qualche parolino di 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 incalzò pasca più paurosa che curiosa non posso indugiare adesso aspetta aspetta ella lo tratteneva per il braccio ed egli rabbrividiva di piacere al contatto di lei ma a un tratto si divincolò quasi sofferente per tanta gioia e fuggì rosso in viso gridandole da lontano tornerò domani domani torniamo tutti a nuoro non mi troverai più vieni stasera rispose pasca basilio non rispose ma il cuore gli batteva forte saltò sul cavallino e fuggì attraverso la radura e quel giorno egli fu allegro e spensierato come prima erano grida risate fischi belati che si sperdevano nell'aria pura del bosco a colazione raccontò ridendo la storia di zia bisaccia che voleva citarlo per le foglie strappate alla vite pascolo abusivo quella donna deve avere in corpo lo spirito del male va al diavolo matacque dell'incontro con pasca e per tutta l'ora della siesta invece di assopirsi morbosamente come nei giorni passati sdraiato pancia a terra con le punte dei piedi e i gomiti fissi al suolo il mento sulle mani intrecciate e scogitò il modo di tornare segretamente da lei l'idea di rivederla gli dava un piacere ardente la vampa di sole che gli batteva sul dorso e sulle rene gli ricordava il contatto con lei non sapeva come avrebbe fatto per andare ma sapeva che a tutti i costi sarebbe andato a un tratto si alzò e assicuratosi che nessuno lo vedeva afferrò per le corna una giovane capra nera che meriggiava alla corta ombra di un cespuglio la fece alzare e se la trascinò dietro riluttante parlandole dolcemente per convincerla a seguirlo con docilità vieni 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 con me fior di pervinca vieni che non è poi per ammazzarti cammini o non cammini bella mia andiamo caprettina andiamo che è il portarti dove ti porterò io non è poi un colpo d'archibugio sardo che ti trapassi il cuoricino vieni resterai là solo fino a stanotte si laggiù ti butterò fronde e siepe e non creperai vieni vieni fior di pervinca è necessario che tu venga allo ogni tanto si volgeva scrutando lecchine deserte anche la capretta torceva il capo belando ma nessuna delle sue compagne già lontane rispondeva così la povera fior di pervinca si trovò in fondo a uno specco ombreggiato da foltice spuglio imprigionata fra grosse pietre che basilio fece rotolare dall'alto come aveva promesso egli buttò poi fronde delce emanate di fieno e rimase finché la capretta cessò di belare poi si allontanò di corsa le capre miriggiavano tranquille nessuno si era accorto della sua presenza e solo sul tardi al declinare del sole egli fece sapere al padrone che fior di pervinca mancava va a cercarla disse Mecchiorre dopo essersi assicurato della verità e se non la riconduci non ricomparirmi davanti poltronaccio acidioso egli se ne andò allegramente verso la chiesetta all'uscire del bosco vide il sole senza raggi e vermiglio come un enorme melagrana cadere lentamente dietro l'infuocata catena delle montagne sul cielo che pareva insanguinato tutto era rosso i boschi che tacevano le rocce simili a enormi bracci le felci e le erbe e in quel gran silenzio in quella intensa luce di incendio basilio rivide pasca il cui viso pareva smaltato di rosa e gli occhi pieni di fosforescenze ella doveva aspettarlo perché l'accolse con un sorriso malizioso ora c'è la novena la diciamo presto stasera perché noi andiamo ad accendere l'ultimo falò sul monte bidde vieni alla novena agnello mio sì poi verrai a monte bidde sì egli rispondeva sempre sì era possibile rispondere altrimenti alla bella pasca e se riferivano al padrone d'averlo veduto a chiacchierare con lei a seguirne i passi ma il padrone era lontano ed egli in quel momento non pensava che al piacere di star vicino a pasca il campanello per la novena squillava chiamando insistendo vibrando basilio seguì la donna come il cagnolino dal collare lucente che non destava più i suoi desideri infantili seguiva il padroncino di lei entrato nella chiesetta si fece il segno della croce e non sapendo altro recitò alcune preghiere popolari apprese nella sua infanzia Deo misinno sa rughe sa vera rughe sa rughe vera sa madalena santo francisco santo filippo santo joanne morte mai non mi inganne né a die né a notte fin a sora essa morte fin a sora essa fine sanghe l'usera fine sanghe l'ubianco in nome desu babbu desu vizu e desu spiritu santo poi sollevando gli occhi alla madonna col cuore pieno di tenerezza recitò fervidamente frisca sezzi scale rosa frisca sezzi scale lizu mamma desu santo figlio mamma desu vizu santo la novena finì tardi perché essendo l'ultimo giorno oltre le solite preghiere il sacerdote recitò con voce alta e cadenzata una lunga e monotona invocazione pregando pace ai defunti devoti della madonna felicità e prosperità ai vivi vittoria contro le eresie conversione degli infedeli gloria al sommo pontefice e alla santa chiesa cattolica vittoria degli angeli contro i demoni sanghelo serafine sanghelo bianco in nome desu babbu desu fizi ed esi spiritu santo mormorava basilio fervidamente e pregava per il papa per la conversione dei turchi per la vittoria degli angeli i ginocchi gli facevano male pungendolo i legacci delle ghette e il suo pensiero cominciava a volgersi con inquietudine verso l'ovile verso lo specco ove fiordi per vinca doveva gemere lamentosi belati ma pasca era lassù inginocchiata sui gradini dell'altare la testa reclinata da un lato con civeteria corsetto di velluto color sangue di drago rosseggiante al luminoso crepuscolo essa pregava e basilio pregava essa non si muoveva e basilio non poteva muoversi essa fu l'ultima a uscire e basilio dietro di lei l'orizzonte aveva preso una calda tinta violetta venata di rosso e in quel melanconico velo di viola la luna nuova calava rossa come un doppio corno di corallo quel giorno doveva essere stato ardentissimo nel piano se tanti caldi vapori si adunavano sull'orizzonte ma sull'ortobene sebbene il bosco taccesse immobile nel silenzio rosso della sera l'aria aveva solo un tepore gradevole una ineffabile pace di sogno e in quella pace e in quel sogno attraverso il bosco e le rocce che sembravano assorte nella contemplazione dei grandi orizzonti e del nove lunio vermiglio la gente se ne andò ad accendere l'ultimo falò sulle creste d'onde si scorgeva a nuoro lontana le voci vibravano con cadenze flautate i gridi dei bimbi parevano pigolì d'uccelli tutti trascinavano rami sterpi fronde i fanciulli salivano sulle rocce scendevano saltavano risalivano apparivano neri sullo sfondo rosastro del cielo basilio veniva dietro serio con gli occhi spalancati stupito di trovarsi fra quella gente allegra e in quel luogo la sua inquietudine aumentava pasca non badava a lui perché era venuto perché andava dietro quelle serve che ridevano quei signori che fischiavano quei fanciulli che saltavano sulle pietre e il padrone che la tendeva e la capretta che belava in fondo allo specco e perché pasca che se lo tirava dietro non sembrava neppure ricordarsi di lui giunto alle rupi di monte bidde un signore gli ordinò di accomodare i rami e le fronde che tutti gettavano una sull'altra e di attaccar fuoco sulle rocce i piccoli elci selvaggi sfumavano sul cielo cinereo sotto monte bidde i boschi scendevano compatti stendendo giù per le chine una cascata di verde e giù le valli dormivano nell'ombra nuoro biancheggiava nel crepuscolo ed altri borghi lontani apparivano come greggi dormenti né paesaggi cinere le montagne dell'orizzonte sergevano come un'immensa muraglia di bronzo su quell'ardore di cielo che verso est e nord si languidiva in vaporosità di perla il fuoco guizzò scopiettando un denso cirro di fumo roseo punteggiato di scintille d'oro s'alzò tortuoso poi s'abbassò e si sparpagliò sulla cascata del bosco la fiamma gettava sprazzi di luce rossa sulle rocce circostanti in piedi qua e là sulle rocce le figure dei villeggianti campeggiavano come statue sui piedestalli di granito il caglionilo nero fermo sulle esili zampette proprio sulla cima più alta abbagliava da lontano contro la fiamma e pasca attirò basilio dietro una sporgenza di rupe il chiacchierio delle donne le grida dei bimbi e degli uomini ritti presso il falò coprivano la loro voce ancora qui sei ella disse beffarda ti avevo perso di vista e se il padrone ti cerca non mi trova basilio la fissava arditamente esasperato dal dispetto e dall'inquietudine dunque chiacchieriamo cosa è cosa è che egli dice che ha detto quando ha saputo che le sue ingiunzioni e le sue minacce mi entrano in un orecchio e mi escono dall'altro di di parla ragazzino indispettito da quest'ultima parola basilio soghignò e perché vuoi saperlo se te entra in un orecchio e tescia dall'altro così per curiosità parla parla come ti chiami tu col mio nome lasciamo gli scherzi anima mia e la riprese facendosi seria ripetimi l'ambasciata dell'altro giorno ripeti quelle parole precise non ricordo via non far l'asino mi dicevi che se non me ne andavo subito subito avrebbe pensato lui a por fine i miei spassi è così o non è così è così perché domandi già che lo sai che cosa voleva dire con quelle parole che mi avrebbe ammazzata o non è vero che voleva dire così sicuro e allora perché non l'ha fatto vedi che gli spassi non li ho ancora finiti vedi stasera che bel divertimento ma basilio sporse il labbro inferiore con noi a strezzano non ti pare forse divertite altrettanto fra le vostre capre dunque parla ripeti le altre minacce parla parla che il diavolo ti porti via ragazzo straniero lo ferrò per le braccia lo scosse vigorosamente egli barcollò e fu per precipitare nell'abisso roccioso che sprofondavasi ai loro piedi non cadde perché pasca lo tenne dando in un leggero grido di spavento ma da quel momento egli precipitò in un abisso ben più profondo disse tutto ciò che ella gli fece dire sì Melchiorre minacciava sempre di ammazzarla di rapirla e di portarla legata all'ovile ove ne avrebbe fatto scempio lasciandola poi morire di nedia e precipitandola giù per i dirupi dove neppure le capre passavano e sono il suo sangue esclamò pasca con terrore il suo sangue sono i nostri padri erano figli di una stessa madre proprio fratelli cosa gli ho fatto io cosa facevate all'amore voi facevamo un corno e lui che si era messo in testa delle idee sciocche a cui io rispondevo no e no e no poi quando compì il ventun'anno del mese d'aprile gli dissi ora sono padrona di fare quel che mi pare e piace scostati e non molestarmi più che non voglio essere appestata dall'odore del siero l'odore del siero ripete basilio parlando a se stesso ella capì di averlo offeso e siccome le premeva tenerselo amico gli sorrise e aggiunse quando proviene da una bestia come il tuo padrone non è vero che sembra una bestia sembra una pecora bianca a cui il fango abbia ingiallito il vello e diglielo pure se vuoi diglielo tu parli così perché sai che io non gli dirò nulla c'è pastore e pastore e la osservò seguendo la sua idea ma egli non è neppure un pastore è animale sporco mentre ci sono pastori che valgono più dei signori in sopravvito basilio credette che la accennasse a lui e cominciò a tremare di piacere e diglielo pure da parte mia e digli che se egli vuol beversi il mio sangue io terrò forte finché potrò per riguardo a quel povero cieco ma che non stanchi troppo la mia pazienza perché allora metterò da parte ogni riguardo e già che lo vuole ci beveremo il sangue a vicenda io non gli dirò nulla ah non gli dirai nulla farai bene perché potrà poi pigliarsela con te è così matto ma non temere tu tu pure sta forte ragazzino c'è Pasca Carta che ti protegge e si toccava il petto con un dito e Pasca Carta ha chi la difende se io avessi voluto aggiunse abbassando la voce a quest'ora egli sarebbe in prigione come un grillo entro un tubo di canna e se continuo a molestarmi gli farò vedere chi è lui e chi sono io e non basteranno le corna dalle sue cento capre a liberarlo dal laccio in cui verrà avvinto Basilio non seppe che rispondere a tanta minaccia restò silenzioso con gli occhi fissi in lontananza triste e felice nello stesso tempo il falò andava spegnendosi e al suo rosso chiarore seguiva l'ultima luce violacea dell'orizzonte ma già l'ombra copriva i boschi e la luna era presso al tramonto basta sospirò Basilio scuotendosi io ora me ne vado voi aggiustatevi a me basteranno le grida e gli improperi con cui egli stasera mi coprirà ora me ne vado ma sospirò ancora e non si mosse vinto da una indistinta tristezza da un doloroso desiderio di non più tornare all'ovile e di restare lì su quella sporgenza di roccia ma di restarvi con Pasca finché tutta la gente se ne fosse andata e allora quando tutta la gente se ne fosse andata quando all'orizzonte si fosse spento quel misterioso chiarore di luna egli forse avrebbe sentito il coraggio e la forza di dire a Pasca cose mai prima dalle sue labbra pronunziate ella contava tre anni più di lui ma sembrava una ragazza quindicenne egli era tanto fanciullo ancora ma il suo cuore pulsava come quello di un uomo fatto e ogni palpito era un grido di passione quasi feroce io ho gettato la capretta in fondo allo specco per poterti venire a trovare e sarei pronto a commettere un delitto per te Pasca Pasca vuoi che ammazzi ad una ad una tutte le capre di Melchiorre vuoi che uccida lui vuoi che uccida il vecchio zio Pietro parla parla io mentirò io ucciderò io farò tutto quello che tu vorrai per amor tuo ma restiamo qui soli soli lascia andare questi signori che io odio perché preferiti da te restiamo soli restiamo soli Pasca occhi di stella e la gente cominciò ad andarsene ma avendo veduto i piccoli occhi del padrone rifugiere a poca distanza Pasca salto giù dalla sporgenza della roccia e Basilio si scosse dal suo sogno appassionato dal basso e la gli disse ci rivedremo a nuoro qualche volta se tu verrai a cercarmi verrai? non lo so e gli rispose sgarbatamente la seguì con gli occhi la vide saltarla svelta di pietra in pietra voltarsi per chiamare il cagnolino che le corse dietro e sparire nel crepuscolo e rimase solo udì le voce e le rise a perdersi lentamente nel bosco dietro le rocce nel rosso novilunio poi vide l'orizzonte diventare livido e poi nero come un focolare spento allora tornò all'ovile triste e avvilitto dalla capanna ove era acceso il fuoco usciva un buon odore d'arrosto e al di fuori nell'ombra rotta dal barlume dall'apertura basilio vide pendere un corpo rossiccio con le zampe spezzate era la povera fiordi per vinca scorticata cercando di uscire dallo specco aveva ficcato la testa fra due pietre e ricercandola Melchiorre l'aveva trovata morta basilio palpò le cosce della bestia per assicurarsi che gli occhi non li ingannavano e non osò entrare nella capanna e si sdraiò al di fuori gemendo sommessamente si è ritornato chiese zio pietro egli non rispose tornato sei basilio cos'hai sono mezzo morto zio pietro mio ho percorso tutto il monte ma vedo che avevo sbagliato strada oi zio pietro mio che sono morto sta zitto gridò Melchiorre che arrostiva allo spiedo dei visceri della capra se vengo fuori ti faccio morire davvero è peggio del come è morta questa povera bestia e basilio tacque frattenendo persino il respiro con le orecchie tese come la sua lettre ma né l'indomani né poi Melchiorre gli rivolse parole di rimprovero venne e passò il settembre venne e si inoltrò l'ottobre a giorni imperversava il vento cangiando gli elci in altrettanti demoni dalle cento braccia pazzamente mosse dai cento urli profondi e pioveva e faceva freddo e la nebbia umida e amara saliva scendeva ondeggiava avvolgendo il bosco e le rocce in grigi velari poi vennero i soavi giorni d'autunno l'erba fine e lucente rinasceva sulle chine sul molle terreno che fumava al sole e le rocce scoperte apparvero lavate e chiare il musco e l'edera si imbrunirono e tutto il bosco dai tronchi alle foglie prese una tinta scura e triste ma il sole d'autunno era dolce e tiepido in quei pomeriggi tranquilli dal mare salivano bianchi vapori che diventavano piccolissime nuvole candide e rotonde e seguivano il sole in lenta marcia e lo raggiungevano e lo velavano allora il suo disco argenteo senza raggi precedeva seguito da quell'ondeggiante greggia aerea che si stendeva a ventaglio luminoso sul fondo chiaro del cielo basilio assomigliava quel lento passaggio di nuvole a una greggia di agnelli autunnali dal vello candido e morbido come seta e restava lunghe ore assorto in quella contemplazione supino con gli occhi pieni di desideri oh possedere tutte quelle greggie e una tanca immensa e piana come il cielo zio pietro raccontava una storia di due pastori che sdraiati all'aperto in una serena notte estiva avevano desiderato uno di possedere una tanca grande quanto il firmamento l'altro tante pecore quante stelle vi brillavano e dove le pascoleresti chiese il primo nella tua tanca ma io non te la fitterei e io entrerei lo stesso e io ti pesterei il muso e prova s'azzuffarono e le stelle risero di loro per evitare dunque ogni inconveniente basilio desiderava tutto e la tanca vasta come il cielo e le greggie numerose come le nuvolette dei tiepidi pomeriggi autunnali che ne faresti chiese un giorno zio pietro mi ammoglierei veramente quanti anni hai diciotto baffiai tu per pensare a queste cose del resto non occorre avere il cielo e le nuvole per procurarsi l'amore di una donna onesta io quando tornai dal servizio militare non avevo nulla neanche la punta di un capello ma avevo buona volontà mi misi a fare il pastore e Maria Grazia mi sposò e fummo felici eravate più vecchio di vostra moglie no credo che ella avesse qualche anno più di me ma era la più buona massaia di nuoro faceva persino i formagelli col cacio di capra e sembravano di cacio di vacca e dalla lana che essa filò le mie capre da trenta diventarono cento e zio pietro poteva acquistare il terreno per pascolarle tutto l'anno basilio ascoltava e una gioia luminosa come quel celeste mattino d'autunno gli invadeva il cuore al pensiero che forse un giorno pasca lo avrebbe voluto per sposo anche senza la tanca vasta come il cielo e le greggie numerose come le stelle ma pasca non era l'antica onesta Maria Grazia e il cuore di basilio non era il cuore puro di zio pietro e alla gioia seguiva la tristezza i pensieri insidiosi turbavano la mente del mandriano il suo sogno era di scendere a nuoro ma le capre pregne che ora pascolavano lente e gravi avevano cessato di dar latte e neppure Melchiorre s'assentava solo talvolta quando qualche caprone si smarriva basilio andava verso la chiesa grigia e umida nel cerchio dei boschi bruni velati di nebbia una triste malia lo sospingeva lassù e poi verso monte bidde fino alla sporgenza di roccia ove pasca guardandolo entro gli occhi gli era penetrata nell'anima dov'era adesso pensava a lui gli elci mormoravano cupi sotto il cielo grigio ma basilio sentiva ancora i gridi argentini del flauto le vibrazioni gravi della chitarra e tutta la montagna coperta di nebbia esalava ancora il profumo delle fronde bruciate come in quella sera ma pasca pasca dove era egli se lo chiedeva spasimando e avrebbe voluto gridare dalle cime tutta la violenta passione che lo bruciava gridare urlare implorare in modo da riempire il mondo delle sue grida mai aveva pensato a sua madre e guardato il suo villaggio come adesso pensava a pasca come adesso guardava verso nuoro grigia fra le nebbia e passò l'ottobre e passò il novembre nulla di nuovo all'ovile tranne una sera in cui giunse un giovinotto paesano ben vestito leggiadro e roseo in viso come una donna era uno dei figli di zia bisaccia salute che buon vento ti porta qui l'altro rispose ridendo che lo accusavano di aver rubato un bue e piuttosto che andarmi nel servizio del re come i miei fratelli preferisco passeggiare in campagna ma l'hai rubato il bue ma che allora osservò zio pietro sarebbe meglio costituirti si delucideranno meglio le cose andate andate non voglio morire di fame quest'inverno perché sapete là dentro danno una scodellina d'acqua con olio e due patate e un pane un pane solo al giorno capite così il re mantiene quelli che sono al suo servizio e ad alimentare un corpo cristiano non ci vuole solo un pane zio pietro mio ci vuole anche un po' di arrosto e una buona zucca di vino e tua madre non può mandarti il pranzo da casa vostra prima ella si impicca mangiate quello che vi da il re già che vi siete messi al suo servizio dice egli recava sulle spalle una piccola bisaccia di cuoio se la tolse ne slargò l'apertura ed estraendone un mazzo di carte propose una partita all'anzichenecco nessuno sapeva il gioco ed altronde né zio pietro né me e chiorre avevano voglia di giocare basilio accettò una partita alla scopa ai denari chiese il giovine basilio con le mani in tasca alzò le spalle sorridendo e neppure una capra aggiunse l'altro mescolando le carte neppure e allora facciamo così io ho qui una gallina e guardò con un solo occhio entro la bisaccia non è rubata sai no l'ho presa di casa mia madre strillerà accorgendosene ma non incolperà nessuno perché e la dice che finché ha dei figli fuori dal carcere e le verrà rubata qualche cosa non dubiterà mai di altri basta infine facciamo così se perdo io me e chiorre infine la gallina ne lo spiedo se perdi tu ti do sette pugni accetto seduti per terra giocarono ai chiarore del fuoco e il figlio di zia bisaccia rideva come un fanciullo raccontando storielle a mene il cane il gatto e più indietro la lepre simile a un gomitolo di seta bionda con gli occhioni che riflettevano la fiamma guardavano intenti fuori la nebbia pallida saliva dal mare la pioggia scrosciava sugli eci e dal vello sporco delle scarpre l'acqua gocciolava gialla e la macchietta immobile rassegnata del cavallino appariva orsi or no fra la nebbia sotto il fantasma deforme del lence melchiorre guardava dall'apertura della capanna e una domanda gli fremeva sulle labbra mentre il paesano raccontava le novità di nuoro ma in fondo si irritava contro la sua curiosità e taceva dopo il voto pronunziato sul capo paterno negli ultimi mesi era vissuto come automa senza altra volontà che quella di mantenere la promessa e gli sembrava che nulla più gli importasse di Pasca vinse Basilio forse per generosità dell'avversario il quale aveva un ottimo cuore e rubava le provviste di sua madre per portarle alle sue amanti povere la gallina nera picchiettata di bianco venne fuori dalla bisaccia e fu pelata e passata alla fiamma dentro aveva un grappolo d'uova alcune già grosse e gialle ai quanto doveva strillare zia bisaccia infilando la gallina nello spiedo Melchiorre aprì le labbra per far la domanda che gli saliva a suo malgrado alle labbra sollevò gli occhi vide che il bel giovine rideva e non osò no 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 che gli importava era così vile da interessarsi ancora a una donna che aveva bastonato il gatto sbadigliava e narcava la schiena seguendo il girare dello spiedo con occhi fosforescenti fuori la pioggia scrosciava e la nebbia saliva fino alla capanna all'apertura ormai non si scorgeva che uno sfondo grigio pervaso da un sonoro rombo di tempesta pareva che i torrenti stralipati allargassero la radura e che la capanna galleggiasse sola e perduta come una barca in alto mare nonostante questa desolazione i quattro uomini cenarono allegramente sembrava che il bandito non temesse insidie sicuro che nessuna potenza umana potesse arrivare fin lassù in quel mondo fatto di nebbia e di solitudine eppure Melchiorre sentiva sempre la gola stretta dalla sua domanda e mangiando ridendo chiacchierando non cercava che il momento opportuno per liberarsi da quella specie di nodo oh disse a un tratto rapidamente col boccone pieno sforzandosi all'ironia e cugina mia cosa fa basilio tese le orecchie ma il paesano cessò di sorridere rispose con indifferenza non ne so niente Melchiorre capì che egli invece ne sapeva molto cosa fa essa cosa fa l'hai veduta ha sul viso ancora l'impronta dei miei schiaffi fa ancora l'amore coi signorotti coi signorotti e coi rustici rispose l'altro seccamente e il discorso cadde lasciando una impressione di rabbia nel cuore di Melchiorre e di Basilio per distrarli zio Pietro raccontò una storiella sentite una volta un mercante andò in un regno lontano dove c'erano tanti topi che il re mangiava sempre pane perché il formaggio se lo rodevano quelli figuriamoci allora cosa si mangiava in carcere soghignò il paesano basta cosa fa il mercante tornato al suo paese prende tanti gatti e li porta in regalo al re il quale vedendo la strage che i gatti facevano dei sorci dona al mercante tanti sacchi d'oro poi tornato il mercante al suo paese un compagno invidioso pensa se quel re regala tanto oro per tre o quattro gatti cosa darà se gli portano cose di più gran valore cosa fa prende e gli porta tutto il suo patrimonio indoni oro perle broccato vino eccetera anche formaggio anche ad ogni modo sapete cosa fece il re siccome il visitatore maligno non aveva detto che era del paese di quell'altro il re credendolo ad un regno di topi come il suo gli regalò sei gatti al paesano piacque tanto la storiella che dopo quella sera continuò a frequentare l'ovile e ogni volta portava vino lardo pane bianco salame uova carne e rallegrava col sorriso spensierato la capanna desolata dal freddo benché zio pietro e michiorre fossero certi che un giorno o l'altro i carabinieri avrebbero sorpreso l'allegro giovine e lassù gli si affezionarono talmente che se qualche volta non veniva si inquietavano e senza la sua compagnia sentivano maggiormente la tristezza della solitudine e della mala stagione per di più quell'anno gli elci in quel tratto di montagna non avevano dato ghiande quindi nessun pastore porcaro essendo salito lassù il bosco restava deserto sotto le continue nebbie gli uccelli erano migrati le rocce umide sembravano rovine verdastre e rugginose e dal mare ormai invisibile continuamente salivano nubi e vapori cineri dietro le montagne scialbe al mattino bronze e alla sera le nuvole descrivevano altre montagne alte e livide talvolta orlate di bagliori gialli talvolta illuminate da foschi tramonti vernici immobili sul cielo grigio sembravano montagne fantastiche da sogno pauroso ai primi di dicembre nevicò ma un leggero nevischio che tosto si sciolse fra il gatto assopito e la lepre i cui occhi fissi nelle fredde lontananze sognavano sempre la fuga zio pietro passava le giornate entro la capanna e adesso che Melchiorre si assentava di rado e che pareva avesse dimenticato si sentiva tranquillo e pregava che l'inverno non diventasse molto rigido che molti capretti venissero alla luce che molto latte gonfiasse le mammelle delle capre lo scrociar del bosco contorto dal vento gli diceva che l'inverno era lungo e rigido ma per la sua antica esperienza sapeva che il vento la pioggia la nebbia e la neve erano necessarie perché la terra si impregnasse di umido gli alberi si spogliassero delle foglie inutili le sorgenti rigurgitassero di acqua e ogni cosa infine ricevesse dall'inverno i germi fecondi della primavera quindi non si lamentava mai anzi il tepore dei grossi tronchi accesi nella capanna lo avvolgeva spesso di sogni e come dalla tristezza dell'inverno la sua vecchia esperienza presentiva il rigoglio della primavera così dalla melanconica rassegnazione di Melchiorre tornava a sperare un miglior avvenire Melchiorre avrebbe nuovamente amato e si sarebbe averato il mite sogno del vecchio lasciar quella selvaggia solitudine passare gli ultimi inverni in una casetta fra cristiani con la nuora e i nipotini che lo avrebbero accompagnato ogni mattina alla messa intanto si avvicinava il Natale e appunto lo scrupolo d'ascoltare la messa almeno in quel giorno gli diede il desiderio di scendere a nuoro scendo anch'io vi condurrò io gridò pronto Basilio lo condurrò io disse fermo Melchiorre ma anch'io ho diritto di ascoltare la messa in quel giorno se non mi lasciate andare di buon grado andrò lo stesso vi piaccia o no andrai disse zio Pietro e siccome Melchiorre alzava la voce Basilio si fece umile e lo persuase con buone ragioni e alla fine Natale era Natale e ogni cristiano doveva onorare il figlio di Dio e si aveva un'anima sola alla fine poco male se ne avessero due da poterne perdere una ma se ne aveva una sola e infine egli voleva scendere a nuoro ad ascoltare la messa zio Pietro accennava di sì di sì sollevando ed abbassando la barba ingiallita dal fumo ma Melchiorre fissava Basilio e gli puntava un dito sul petto tu tu cosa dici tu di anime e di divini figli piccola volpe tu non ne hai due ma dieci di anime e le darai tutte non al divin figlio ma al padre dell'inferno all'usbe il capo dei demoni tuttavia gli permise di scendere a nuoro per ascoltare la messa di mezzanotte sarebbe risalito all'alba e dopo il suo ritorno lui e zio Pietro sarebbero scesi a loro volta permettendolo il tempo il tempo lo permise faceva un freddo intenso ma asciutto il cielo spazzato dalla tramontana era di un azzurro profondo e le montagne lontane coperte di neve cristallizzata dal gelo tagliavano l'orizzonte come muraglie d'arabastro il bosco rabbrividiva benché il vento taccesse e Basilio col volto livido il naso paonazzo e gli occhi lucenti di lacrime spremutegli dalla gioia e dal freddo scese la montagna saltellando il freddo aumentava col cadere della sera dalle radure scorgevasi dietro i boschi neri l'oro pallido del tramonto sudiva vibrato nel silenzio qualche rido di pastore che limitandone il grugnito richiamava i suoi porci sbandati qualche lontano picchio di accetta risuonava nel fitto della foresta Basilio rispondeva a quelle voci e a quei suoni emettendo grida selvagge che echeggiavano nelle lontananze come ripercosse dal granito altre grida rispondevano ed egli continuava nella sua corsa balzando e nitrendo come un puledro nella tasca di cuoio che gli pendeva dalle spalle e orgogliava un po' di latte spremuto da alcune capre sgravatesi già di capretti magri e rachitici nella corsa l'aria fredda investiva Basilio e gli faceva calare dal naso un umore salato che egli si puliva ogni tanto con la mano giunse a nuoro che imbruniva rientravano di campagna pastori e contadini questi ultimi con la loro giacca di cuoio il volto aquilino e terreo col pungolo sulla spalla preceduti da piccoli buoi rossi o neri trascinanti l'anticoratro sardo ricordavano gli agricoltori egizi Basilio passò di corsa senza guardare né salutare nessuno giunto nel cortile di zia bisaccia vide la porta illuminata dal fuoco e sentivoci aspre e fiere era la padrona che copriva di improperi il marito tornato dall'ovile dopo tre mesi d'assenza per passare almeno il santo natale in famiglia l'uomo non reagiva e neppure rispondeva alle grida della moglie e quando Basilio entrò vide un vecchietto lacero e sporco col viso sbarbato così pallido e gli occhietti azzurri così spauriti che lo dirise e lo compassionò ave maria disse togliendosi di spalla la tasca dite il rosario grazie appiena rispose la donna stizzita sei tu muso di sorcio cosa c'è di nuovo sono sceso per ascoltare la messa domani verranno zio Pietro e zio Melchiorre prendete questo cos'è questo un po' di latte per venderlo no per voi ve lo regala zio Pietro ella lo prese rabbonita e lo versò in una pentolina lasciando pazientemente cadere le ultime gocce dense misurandolo con gli occhi poi andò a nasconderlo affinché i figli ritornando quella notte con i loro scapestrati compagni non se lo bevessero aveva nascosto anche l'agnello nero che il marito aveva portato dall'ovile ella non intendeva né di andare alla messa né di far cena di grasso granché se sul fuoco abbassava e divideva la fiamma un paio lino nero dove gorgogliava l'acqua per un po' di maccheroni nascosto il latte sedette per terra e al chiarore del fuoco stretto fra i ginocchi un mortaio cominciò a pestare un pugno di noci secche che sotto i suoi colpi feroci diventarono poltiglia gialla con questa avrebbe dovuto condire i maccheroni seguendo la tradizione e risparmiando il cacio basilio ritto presso il focolare stringeva i tizioni con un piede incerto se doveva o no chiedere notizie per ritrovarla a casa dove pasca serviva ma no zia bisaccia era troppo maligna per non riferir tutto a Melchiorre e come lo metto dagli occhi azzurri spauriti aveva approfittato della venuta di lui per sgattaiolare nella stanza attigua egli colse il momento in cui zia bisaccia s'alzava col mortaio sul petto per fare un mulinello sui tacchi e andarsene in giro gli fu facile trovare il palazzo dove pasca abitava una casa bianca le cui finestre erano illuminate si era levato il vento di tramontana e le stelle verdognole tremolavano sopra gli embrici sporgenti delle casupole intorno la strada era deserta egli sollevò il viso e stette a lungo incerto tremando più che per il vento che gli sferzava la nuca per un angoscioso senso di paura non sapeva come era arrivato fin là né che cosa avrebbe detto alla ragazza ma l'idea di non picchiare a quella porta e di andarsene senza vedere pasca non gli passava neppure nella mente e picchiò stringendo nel suo il pugno di ferro pendente sulla porta come era freddo quel pugno il suono eccheggiò nell'interno della casa un cane abbaiò un passo svelto risuonò nel corridoio basilio riconobbe il latrato del cagnolino nero indovinò di chi era il passo e si ritrasse palpitando di gioia e di paura chi è io chi tu io basilio la porta stridette e pasca apparve premurosa e stupita sei tu cosa vuoi cosa voleva egli non rispose voleva vederla sentirla a sua voce appagare l'ostruggente desiderio che da quattro lunghi mesi lo tormentava e pasca come tutte le donne davanti all'uomo che le desidera diventò seria e quasi triste cosa c'è di nuovo chiese sottovoce sei sceso ad ascoltare la messa dove stai in casa di zia bisaccia e il figlio il figlio di questa donna viene spesso al vostro vile spesso rispose basilio pur avendo la coscienza di far male ed ella diventò premurosa e vivace come ti sei fatto grande disse guardandolo da capo a piedi senti adesso non posso restare qui vieni ritorna i miei padroni vanno alla messa potremo parlare basilio appoggiava al muro la mano tremante gli pareva di dover cadere come se qualcuno gli battesse con un randello le ginocchia e tu alla messa non ci vai no ella spinse lievemente la porta ti aspetto allora adesso va addio addio la porta fu chiusa a lui parvi si chiudesse la porta del paradiso ma una luce ardente gli folgorava dentro ben dentro al petto lui fece la strada ritornò nei miseri vicinati ove la casa di zia bisaccia sorgeva come una fortezza e gli pareva di non toccare terra coi piedi e di sfiorare invece con la punta gelata del naso il cielo limpido come uno specchio nella cui fredda trasparenza le stelle splendevano meno dei suoi occhi zia bisaccia preparava la salsa sciogliendo la poltiglia delle noci entro una conculina di creta rossa con una mestola di legno traeva l'acqua bollente dal paiolino e la versava sulla poltiglia il fumo caldo la avvolgeva come in una nuvoletta il marito seduto con i ginocchi serrati curvo sopra di sé in atteggiamento di chi vive in continui timori guardava in silenzio seguendo con gli occhietti celesti ogni movimento della donna ella estrasse dal paiolino un maccherone e accostandosi la mestola alla bocca lo addentò sono occulti cala giù il paiolino Bacchis lo metto salso di scatto afferrò per l'ansa il paiolino lo sollevò e lo depose per terra bruscamente soffiandosi sulla palma della mano scottata sciocco pazzerello non lo sapevi che scottava l'ansa zio Bacchis non si lamentò per non provocarla oltre si ripiegò con buona grazia sui ginocchi e presa la mestola cominciò a estrarre i maccheroni dal paiolo versandoli man mano sulla salsa che zia Bisaccia rimescolava adesso la nuvoletta avvolgeva marito e moglie sul focolare la fiamma saliva gialla nell'anello ardente del treppiede uomo zia Caterina disse Basilio che sorrideva beato mostrando tutti i suoi denti scintillanti levo via il treppiede altrimenti cuoce il diavolo siediti sopra se non lo puoi vedere sul fuoco chi il diavolo no no il treppiede disse bonariamente zio Bacchis sta quieto figlio mio conditi i maccheroni zia Bisaccia preparò il pane e il vino e attese i figlioli ma suonarono le otto suonarono le otto e mezzo e le nove e i figlioli non rientrarono finalmente ne ritornò uno somigliante assai al fratello bandito alto bianco e con gli occhi azzurri ma la berretta gli scivolava sul capo le sue gambe si piegavano ed egli rideva stupidamente ubriaco francio la madre cominciò a gestire e a gridare è per questo che ti ho atteso ubriacone rovina a case ceniamo bacchis vedi se vale la pena di attendere i tuoi figli per cenare ceniamo rispose l'uomo rassegnato il giovinotto taceva intento a tener ferma sul capo la berretta che non voleva starci prese solo un maccherone lo masticò lo sputtò oh non ti vanno cosa vorresti bellino porchetto arrosto vorresti fare così e gli balbettò e ricominciò a ridere piano piano tra sé e sé come ricordando cose molto allegre poi tese la mano per versarsi da bere ma la madre tolse rapida la bottiglia e la sollevò minacciosa se vuoi te la rompo sulla testa e gli continuò a ridere basilio e zio bacchis mangiavano intanto avidamente prendendo dalla conculina i maccheroni a grandi cucchiaiate tenendosi un pezzo di pane sotto il mento per raccogliere la salsa gocciolante dal cucchiaio di legno tacevano e non si intromisero neppure quando zia bisaccia vedendo il figlio alzarsi barcollante per andarsene gli si gettò sopra e lo percosse e lo fece sedere di nuovo fermo lì fermo lì oh che vuoi andare dove sono i tuoi fratelli in gabbia o nel bosco non bastano due anzi tre che vi ho fatto nascere per questo fermo lì e non ti muovere altrimenti la notte di natale la ricorderai a lungo ed egli continuò a ridere ma appena la madre si fu seduta si alzò di nuovo e di nuovo ella lo rincorse lo spinse indietro e chiuse la porta a chiave zio bacchis accennava a basilio di tacere esso chiudeva un occhio e si stringeva le labbra con due dita e basilio mangiava guardava e taceva era così felice che anche una scena di sangue non lo avrebbe turbato ma nonostante la prudenza di zio bacchis la moglie se la prese con lui dopo aver spiegato per terra una stoia e costretto il figliuolo a sdraiardisi li vedi i tuoi figli li vedi ometto di pasta li vedi ometto dagli occhi di gatto non era meglio lasciarli nel seno del signore per allevarli così non era meglio che tu non ti fossi mai ammugliato e fossi rimasto sempre nel tuo vile nella tua tanca come una faina che sei e questi sono uomini uomini sono questi come dio volle zia bisaccia rimesse in ordine la cucina e imposto al marito di non uscire né di permettere al figliuolo di muoversi se ne andò a letto zio bacchis respirò chiese a basilio di dove era chi era la sua famiglia quanto i carta gli davano per salario e se zio pietro era sano e che faceva e come passava il tempo e se lo vile veniva frequentato da bandini pietro carta esclamò accavallando le gambe e stringendo le mani attorno al ginocchio stette un momento in silenzio con gli occhietti illuminati da lontani ricordi poi riprese bravo uomo quello lì mi ricordo quando eravamo giovani ed io facevo all'amore con Caterina una notte di Natale come questa che io non avevo nulla da regalare alla mia innamorata vado al suo ovile e gli dico pietro mi lasci rubare un porchetto dal tuo padrone ti do cinque lire benché fossimo molto amici egli mi cacciò via insultandomi io non vendo la mia fedeltà per uno scudo vattene e se ti salta in testa di toccare nulla da queste parti vedrai che domani non passerai il giorno di Natale in compagnia della tua innamorata io me ne andai ridendo di malavoglia e non sapendo dove meglio batter la testa capitai nell'ovile del mio futuro suocero in quelle vicinanze ricordai che fra le altre c'era una torma di porchetti da regalare a certi giudici di Sassari che dovevano fare il processo di un fratello di Caterina che faccio io mi avvicino come un ladro entro nella mandria prendo il muso stringendoglielo forte uno dei porchetti e gli immergo la lesina nel cuoricino era di vostro suocero chiese Basilio mentre Zio Bacchis col pugno stretto faceva ato di immergere la lesina nel cuoricino di un invisibile porchetto e di chi dunque e l'indomani il porchetto fu mangiato qui da Caterina in buona compagnia ma disse Basilio con ammirazione e i vostri suoceri e la vostra innamorata non si accorsero che il regalo era stato rubato a loro ma che ma che ma quel furbo di Pietro Carta saputo che mancava un porchetto dall'ovile di mio suocero indovinò subito la verità e un giorno che passavo davanti alla sua capanna lo salutai e gli dissi ridendo e oggi me lo dai un porchetto ma egli raschiò sputò fra i suoi due piedi e non rispose neppure dopo quel tempo la nostra amicizia andò scemando adesso è da molto che non lo vedo mi dicono che è cieco del tutto è cieco sì ma sente e ascolta disse maliziosamente Basilio è sempre lo stesso e guardò sorridendo Zio Bacchis poiché adesso lo metto gli sembrava uno di quelli per i quali è stato inventato il proverbio sardo ribu mudu tiradore che vuol dire rio silente travolgente e stava per raccontargli delle frequenti visite dei banditi all'ovile carta quando sudì un passo furtivo nel cortiletto e un altro dei padroncini mise prudentemente la testa entro la porta madre non c'era tornò indietro e poco dopo rientrò con alcuni compagni i quali si avanzarono in punta di piedi tentando così di rendere meno gravi i loro passi appesantiti dagli scarponi e dal vino erano quattro giovanotti paesani uno altissimo pallido con una lunga barba nera il secondo piccolo olivastro con occhi brillanti il terzo rosso e calvo coi baffi biondastri e il quarto finalmente aveva gli occhi azzurri timidi e dolci nel viso bianco completamente sbarbato questi due ultimi sebbene di tipo così diverso erano anch'essi figli di zio Obatis e di zia bisaccia il giovane alto e quello dagli occhi brillanti si avvicinarono all'ometto battendogli le mani sulle spalle e sul capo con carezze figliali ed egli accennò loro di sedersi e di star zitti se mia moglie si sveglia e scende qui ci caccia via tutti col manico della scopa sedette ma silenzio altro che scopa con la scure disse basilio chi è questo giovinotto chiese quello della barba nera il servo di melchiorre carta ragazzotto come va il tuo padrone coi piedi dico d'amore come va pare che vada proprio coi piedi risero tutti tranne l'ubbiacco che non se n'ha mosso russava emettendo sibili e sbuffi sonori intanto i due fratelli preparavano la cena se la madre aveva nascosto l'agnello pasquale e cotto i maccheroni tradizionali per rispettare la vigilia e risparmiare il caccio che si avevano portato segretamente dall'ovile altri due agnelli e trovato bene il modo di preparare agli amici il vino il formaggio il pane bianco e perfino il caffè e un cestino di uva dorata ancora fresca basilio sottrasse destramente un grappolo e lo gettò nella sua bisaccia uno per parte del focolare gli agnelli infilati in lunghi schiglioni neri cominciarono a friggere gocciolando il grasso sulle bracci dalle quali saliva una nuvola di fumo odoroso e zio bachis narrò altre argute storielle della sua giovinezza finché fu lasciato solo a guardia degli agnelli e del figliolo ubriaco gli altri figlioli e i compagni se ne andarono a messa e basilio li seguì per un tratto di strada al soffio della tramontana si scosse da quella specie di ebrezza in cui le storielle di zio bachis e la cena e il vino lo avevano immerso avvicinandosi alla casa di pasca l'angoscia e la paura lo riprendevano l'avrebbe dunque riveduta fra poco fra cento fra cinquanta fra venti passi li contò a pacca a pochino e al rumore dei suoi scarponi ferrati si accompagnava il palpito del suo cuore se sono più di venti passi e la aprirà se no no e furono più di venti perché egli volle così ed ella aprì aprì lo attirò dentro chiuse la porta la luce scendeva dall'alto giù per le pareti della scala bianca e polverosa gli scalini dardesi atturchinici ed umidi la balaustrata nera che sembrava un serpente le ombre che vagavano sul pavimento rotto ogni cosa aveva alcunché di triste e di equivoco in quel pianerottolo umido simile al fondo di un abisso e basilio guardava in alto per cercare il lume e pensava che per goder la compagnia di pasca meglio di quel luogo era l'orizzonte rosso di monte vive ma un tratto pasca gli prese le mani e cominciò ad accarezzare egli ricordava la gattina dell'ovile tale e quale così come pasca tutta calda e molle e non sapeva se doveva baciarla o morderla non aveva mai baciato altra donna ma si sentiva uomo fatto così alto così forte da poter contendere a tutti la piccola gattina sua la donnina tutta morbida e dolce che gli si avvinghiava il collo e in un impeto selvaggio la sollevò e la strinse così forte da farle male ui che fai agnello egli la lasciò e cominciarono a chiacchierare dimmi dunque il figlio di zia bisaccia basilio disse tutto ciò che ella gli fece dire sul conto di melchiorre e del figlio di zia bisaccia quello che frequentava l'ovile e a quali ore e in quali giorni soleva indugiarsi nella capanna e come portava sempre roba da mangiare roba rubata ma questo è nulla ella disse pensierosa egli ruba vacche e buoi ah già figlio di suo padre tu credi che il patrimonio zio Bacchis lo abbia fatto col lavoro basilio ricordò la storiella del portiere già già e mio cugino ci va spesso con quella buona lana girano assieme sì rispose basilio e non era vero buona compagnia andranno assieme a rubare e chi lo può sapere raccontami egli mentiva ma gli sembrava di dire la verità per far piacere a lei avrebbe calugnato anche suo padre e l'ora passò e sulle loro anime le passioni gettavano ombre deformi come il lume dall'alto su quel fondo di scala giunta l'ora di separarsi Pasca dovette scuotarlo per richiamarlo dall'ebbrezza in cui lo aveva immerso ci rivedremo e gli chiese facendosi triste sempre se tu vorrai io vorrei sempre ma il padrone non mi lascia libero ti lascerà ti dico che ti lascerà e la rispose con ironia vai tranquillo lo accompagnò fino alla strada battendogli una mano sulla schiena e ripetendo carezzevole come ti sei fatto alto in pochi mesi agnello mio come ti sei fatto alto addio egli se ne andò stordito felice e triste pensando già al modo di ritornare al più presto ad un nuovo convegno rientrò nella cucina di zio Bacchis prima che i giovanotti fossero ritornati dalla messa gli agnelli erano cotti e la loro crosta rossa e screpolata luceva di grasso alla tenue luce del fuoco ridotto in braccio l'ubriaco dormiva sempre e nella calda penombra tra i fumi dell'arrosto l'ometto vigilava un po' ansioso sembrandogli di sentir rumori nell'interno della casa e gli altri chiese sottovoce a Basilio chi gli altri i miei figli e i compagni ah dove hai messo la testa ragazzotto non si è stato messa si si ma poi li ho perduti di vista mi sembra che tu abbia sonno sonno si forse ho sonno forse ecco ricati allora Basilio aveva bisogno di trovarsi solo di raccogliersi di ricordare e rivivere nell'ebbrezza dell'ora trascorsa pigliati quel sacco disse Zio Bacchis e dormi se vuoi dormire Basilio prese il sacco lo stese sul pavimento e vi si gettò sopra lungo disteso a pancia a terra nascondendo il viso sulle braccia incrociate chiuse forte gli occhi e rivide tosto il pianerottolo illuminato dall'alto sentì l'agile busto di Pasca fra le sue braccia le calde labbra di Pasca sulle sue e provò un piacere più intenso di quello trovato nella realtà ecco essa è così vicina così ardente che il suo alito brucia come il fuoco si volse supino strinse le mani intrecciate sugli occhi mentre il sangue gli batteva forte sul cranio e sulla nuca e cominciò a parlare con trasporto dicendo le cose che non le aveva detto e non saprebbe dirle già male il piacere era così intenso così intenso lo spasimo che alcune lacrime gli bruciarono le palpebre gli aprì gli occhi e solo allora si accorse che i figli di zio Bacchis erano rientrati e che cenavano giovinotto gli disse il calvo hai la febbre alzati e mangia basilio si sollevò il quanto e vide che i giovani trinciati gli agnelli sul tagliere di legno uno dei cui angoli era scavato per far da saliera mangiavano avidamente tenendo la carne fra le mani e strappandone grandi morsi con i denti incisivi egli si alzò e mangiò in silenzio poi si gettò di nuovo sul sacco e chiuse gli occhi ma non poter raccogliersi come prima attraverso il sogno gli arrivavano le chiacchiere sommesse dei giovanotti le loro risate represse il tintinnare dei bicchieri e il russare dell'ebro ma a un tratto questi si stiracchiò sbadigliò e senza aprire gli occhi chiese che ora è imbrunisce gli altri risero egli aprì gli occhi stupiti si sollevò e ricadde chi è questa gente dove siete fratelli miei dove siete io non vi vedo dove sono io sei nella vigna fratello mio dormi dormi io ubriaco io egli si sollevò di nuovo puntando i pugni all'indietro sulla stoia e i suoi occhi rossi avevano un'espressione minacciosa chi sei tu nemico zitto se tua madre si sveglia disse zio Bacchis aggittando le braccia spaventato mia madre chi è mia madre dove fatela venire io non ho né madre né padre né fratelli io ho nemici e rivali sollevò il pugno per cui mancato gli il sostegno da quell'altro ricadde io ho solo un fratello ma quello non c'è è bandito è lontano dove sei fratello mio fratellino mio dove sei sollevò l'altro pugno e così supino a braccia aperte cominciò a singhiozzare invocando ad alta voce il fratello bandito al diavolo il vino e chi te lo versò imprecò il fratello calvo precipitandoglisi sopra e chiudendogli la bocca con le mani taci per Dio ti affogo l'ubriaco rantolò ma non oppose resistenza e a poco a poco si riaddormentò ma il suo accenno al fratello lontano offuscò l'allegria del banchetto finirono di cenare parlando tristemente del bandito ieri l'hanno visto nell'ovile dei carta me l'ha detto questo ragazzotto disse Zio Bacchis accennando Basilio parleranno di Pasca carta soghignò il giovine barbuto perché si domandò Basilio Zio Bacchis sospirò e imprecò contro Pasca perché perché ripete Basilio per queste cose mio figlio è andato in malora per le male femmine rubava di casa per loro e chi ruba in casa ruba anche fuori di casa e adesso ora pare l'abbia lasciata disse uno dei fratelli e l'altro oh l'ha lasciato lei sull'albero caduto tutti battono la scura attento quando vada Melchiorre carta quello sciocco può fargli qualche dispetto che ne sa lui quella faccia di volpe disse il calvo con disprezzo se quella ha gli amanti amuchi e non era con mio fratello soltanto che lo tradiva e per cui l'ha lasciato ma se è lui che l'ha lasciato chi Melchiorre no mio fratello basilio tremava il suo sogno si cambiava in incubo la bella immagine di pasca dal piccolo volto lucente si copriva di tutta la puligine della cucina di zia bisaccia la sua ebbrezza diventò angoscia ricordò che era stato sempre geloso e non ha torto non ha torto non solo i signori doveva odiare ma anche i paesani i pastori i banditi gli straccioni rilevò e ricadde come l'ubriaco voleva sputare in volto ai maldicenti che calunnavano la sua pasca voleva uscire correre battere alla porta di lei e gridarle è vero che sei l'amante di tutti anche dei ladri ma non si morse aveva sognato rievocò il convegno in tutti i suoi particolari sentì ancora sulle labbra il sapore ardente dei baci di pasca e tremò ed ebbe voglia di piangere possibile che tutto fosse vero che pasca era l'amante di tutti che pasca aveva baciato anche lui ma perché anche lui con quale scopo egli era un povero ragazzo senza avvenire egli non aveva agnelli né denaro né altra roba da regalarle perché ella dunque doveva ingannarlo se non gli voleva un po' di bene no la calugnavano quei giovanotti l'avevano visto entrare da lei e adesso parlavano così per invidia per farlo soffrire e morire ma io dormo e non sento nulla disse fra sé estete immobile con le tempi appulsanti come steso su un letto di torture i giovanotti finirono di cenare fecero il caffè così per un gusto versandone metà sul fuoco e l'altra metà buttandola infine se ne andarono ubriachi e barcollanti basilio li sentì cantare in lontananza rauchi come tori selvaggi zio bacchis rimetteva in ordine la cucina camminando in punta di piedi e spalancando la porta perché l'aria dissipasse gli odori e i vapori dalla cena l'ora passò lo sfondo della porta si illuminò di una luce vitrea tornarono i figli di zio bacchis essi gettarono sul pavimento addormentandosi in un sonno brutale ma basilio non potè dormire sentiva tutte le membra slegate le giunture dolenti e il pensiero stanco di fantasticare doveva partire e non poteva muoversi all'alba si assopì e pasca gli tornò vicina soave e tenue il piccolo viso splendeva le labbra calde e rosse si posavano sulle sue con infinita infinita dolcezza era il torpore strano dei mirigi sulla montagna la luce intensa e la dolcezza snervante del sole la carezza delle erbe il sussurro della selva e del vento una scossa forte una voce brutale lo destarono cos'è levati vattene che ora gli occhi gli si aprirono a stento e videro l'ingrata figura di zia bisaccia ritta fra quegli uomini ubriachi addormentati per terra non hai sentito è ora di partire vado vado e gli disse spaventato e si alzò uscì barcollando nel cortile l'aurore invernale gettava un triste chiarore sul terreno indurito e imbiancato dal gelo il cielo s'era fatto basso e bianco il vento taceva basilio rabbrividì ripreso dal desiderio di correre la pasca per rivederla per sapere 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 perché lo aveva svegliato quella strega di zia bisaccia perché non lo lasciavano neppure dormire perché zio bacchis era così maligno perché i suoi figgiori così malvagi perché pasca non poteva essere sua moglie subito perché faceva tanto freddo perché il mondo era così brutto e la vita tanto triste cosa fai lì urlò la donna affacciandosi con la tasca e porgendogliela va presto va subito che altrimenti se rapigliano con me i tuoi padroni tocca via presto io vado da pasca pensò basilio infilandosi la tasca sulle braccia io vado a messa disse la donna andiamo assieme un tratto si avvolse nella tunica e si trasse dietro basilio assonnato e triste i rintocchi di una campana risuonavano striduli e senza vibrazioni nell'aria gelata del melanconico mattino zia bisaccia accompagnò basilio fino alla strada che metteva fuori dall'abitato e si volse finché non lo vide sparire egli andò dritto come spinto dalla volontà di lei e non si volse e non tornò indietro ma il suo cuore nuotava in un mare di amarezza dagli occhi appannati dal freddo dal sonno e dal dolore gli sprizzavano grosse lacrime che solcandogli le guance gli bagnavano le labbra ed avevano un sapore acre e salato e via via su su sotto il cielo triste e candido che prediceva la neve il gelo imbiancava le chine e induriva i cespugli su per i sentieri che la sede innanzi egli aveva sceso correndo col cuore in feste da nuoro salivano spezzati e sottili i rintocchi delle campane sul freddo candore dell'orizzonte le montagne sorgevano livide e il mondo intero sembrava morto arrivato a riu de Zeuna si fermò un momento si sentiva la gola arsa gli pareva da aver la febbre trassi il grappolo dell'uva e siccome in fondo alla bisaccia si era sporcato si curvò e lo immerse due volte nel ruscello poi lo sollevò all'altezza del viso e cominciò a piluccarlo ogni acino giallo diafano e lucente come una perla rifletteva il suo volto con i lineamenti comicamente deformati ed era dolce come la goccia del miele fresco ma non bastava no per dissipare la malitudine del suo piccolo cuore il vecchio della montagna di grazia dell'edda capitolo nono quando giunse all'ovile i padroni si disponevano alla partenza belchiorre spiava il suo arrivo già incollerito per il ritardo potevi attendere ancora un po' volpicina non ti sei divertito abbastanza se l'avessi saputo pare che nevichi rispose basilio sollevando in aria il volto credevo che non scendeste in casa di zia bisaccia hanno fatto gazzarra tutta la notte non mi hanno lasciato dormire e sono stanco che quasi credevo di non poter arrivare scendete davvero zio pietro poveretto disse ironico melchiorre aiutando il vecchio a montare sul cavallino e adesso se puoi addormentati per riposare dagli stravizi della notte poi faremo i conti se scendete mi pare non sia stasera che ritornerete qui zio pietro nevicherà vedrete lascia nevicare disse zio pietro in sella mentre melchiorre gli accomodava le staffe non metterò certo la mano per riparo buon viaggio melchiorre battè la mano aperta sulla groppa del cavallino che tosto si mosse e gli andò dietro attento in breve sparvero tutti giù nel grigio sfondo del sentiero basilio si tolse di spalla la tasca e rimase ritto sull'apertura della capanna fischiando con apparente indifferenza fissando gli occhi in lontananza il cielo si abbassava sempre più coprendo col suo vaporoso candore le cime delle montagne della costa intorno all'ovile le rocce bagnate e il bosco cupo avevano un'immobilità e un profondo silenzio d'attesa i belati dei primi capretti tremolavano con lamenti che sembravano un pianto umano infantile chissà che oggi venga diceva fra sé basilio pensando al bandito l'abbia lasciata o no io lo odio e lo dirò a zio Melchiorre che anche con quello lì pasca ha fatto all'amore ma cosa può fargli il padrone cosa può fargli pensò un momento e sorrise con perfidia lo so io cosa può fargli lo so io più tardi cominciò a nevicare fittamente a falde lunghe e larghe che pareano petali di fior di mandorlo le montagne della costa sparvero tutte sotto la curva bianca dell'orizzonte le rocce i cespugli il bosco la capanna l'elce della radura e le mandrie ricevevano in silenzio la neve continua fitta infinita i belati dei capretti tremolavano ancora più lamentosi basilio scese di corsa la china attraverso il fitto volteggiare della neve e giunto ove le capre col vello coperto di nevischio si ostinavano a rodere i cespugli spinse su i pochi capretti conducendoli al riparo di frasche costrutto presso le mandrie i capretti salirono saltellando belando e improntando il leggero strato di neve con le loro zampette e introdotti nel riparo si affacciarono tutti all'apertura uno sul collo dell'altro graziosi bianchi e neri con i grandi occhi languidi e dolci basilio tornò nella capanna il gatto dormiva la lepre fissava sempre un punto lontano il cane fermo sull'apertura abbaiava contro le falde di neve che l'aria gli sospingeva sul muro e la neve cadeva sempre in linee leggermente oblique eguali incessanti silenziose su uno sfondo vaporoso e candido ora le falde erano lunghe e sottili simili a petali di crisantemi e di margherite a bioccoli di bambagia a peluria delicatissimi di candido uccelli e si ammucchiavano sulle rocce sul terreno sulle piante ogni foglia delce riceveva la neve come una piccola mano aperta verso il cielo e si copriva si allargava si marmorizzava assumendo informi contorni che si fondevano col contorni delle altre foglie ogni fuscello si ingrossava lentamente trasformandosi in una verga dall'abastro e sui cespugli e sulle rupi si stendevano drappi di velluto candido sull'edera irregolari filograni di madreperla sul terreno strati di più medicinio non sarà oggi che zio pietro risalirà quassù pensò basilio e vedendo la neve ingrossarsi si gettò sul capo il gabbano prese la scure e tornò fuori raduno le capre bagnate gialle e sporche sul candore della neve e le sospinse verso le mandrie le cui siepi parevano intagliate nel marmo quindi se ne andò nel bosco e salì sugli elci ad assidare cioè a tagliare rami con cui le fronde alimentare il greggio durante la nevicata nel gran silenzio del luogo il picchiare della scure è cheggiò sordamente ed ha quel suono fra ma d'acciaio e di legno che ripercotevasi lontano come se molte accette devastassero il bosco due carabinieri biondi e rose in tenuta di campagna con le borse e le uose bagnate e le bocche dei fucili orlate di neve mentre stavano per smarrirsi ripresero la giusta direzione verso l'ovile dei carta da lontano Basilio vide le loro rosse mani paunazze e sulle prime trasalì da qualche ora mulinava in testa pensieri così foschi e inconfessabili ma poi indovinò lo scopo per cui venivano i due rose e i giovanotti e il cuore gli batte forte era gioia affanno speranza paura ansia tuttavia la scure continuò a picchiare dritta sul tronco scrittiolante incidendolo ad una ferita giallognola i carabinieri si fermarono sotto l'elce e sollevarono il viso qualche scheggia cadde sulle loro teste buongiorno disse allora Basilio fermando la scure sul tronco e sollevandosi con i piedi fermati su due rami chi cercano? chi sei tu? Basilio Serra servo di mechiorre carta si scambiarono un rapido sguardo scendi tosto dov'è il tuo vile? egli saltò a terra si caricò le fronde sulle spalle si trascinò dietro i rami spazzando con essi il nevischio del bosco e attraverso il turbine di neve sempre più fitto condusse i due nella capanna mentre si scaldavano e si asciugavano le vesti essi fissarono ostinatamente gli occhi fuori dall'apertura procurando di vedere senza essere veduti tu sta lì e non fiatare fuori fa troppo freddo dissero a Basilio egli obbedì silenzioso con le gambe lunghe e distese la sola dei suoi scarponi fumava parata al fuoco per ingannare l'ansiosa attesa prese la lepre tra le gambe e cominciò a farle eseguire qualche gioco il gatto spaventato aveva cercato di scappare ma impeditone dalla neve si era nascosto fra le stuorie il cane abbagliava ferocemente i carabinieri guardavano ogni tanto Basilio senza degnarsi di rivogliergli oltre la parola l'ora passava a un tratto egli li vide tirarsi rapidamente indietro con uno slancio filino appiattandosi uno per parte dell'apertura nell'interno della capanna e qui pensò gettandosi indietro la lepre e carezzando il cane per farlo tacere il figlio di zia bisaccia veniva a grandi passi un po' curvo affondando i piedi bagnati nella neve già alta era stato a caccia giù nel versante sud ovest della montagna aveva scovato una cinghialessa che allattava i suoi e i piccini di un'altra cinghialessa ammazzata qualche giorno prima e veniva con la lieta speranza di scaldarsi al fuoco e di giocare a carte con Basilio giunto presso la capanna gli si scosse la neve di dosso la scostò con i piedi dall'apertura ed entrò in nome della legge ti arresto disse il carabiniere di destra afferrandolo per il braccio e gli spalancò gli occhi in pallidì fece un istintivo moto per fuggire ma anche l'altro carabiniere gli fu sopra e gli strinse i polsi con qualche cosa di più gelato della neve le manette mettetemi anche una corda disse allora Beffardo scuotendo le mani legate Giovanni Tolu il famoso bandito che arrestate vi metteranno la medaglia tira avanti disse uno dei carabinieri battendogli sull'anca il calcio del fucile mi hai fatto tu la spia vigliacco me la pagherai gridò il prigioniero rivolto a Basilio tira avanti tira avanti lo spinsero fuori rudemente vi tirino i cani e gli gridò e procedette a salti senza voltarsi senza pormente alle proteste di Basilio quando vide i tre uomini allontanarsi e sparire e neri nella turbina della neve Basilio tornò a sedersi per terra parlando tra sé ma che spia ma che spia peggio per lui che è venuto zio Melchiorre avrebbe fatto lo stesso proprio come ho fatto io del resto ben fatto ben fatto e ricominciò a pensare a Pasca con dolcezza ardente mentre fuori i capretti belavano con un lamento di bimbi affammati Melchiorre risalito solo lo trovò che dormiva profondamente con le mani abbandonate al suolo e i piedi parati al fuoco semispento lo scosse e lo svegliò brutalmente una fiamma sinistra gli brillava negli occhi hai fatto la spia oggi volpe senza coda ti stai mettendo in una cattiva strada bada a te ragazzo la spia ma che spia ma che spia rispose Basilio e raccontò come la cosa era andata trovando modo di ripetere le storielle che i figli di zia Bisaccia e i loro compagni avevano commentato durante la cena di Natale adesso vostra cugina Pasca adesso sarà contenta quando saprà che lo hanno arrestato che ne dite zio Melchio Melchio Refremer è un'altra ah anche con quello e a lui nessuno diceva niente non inveì oltre contro Basilio ma stette vigile e diffidente nevicò tutto il resto del giorno e lungo la notte Melchiorre non dormiva sussultando ed uscendo fuori ad ogni piccolo rumore causato per lo più da qualche ramo che si schiantava sotto il peso della mele egli pensava a zio Pietro affidato alle cure poco affettuose di zia Bisaccia e aveva paura che da un momento all'altro tornassero i carabinieri e lo arrestassero come favoreggiatore di banditi e di quali banditi sogghignava con amarezza pensando al figlio di zia Bisaccia avevano mangiato bevuto e riso assieme e forse l'amico di Pasca rideva di di lui che lo accompagnava e lo proteggeva Melchiorre conosceva qual vaso di iniquità e perfidia è il cuore umano e nella notte nevosa ascoltando il tonfo dei rami schiantati sentiva come dei colpi di martello frantumagli il cranio e dentro le orecchie gli ribolliva il sangue al pensiero del rischio che oramai correva per aver dato ospitalità e riso e bevuto e mangiato le galline col suo rivale con uno dei suoi rivali a nuoro gli avevano raccontato che Pasca aveva relazioni intime anche col suo padrone quel viso di morte dalla voce nasale anche di questo ella era capace e così si spiegava la sua voria e il suo potere essa ha fatto la malia anche al suo padrone per indurlo ad aiutarla nelle sue vendette forse l'arresto del mio amico è opera sua se è vero che è stato lui ad abbandonarla ed io che ho fatto qualche cosa di più devo temere ed aspettarmi qualche cosa di più dopo aver dormito e russato tutta la notte Basilio si svegliò all'alba Melchiorre vegliava ancora pallido e stanco prese il fucile carico e disse al mandriano adesso mi addormento con questo qui accanto vada bene se mi succede qualche cosa sparo su te come su una volpe fate quel che volete io esco per spazzare la neve dalla mandria Melchiorre si coricò con la canna del fucile stretta nella mano Basilio uscì fuori era l'alba la neve aveva cessato di cadere ma il cielo restava bianco e uniforme e l'orizzonte era chiuso da densi vapori sotto la luce triste dell'alba il bosco sembrava una misteriosa accolita di fantasma Basilio entrò nella mandria ove il tepore delle capre aveva convertito la neve in fango e Curvo spingendo con le anche le povere bestie quasi assiderate tentò di pulire alla meglio il recinto i capretti ricominciavano a belare spingendo il musetto fra le siepi del riparo anche le capre belavano lamentandosi Curvo spazzando il suolo con una scopa di ginestra secca che non faceva che tracciare un'infinità di graffiti sul fango Basilio spingeva sempre coi fianchi le bestie parlando loro ad alta voce e imprecando e seguendo il filo dei suoi pensieri e se venissero i carabinieri e l'arrestassero che colpa che colpa ne avrei io non potrei andarmene ad assidare e così non aver tempo di avvertirlo se mai venissero ma e poi non mi torna conto forse non trovando subito altro padrone dovrei tornarmene al mio paese e allora e lei si sollevò col volto sorridente adesso che il padrone ha paura non scenderà più a nuoro manderà a me e potrò vederlo ogni giorno i suoi occhi splendevano di gioia gli sembrava di vedere tutta la montagna affiorita sotto il sole di primavera egli avrebbe potuto vedere pasca ogni giorno il bandito avesse o no dei torti era prigioniero Melchiorre pensasse o no alla cugina aveva paura egli dunque avrebbe potuto vedere pasca ogni giorno senza timori né preoccupazioni come era felice lo fu per tutto quel giorno e nei seguenti nutrite di fronde che i pastori andavano a tagliare nel bosco le capre si sgravavano felicemente e subito succhiando il latte grasso e nutriente i capretti si sentivano forti aprivano gli occhi e raddrizzavano le esi di zampette ripiegate la neve come avviene nel norese durò poco da prima una forte pioggia di cui ogni goccia scavava un buco nella neve già sotto con rosa poi il vento detto dai noresi pappanie cioè mangianeve spazzarono la valle e la montagna dal bosco la neve cadde a mucchi e solo qua e là sui più grossi rami ne rimase un po' cristallizzata dal gelo un giorno dopo il lungo evaporare triste degli orizzonti apparve il sole e il cielo si incurvò come uno specchio di lucida turchese sui nitidi profili marmorei sulle lame brillanti delle montagne lontane i ghiaccioli di cristallo pendenti dei rami e la neve sulle rocce sprizzarono scintille iridate la sottile erba invernale su cui la brina stendeva le sue filograne brillò anch'essa smeraldina e i capretti candidi e neri scesero saltellando dalla mandria una sera basilio montò a cavallo per ricondurre il zio pietro all'ovile egli non si era ingannato mechiorre aveva paura lo vedeva trasalire ad ogni rumore vegliare alla notte guardare sempre lontano un po' spaurito doveva dormire di giorno forse celandosi nelle grotte perché si assentava senza dire dove andava di scendere poi a nuoro non ci pensava neppure quindi basilio partì felice sicuro di rivedere l'amata e infatti durante quell'inverno la rivide spesso zio pietro tornato all'ovile non se ne mosse più col tempo mechiorre parve rassicurarsi tuttavia continuava a mandare basilio a nuoro con latte essendo le alpe tarde e crude melchiorre mungeva le capre sul tardi quindi il latte veniva portato di sera perché zia bisaccia lo passava al fuoco e lo vendeva il mattino dopo per tempo e spesso basilio passava la notte a nuoro a giorni egli ritornava all'ovile con gli occhi lucenti di gioia ricordando il recente convegno con pasca la sua letizia però aveva spesso un fondo di amarezza alla spensierata ebbrezza dei primi giorni seguivano le inquietudini per l'avvenire l'uomo si destava nell'adolescente preso perdutamente di pasca egli ormai non aveva che il continuo e selvaggio desiderio di farla a sua moglie ma come fare la povertà gli pesava sulle spalle come una pietra e la stessa sua giovinezza lo rendeva infelice non dormiva più come prima torbidi pensieri gli battevano alla tempia mentre fuori il vento scrosciava come una cascata in quelle notti egli odiava Melchiorre che ora lo maltrattava ingiustamente lo odiava non solo perciò e perché era stato amico di pasca ma perché possedeva tanto bestiame tanto terreno mentre egli non aveva nulla e doveva servirlo per vivere in casa di zia bisaccia sentiva talvolta le storielle che si narravano sul conto di pasca pure fremendo per opposte passioni gelosia ira contro i maldicenti disgusto dubbio amore egli le riferiva ingenuamente ogni cosa ma bastava un bacio di pasca per rasserenarlo in fondo però come lievito acre gli restava la gelosia e avrebbe voluto sposarsi subito oltre che per soddisfare la sua violenta passione perché era certo che pasca diventando sua moglie non avrebbe più guardato altro uomo e le chiacchiere sarebbero cessate un giorno domandò a zio Pietro è vero zio Pietro che quando un pastore torna da fare il soldato e non ha nulla gli amici gli danno ciascuno un capo di bestianome e così mette su un buon greggio secondo se un giovine onesto e ben voluto e a voi quando siete tornato da fare il soldato vi regalarono le pecore sì e poi vi siete sposato e poi mi sono sposato raccontatemi zio Pietro raccontatemi senti allora tutti mi volevano bene ma anch'io non è per vantarmi non facevo male a nessuno quando avevo la tua età ero anch'io servo avevo una padrona vecchia come una strada il suo figlio unico quando io ero al loro servizio venne arrestato e condannato a cinque anni di prigione la padrona ne ammalò per il dispiacere tanto che stava per rendere gli spiriti al Signore sapendo che la giustizia si sarebbe preso tutto si ereditava il figliuolo cosa fa fate stamente il mio favore sicura che io come le avevo promesso avrei restituito tutto al figliuolo quando questi sarebbe tornato dal carcere e così feci e il figliuolo mi regalò venti capre pregne Basilio ricordò la storiella del porchetto di zio Bacchis e guardò fisso il cieco che differenza fra l'ometto degli occhi azzurri e questo gran vecchio che raccontava così semplicemente le sue buone azioni cuor mio esclamò ridendo e battendosi un pugno sul petto io mi avrei tenuto tutto e poi chiese zio Pietro severo poi avrei sposato una bella ragazza facevate l'amore allora voi o si vede che non facevate l'amore lo vedi ti sbagli lo facevo anzi ma se la beata Maria Grazia mi avesse ritenuto capace di disonestà non mi avrebbe sposato o che dici davvero Basilio curvò la testa sul focolare spento ma quasi sulla pietra ardesse il fuoco sentì una vampa bruciargli il viso pensava a pasca almeno la metà almeno la metà zio Pietro siete stato stupido disse poi ridendo ad un falso riso nulla nulla essa non mi avrebbe voluto era una donna semplice disse Basilio e uscito fuori sputò con disprezzo vecchio della montagna di Grazia dell'Edda capitolo decimo tornò la primavera l'erba cresceva foltissima sui pianori le siepi fiorite di biancospino panevano ancora coperte di neve sotto il bosco si sentiva l'umida fragranza dei ciclamini delle viole e dei mughetti e fin dentro la capanna arrivava il profumo del moschio fiorito da ogni roccia sgorgava un ruscelletto fatta a rio la fontana attraversava l'orto che Melchiorre ricominciava a solcare si slattava nei capretti serrando il loro musetto in una rozza museruola di legno si cominciava a venderli e con latte abbondante si faceva il cacio le faccende essendo triplicate i pastori avevano meno tempo di abbandonarsi alle loro passioni Melchiorre mungeva di nuovo le capre all'alba e subito Basilio scendeva in città quindi non più convegni notturni con Pasca ma ella scendeva ogni mattina per tempo alla fontana nell'ora in cui Basilio doveva ritornare sulla montagna ed egli la tendeva fermo col cavallo sull'orlo del sentiero appena scorgeva la figurina di lei attraversare agilmente lo stradale i cui paracarri brillavano di ruggiada metteva una grossa pietra sull'estremità della fune del cavallo e scendeva correndo il ciglione dallo stradale teneva ad occhio il cavallino rassegnato e campeggiato in aria e chiacchierava un po' con la ragazza più di una volta furono visti così assieme e la gente disse che Pasca e Melchiorre avevano riannodato la loro relazione e che Basilio era il messaggero la cosa fu riferita a zia Bisaccia quindi al pastore cos'è questo pasticcio e gli chiese al mandriano che hai tu da vedere con quella al nome insultante Basilio sentì il sangue montargli al capo ebbene volete saperlo sono il suo fidanzato cosa avete da dir voi la sposerò Melchiorre si mise a ridere una risata che gli gonfiò il petto e gli illuminò gli occhi da quanto tempo non rideva così Basilio avrebbe preferito uno schiaffo oh 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 ah 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 guidava Melchiorre curvandosi e battendosi le mani aperte sulle anche dubitavo della cosa ma che fossimo a questo punto buona fortuna buona fortuna non disse altro non insultò non scacciò Basilio come questi temeva non mostrò alcun rancore non nominò mai più la cugina ma Basilio da quel momento si accorse d'essere trattato con beffa continua con ostentata compassione con malcelata diffidenza e se ne sentì umiliato e tentò anche d'andarsene cercando segretamente un altro padrone ma nessuno gli offrì le condizioni vantaggiose che godeva presso i carta ed ora egli aveva bisogno di guadagnare molto da accumulare e nascondere il suo denaro da più mesi non mandava un centesimo alla sua povera madre pensiero suo continuo e struggente era di acquistare un piccolo greggio e sposarsi con Pasca ma ogni capra costava dieci lire quanti mesi quanti anni ancora doveva servire per accumulare nella sua unta borsa di pelle stretta da una correggia almeno quaranta o cinquanta di quei piccoli fogli colorachi con l'immagine del re inoltre doveva fare il servizio militare e se lo lusingava la speranza di ricevere al ritorno sebbene non lo rese un certo numero di capre secondo l'antico costume il pensiero di lasciare Pasca e forse di venire da lei dimenticato lo tormentava giorno e notte con l'avanzare della primavera il suo amore cresceva rigoglioso come la vegetazione della montagna il musco copriva le rocce con la sua fioritura carnosa e vermiglia la ginestra indorava i ciglioni fiorì la sfodelo fiorì tutto il bosco cangiando in paritempo le foglie un soffio voluttuoso percorreva le alte erbe fra cui le nove caprette si rincorrevano lasciando solchi argentei mentre alcune capre tisiche ricercavano con mirabile istinto i cespugli medicinali che prolungavano la loro grama esistenza basilio basilio respirava con volutà quel soffio ancora puro e già ardente pregno di irritanti profumi nelle lunghe sieste tornava a sdraiarsi al sole come nello scorso agosto sprofondando le mani calde fra l'erba fresca e pensieri affannosi e desideri indicibili lo facevano spasimare un giorno agli ultimi di maggio Melchiorre prese otto grossi capretti che ancora gli restavano li legò per i piedi e li attaccò quattro per parte alla sella del cavallo e mandò basilio in un villaggio al di là della valle da un negoziante che desiderava comprare i capretti basilio partì cantando spingendo in avanti il cavallo carico sui cui fianchi i capretti a testa in giù abbandonavano il corpo lanoso scese pei boschi fioriti attraverso le rocce rosse di fior di musco si inoltrò giù nella valle pei sentieri incavati ove la ginestra gettava i suoi archi d'oro guadò il fiume sulle cui acque verdi il sambucco stendeva le ombrelle dei suoi fiori e riprese a salire sulla montagna di schisto fiorita di rose canine in una brughiera tra fittissime macchie di lentischio vide pascolare un puledro grigio dalla coda mozza allora smontò prese la cordicella legata all'arcione del suo cavallo la lanciò al lungo collo del puledro lo prese e gli si slanciò sulla groppa nuda col proposito di rilasciarlo lì al ritorno e via per la brughiera che pareva un selvaggio mare dalle onde verdi solo un cuculo batteva la sua nota acuta sfumata nell'immenso silenzio pareva il melanconico palpito della solitudine basilio passò eretto sul puledro come un giovine centauro emergente da quel selvatico mare di lentischi gli sembrava che il puledro fosse suo che suoi fossero il cavallo e i capretti e tutto lo spazio che attraversava e che tutto fosse in suo potere di vendere per presentarsi a pasca al ritorno con la borsa colma e l'anello di sposa lo invase una smania di slanciarsi alla corsa attraverso l'altipiano gettando grida selvaggia alle libere lontananze primaverili giunto al villaggio vendè i capretti gli chiesero se il puledro era da vendere egli guardò la sella vuota del cavallo e pensò che era naturale rifare il viaggio su quella e non sul dorso nudo del puledro e lo vendette al ritorno era notte ripassando nella brughiera sentì il cucculo singhiozzare ancora lentamente invisibile nella solitudine desolata i lentischi brillavano all'oblicuo raggio della luna nuova sentì un brivido alle reni ebbe un vago istinto di paura e di tristezza ma passato oltre gli parve che ogni pericolo fosse svanito dopo il primo passo riuscito a meraviglia il puledro era stato comprato da un forestiero allontanandosi subito dal nuorese basilio trovò la sua via e allorché venne avvisato per la leva si infiammò gli occhi con bagni d'acquavite soffrì inauditi tormenti ma sceso a nuoro per la visita militare fu riformato per oftalmia verso la fine dell'estate era invece già completamente guarito nulla era cambiato nell'ovile dei carta solo basilio fattosi alto e serio aveva negli occhi un'ombra continua la lepre grossa e dura sempre silenziosa e inutilmente viva pareva avesse smesso il suo sogno di fuga le sue corte palpebre s'abbassavano sugli occhi con melanconica stanchezza doveva aver dimenticato la vigna natia i fratelli forse morti le danze alla luna e zio Pietro continuava a soffiare nel fuoco col suo bastone spazzava la mandria con l'alta scopa di siepe preparava i pasti si pettinava sul fazzoletto rosso pregava e narrava storielle il suo cuore si rasserenava il piccolo giglio del monte aveva esaudito le sue preghiere spazzando le nuvole dall'oscuro orizzonte della sua vecchiaia serena adesso come una interlunare notte estiva un giorno che erano soli Melchiorre gli disse padre sentite zia bisaccia mi vuole dare moglie se è buona prendila ma hai dimenticato l'altra è buona disse Melchiorre senza rispondere alla domanda e sua nipote bassotta grassa bruna con gli occhi di gatto una buona massaia come si chiama Benturedda ha qualche cosa molto una casa una vigna una terra una giumenta se è onesta pigliala ma hai o no dimenticata l'altra l'ho dimenticata padre dopo le opportune pratiche di zia bisaccia un giorno d'ottunno zio Pietro montò a cavallo e guidato dal figliolo scese a nuoro a nuoro si cambiò il vestito si lavò si pettinò la barba mise la berretta sarda e condotto da zia bisaccia andò a chiedere la mano di Benturedda questa era come Melchiorre l'aveva con brevi pennellate dipinta bassa grassa col seno e fianchi poderosi olivastra aveva gli occhi azzurrognoli incassati sotto foltissime sopracciglie nere la fronte breve e pelosa sfuggiva nell'arco del fazzoletto molto tirato in avanti la voce uscente dalle labbra grosse e ironiche aveva un timbro maschio sgradevole la madre era sorella di zia bisaccia obesa con un seno enorme e il volto grasso cascante fissò su zio pietro gli occhi celesti infossati come quelli della figliola e cominciò a parlare quasi sillabando stringendo la bocca per darsi aria di importanza Benturedda è giovane molto giovane non ha fretta di maritarsi voi lo sapete compare pietro chi sta bene non si muove chi ha provviste in casa non va a comprare in casa degli altri nostra signora sia lodata noi non abbiamo a lamentarci della carestia sebbene preparata alla domanda del vecchio e con la risposta già pronta fingeva di voler ancora pensarci su ma zia bisaccia gridò ma che tempo che tempo sorella mia ascolta bene ascolta tua sorella tua figlia è ricca ma il chiorre è ricco cosa diavolo stiamo ad aspettare essi hanno casa e contava al solito sulle sue ditta hanno terre bestiame pane vino lana olio palle che ti trapassino il corpo cosa vuoi dunque aspettare sorella mia ma che modo di parlare è questo tuttavia si lasciò convincere e rispose di sì avrebbero dato l'entrata a melchiorre per tutti i santi la ragazza porse da bere a zio pietro e parlò con sostenutezza alla vostra salute e all'adempimento dei nostri voti augurò zio pietro sollevando il bicchiere con mano tremante anche il cuore gli tremava e la ruga della fronte gli si sollevava a turgida una infinita tristezza lo invadeva davanti a quelle donne che parlavano come uomini la voce e il riso di quella che melchiorre gli aveva detto buona e onesta gli destavano antipatia e pensava a pasca dalla voce armoniosa e dal riso infantile che spandeva gioia ovi vibrava come mai melchiorre aveva dimenticato melchiorre intanto attendeva in casa di zia bisaccia ritto sulla porta fumando un mezzo sigaro sardo quando vide tornare zio pietro sputo lontano e chiese con calma ebbe vi hanno dato una zucca si rispose il vecchio non vedi quanto mi pesa zia bisaccia rideva col suo strano riso che non le smuoveva un muscolo del volto prese prese la mano di melchiorre e contandogli le dita ripete l'antifona voi avete bestiame avete casa terre olio latte lana vino mia nipote farà la far suo perché è mia nipote a tutti i santi l'entrata smetti quel muso da vampiro melchiorre carta e ricordati sempre di zia caterina che ti ha reso felice egli lasciò dire con la mano inerte e uno stupido sorriso sul volto lana olio latte caccio case bestiame vino miele non ti basta tutto questo per essere felice se non ti basta vai impiccati per tutti i santi parliamo del regalo da farle un fazzoletto o del denaro del denaro del denaro figlio mio il fazzoletto si consume il denaro si conserva io ho un mezzo marengo d'oro ti cambierò la carta e senza agio va bene disse egli e pensava a pasca e al primo regalo che l'aveva fatto ella gli aveva ricambiato un fazzoletto da naso con un cuore ricamato in cotone rosso padre e figlio risalirono un po' tristi la montagna dove la nebbia d'autunno inumidiva già le foglie secche e velava il bosco e rientrarono silenziosi nella capanna quasi ritornassero dall'aver compiuto una cattiva azione essi indovinavano scambiavolmente il loro malcontento ma non se lo comunicavano Melchiorre si sentiva forte e rassegnato nella sua tristezza il passo era fatto e sebbene egli non amasse la nuova fidanzata era deciso a sposarla ma a misura che i giorni passavano un vuoto triste e caliginoso come l'orizzonte allagato di nebbia stendevasi attorno di lui l'anima rinuotava rassegnata di quella fosca rassegnazione che dà la perdita di ogni speranza ma se durante le pratiche di zia Bisaccia egli era stato sostenuto dal desiderio di far rispetto a Pasca col suo nuovo fidanzamento ora compiuto questo i ricordi gli tornavano insistenti con insidiose tenerezze con tumulti di sdegno contro se stesso che non sapeva dimenticare Pasca era malvagia era maligna e leggera era una donna perduta ma poiché ella non poteva più appartenergli come moglie tutto questo non gli recava più ira né dolore ricordava di lei solo la creatura bella e affascinante che possedeva la malefica potenza di far perdere il senno a chi l'avvicinava e in questo morboso ricordo si smarriva con l'angoscia nostalgica di chi ha la certezza di non possedere mai la persona amata e la presenza di Basilio lo irritava maggiormente sebbene sentisse che Pasca si burlava di quel fanciullone come se era burlata di lui e che lo vorrebbe ben presto tradito e abbandonato il giorno di tutti i santi scese a Nuoro e andò a far la prima visita alla fidanzata fu ricevuto in cucina e si sedette lontano dalla ragazza senza osar di guardarla parlarono di cose indifferenti di capre di banditi dei figli di zia Bisaccia di cui alcuni erano ancora in carcere e gli altri non avrebbero tardato ad entrarci Melchiorre udiva solo la voce grossa e sonora della ragazza e con la mano in tasca palpando la piccola moneta d'oro pensava quasi con paura come farò se la madre per disgrazia ci lascia solo io non voglio baciarla no non ci fu quel pericolo ed egli pote andarsene freddo e rigido come era venuto dopo aver messo sulla palma della mano di Benturedda la piccola moneta d'oro quando Basilio seppe che il padrone s'era fidanzato e che fra poco si sarebbe sposato invece di rallegrarsene trovò un mordente impulso di invidia sposiamoci disse supplicando a pasca appena poteva vederla sposiamoci ho il danaro per acquistare trenta capre trenta capre ci vuole altro bello mio sposiamoci pasca sposiamoci io non posso più vivere così io non posso più vivere senza di te spasimava e la saliva con baci selvaggi io commetterò qualche pazzia se tu non mi sposi ti comprerò sette anelli e la medaglia d'oro ti sposerò quante volte l'abbiamo detto abbi pazienza agnello mio ma quando ma quando subito subito prima del padrone prima il tuo padrone si sposa e la chiese stupita allontanando la sua dalla faccia di Basilio e spingendolo per gli omeri si sposa si 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 sposa non lo sapevi sposiamoci anche noi pasca con chi con chi io con te tu con me dico con chi si sposa Melchiorre domandò ella rudemente e le labbra le si incresparono pronunciando quel nome perché perché l'anima della donna è uno stagno nelle cui profondità dormono mostri che un lieve soffio può destare Melchiorre sposava un'altra donna dunque si era facilmente confortato chi è chi è dimmelo Basilio Venturedda la nipote di zia Bisaccia è brutta ma è ricca disse Basilio appoggiando la fronte sulla spalla di lei ed egli vuol bene a quell'orrore e la domandò come parlando fra sé non è possibile non è vero sei bugiardo io non so se le voglia bene so che è andato a trovarla e che le ha regalato una moneta d'oro come non lo sapevi sposiamoci anche noi che ci amiamo sposiamoci Pasca vuoi che anch'io ti dia una moneta d'oro se la vuoi domani te la do fermo nella sua idea egli gemeva come un bambino sfregando la fronte sulla spalla di Pasca dimmi di sì promettimelo Pasca Pasca mia Rosa mia promettimelo non me ne andrò se non mi dici di sì comprerò le capre comprerò il frumento e l'orzo per le provviste nulla ti mancherà vedrai mia madre ha cento scudi nella cassa e me li darà tutti Rosa mia per comprare le capre e gli anelli e la medaglia per te cento scudi ella disse come non sogna è poco agnello mio troppo poco troppo poco e se fosse il doppio il triplo egli teneva gli occhi chiusi la fronte sulla spalla di lei e tremava tutto allora sì mormorò Pasca e come Melchiorre aveva pensato a lei domandando un'altra donna in moglie ella pensò a lui promettendosi a Basilio oh no ella pensava con rancore non valeva la pena di tradirlo se dovevo finire con lo sposare il suo mandriano allora sì allora sì esclamò Basilio ergendosi sulla persona bada che me l'hai promesso bada se non manterrai la promessa ti ucciderò come mi ha ucciso lui pensò Basilio a cui ella arrivava appena fino al collo le morsicò i capelli io sono più alto di te quando saremo marito e moglie l'allegria mi farà crescere ancora di più come farai a baciarmi chichinirai tu credo io la sua voce era triste ed ironica egli si curvò infatti e la baciò ma le belle labbra di lei rimasero fredde come quelle di una morta il suo pensiero correva lontano ma Basilio inebriato della speranza di sposarsi presto non si accorgeva della freddezza di lei e se ne andò pensando al modo di duplicare il suo capitale nascosto nel cavo di una roccia re i pensieri volteggiavano come foglie putride nel turbine della sua passione quell'inverno fu ancora più rigido degli inverni passati continue nebbie dense e fredde avvolgevano l'ovile e quasi ogni giorno cadeva un po' di nevischio si dovettero fare rozzi ripari per le capre e i pastori abbandonata la capanna dove il freddo era intensissimo si ritirarono in una grotta davanti alla cui apertura costruirono una tettoia di frasche per meglio ripararsi dal vento che si sbatteva contro le rocce con boati di mostro il fumo coprì ben presto di una patina nera la lucente volta irregolare alle pareti granitiche della grotta là dentro zio Pietro seduto davanti al fuoco con le mani appoggiate l'una sull'altra sul bastone fermo tra le gambe pareva una figura preistorica gli occhi chiusi nel sogno d'apocalittiche visioni e apocalittiche visioni erano al di fuori delle mostruose volute delle nuvole correnti sul cielo il caos pareva fumasse all'orizzonte dall'immenso crogiolo del mare vaporavano nebbie che salivano senza tregua incontrandosi con le nebbie della montagna e in quel velario ora grigio e diafano ora fumoso e fosco le rocce e gli alberi apparivano e sparivano in chimeriche sfantasmagorie nelle lunghe notti se sopravveniva un po' di calma e la luna invernale passava come un grandocchio velato di lacrime attraverso la nebbia e i cirri volteggianti delle nuvole un sovrumano incanto di tristezze e di sublime desolazione regnava lassù sudiva lo scroscio dei torrenti e quel roteare di acque sul granito riempiva la notte d'arcane armonie pareva che al di sopra dei boschi addormentati le cui ghiande castanee nelle loro piccole coppe filogranate lucicavano come perle alla luna passasse il cocchio della dea della notte e della solitudine i pastori dormivano entro la grotta coi piedi rivolti al fuoco accovacciati nell'ombra il gatto e la lepre parevano donnole addomesticate e completavano così il quadro preistorico ma il sonno di basilio si era fatto leve e inquieto ad ogni piccolo rumore sollevava la testa e ascoltava con gli occhi chiusi talvolta s'alzava usciva fuori e percorreva i dintorni fermandosi ogni tanto col viso eretto alla luna l'alta persona snella il bel capo ricciuto e il profilo greco circondati come da un'aureola vaporosa sullo sfondo lunare potevano ricordare il giovine endimione sul ciglione della selva in attesa dell'amante sublime e basilio spiando le spiacevoli sorprese che la notte poteva apportare pensava alla sua Diana e se non la attendeva tra i freddi vapori della montagna sentiva però un continuo delirio d'attesa invece di calmarsi col tempo e con la sicurezza del conseguimento il suo amore diventava spasimo volesse o no il padrone egli scendeva quasi ogni giorno a nuoro e cercava pasca e le andava dietro perdutamente tutti ormai conoscevano la sua passione a nuoro egli si indugiava anche con Felix il quarto figlio di zia bisaccia col quale aveva stretto intima relazione essendo annata di ghiande molti pastori porcari popolavano il bosco con i loro branchi di maiali già grassi anche le capre sebbene per istinto non toccassero le ghiande e neppure l'erba dove i porci erano passati riconoscevano al fiuto l'immondo passaggio avevano tanta pastura che il latte ne veniva troppo denso e i delicati capretti risentendosi dell'eccessivo nutrimento s'ammalavano ritato per altre ragioni Melchiorre pretendeva che fossero i porci a guastargli il pascolo e proibì al pastore vicino di attraversare la sua tanca l'altro promise ma non mantenne e un giorno Melchiorre trovati sotto gli elci alcuni porcellini li rincorse e li cacciò nella fuga i porcellini si sbandarono e alcuni precipitarono in un dirupo e si storpiarono il porcaro venne a parole con Melchiorre si ingiuriarono si rinfacciarono dei delitti immaginari e da quel giorno rotte le buone relazioni di vicinanza si negarono il saluto questo finì di inasprire Melchiorre egli scendeva ogni domenica a Nuoro per visitare la fidanzata che gli diventava sempre più odiosa dopo le prime cerimonie madre e figlia gli si mostravano come veramente erano maligne pettegole avare fino alla sordidezza piene di borie in quattro mesi non una dolce parola era passata tra i due fidanzati l'enorme mole della madre vigilava il focolare una sera Melchiorre si trovò solo con lei è vostra figlia domandò sedendosi a testa china con gli occhi fissi per terra fra i suoi due piedi è uscita tornerà tra poco rispose la donna guardandola attentamente dopo un breve silenzio disse adesso che siamo soli voglio parlarti di una cosa cosa egli domandò sollevando gli occhi senza alzare la testa senti Melchiorre figlio mio tu sai che a me non piacciono le chiacchiere e i pettegolezzi tutt'altro penso egli si tratta di cosa seria e grave è dunque venuta qui una persona seria una persona buona così fossi io e questa persona mi disse in fede di cristiani battezzati ditemi è vero che date vostra figlia a Melchiorre è vero state attenta a quel che fate perché egli naviga in cattive acque e non tarderà ad essere posto in mani della giustizia per Dio gridò Melchiorre è più adirato che spaventato battendosi un pugno sul ginocchio ricomincia il gioco che vuoi dire che gioco continuate bene dopo molte preghiere scongiuri finalmente la persona mi diede qualche indizio pare sia stata tua cugina Pasca a svelare qualche cosa sai bene la donna abbassò la voce Pasca e Serva e dicono io l'ho inteso non affermo sia vero liberaci Dio Serva e qualche cosa di più presso un magistrato pare ci siano denunzie anonime contro di te che cioè accogli i banditi nel tuo vile che si vede spesso bestiame rubato nella tua tanca le labbra di Melchiorre sbiancate fremevano ma non s'aprirono per parlare egli anzi stringeva i denti per nascondere la sua commozione alla donna non ho voluto mai dirti nulla ma con Pasca sono passati dei pettegolezzi da quando ti seppe fidanzato di mia figlia si è lasciata andare persino a dire che se ella voleva tu avresti sposato prima lei che l'otre la chiama l'otre la figlia mia le labbra di Melchiorre sorrisero gli occhi rifulsero di gioia adesso capiva e pensando a Benturedda le sue labbra sorridevano e gli occhi splendevano pensando a Pasca mia figlia è un'otre di latte ma Pasca è un'otre di siero putrido dice inoltre che se lei avesse voluto tu a quest'ora saresti in galera ma che è ancora in tempo visto che la giustizia ti ha sulla punta del naso dopo tutto ciò io penso che ella sparga la voce delle denunze anonime perché il matrimonio tuo con mia figlia vada in fumo tuttavia Melchiorre mio figlio mio sentimi bene io ti promisi mia figlia perché ti so un giovine onesto laborioso e buono è benestante proruppe lui è benestante anche non si vive di solo amore ma che amore con le braccia incrociate egli stette ad ascoltare le conclusioni mentre la donna radulciva la voce fino a renderla umile e sono pronta a mantenere la promessa ma casomai se tu non ti sentissi tranquillo se per caso alla fine si è uomini e soggetti all'errore donna egli disse acerbamente io non sono un ladro e se non avessi dato già abbastanza dispiaceri a quel povero vecchio dopo queste vostre parole me ne andrei e non rimetterei più piede in questa casa tu mi hai frenteso esclamò allora la vecchia e cercò di rabbonirlo e appena rientrò Benturedda cambiò discorso Melchiorre fremeva di nuovo assalito dalla paura di pericoli ignoti anche le due donne che non lo amavano e difidavano di lui gli parevano due nemiche pure in fondo una segreta dolcezza lo confortava Pasca aveva detto aveva detto che ella volendo egli si sarebbe più volentieri sposato con lei che con la fidanzata la cui voce sembrava davvero il gorgoglio di un'altra e la dunque ammetteva una loro riunione era gelosa fosse ogni altro sentimento il dispetto l'odio il dolore la vergogna tutto svaniva davanti all'insidiosa dolcezza che le parole dispettose di lei gli davano egli sentiva di disprezzarla e non avrebbe più voluto sposarla anche se ella fosse stata carica d'oro ma la desiderava con angoscia e il solo pensiero di rivederla gli dava un fremito di piacere uscì stravolto e rientrato da zia Bisaccia le raccontò ogni cosa vorrei scambiare due parole con Pasca fate in modo che io possa parlarle zia Caterina voglio sapere voglio vedere se c'è qualcosa di vero in tutto questo pasticcio zia Bisaccia diventò pensierosa se mi prometti di non fare nuove pazzie procurerò di farla venire qui stasera stessa andate andate sono passati quei tempi allora la donna indossò la tunica rigettando nei lembi sugli omiri e uscì cadeva la sera Melchiorre rimase presso il fuoco col volto nascosto fra le mani quando zio Pietro era andato a chiedergli Benturedda in esposa egli non aveva atteso con tanta ansiosa inquietudine Pasca passeggiava su e giù per il corso fra gruppi di domestiche dallo sguardo carezzevole e di bimbe che parlavano di mode e sparlavano del prossimo come donne già fatte il padroncino di Pasca sempre mingerlino col visuccio pallido affondato in un colletto di pelo camminava a fianco della ragazza e dietro il cagnolino nero col suo campanellino col collare che pareva d'oro il crepuscolo invernale era freddo e luminoso la luna piena sorgeva dall'ortobene sospesa come un'enorme perla sul tenero azzurro del cielo espandeva un riflesso d'acqua sul lastrico bagnato del corso zia bisaccia attraversò le strade col suo fiero passo da cavallo indumita borbottava tra sé con infinito disprezzo mille ingiurie contro i signori e le signore e specialmente contro le serve che passeggiavano sfacciate e sfaccendate finalmente vide chi cercava psss soffiò traendo un dito fuori dalla tunica incrociata sul petto cosa volete chiese Pasca avvicinandosi sorpresa voglio te vuoi venire un momento a casa mia c'è una persona che vuol parlarti chi è cugino tuo zia Caterina interrogò Pasca guardandola un po' stupita un po' spaventata non aver paura è in casa mia e basta verrò subito allora per voi per me un corno rispose la donna e voltando le spalle si allontanò nera nella sera luminosa Melchiorre attendeva dando le spalle alla porta nella cucina si addensava il buio e alla mobile luce rossastra della fiamma grandi ombre tremavano sulle pareti ancor prima che zia Bisaccia rientrasse egli sentì dei passi leggeri e un tintinio di campanello nel cortile si volse e vide una donna un bimbo e un cane fermi sulla porta Pasca disse alzandosi perché hai condotto questo signorino il bambino guardava con occhi spalancati Pasca sollevò il corruore sopracciglia accennando a Melchiorre di essere prudente siamo venuti per cercare zia Caterina che mi voleva dov'è? prima siediti qui Efes Pasca fece sedere il bimbo sulla panca davanti al focolare accanto a lei e lo strinse a sé quasi per difendersi casomai Melchiorre il cagnolino seguito dall'inquieto sguardo di Efes girava per la cucina fiutando ogni cosa e sempre il campanellino suonava e il collare splendeva quanti ricordi amari per Melchiorre ritto davanti al focolare egli fissava avidamente Pasca con uno sguardo d'odio e di passione gli sembrava che senza la presenza di quel bimbo che gli riusciva odiosa e nello stesso tempo lo intimoriva avrebbe ancora percorso sua cugina gettandola a terra e calpestandola e in pari tempo la bocca rossa e fresca di lei il suo viso infantile le sue movenze graziose gli ricordavano Benturedda rozza e dalle labbra grosse come quelle di una mora e aumentavano il suo disgusto per la fidanzata con tenerezza e con desiderio ricordava i baci dati a quella bocca di rosa e di fuoco che gli sorrideva così vicina eppure tanto lontana perché tanto lontana oh no se fossero stati soli avrebbe afferrato Pasca e invece di percuoterla l'avrebbe baciata e morsa come la volpe affamata morsi caragnello ma il padroncino di Pasca era là con le manine in tasca che lo guardava ogni tanto con uno sguardo fisso e diffidente è il figlio del tuo padrone questo sì ella rispose e rise sfidando coraggiosamente lo sguardo che la divorava perché ridi perché ne ho voglia bellino domandò Melchiorre rivolto al bimbo è vero che questa donna qui ti fa da cavallo e che tu la frusti per far piacere a tuo padre non è vero rispose l'esile vocina Pasca balzò in piedi offesa non son venuta per ascoltare insulti me ne vado andiamo Efes per fortuna rientrò Zia Bisaccia fermò Pasca sulla porta e dopo aver raccarezzato rudemente il bimbo prese una lucerna d'ottone tutta pesta si curvò sul focolare con le dita sparpagliò il lucignolo e lo immerse nella fiamma l'olio gocciolò sul fuoco e il lucignolo si è acceso bimbo vieni disse Zia Bisaccia appogliendosi una mano e con l'altra tenendo alta la lucerna oleosa che mandava una gran fiamma vieni bello vieni Zia ti darà una cosa buona e gli guardò Pasca va pure disse la ragazza rassicurata dalla presenza della donna ed egli andò volgendosi indietro per chiamare il cagnolino la camera ove Zia Bisaccia lo condusse gli parve oltre ogni dire misteriosa un baldacchino quadrato di stoffa gialla copriva il letto di legno sulle pareti in mezzo a quadretti e immagini pendevano cestini e canestre di asfodelo grandi arche sarde scolpite nereggiavano lugubremente lungo i muri umidi dal soffitto pendevano formaggelli gialli grappoli d'uva di pere e di mele cotogne ma la diffidenza si mutò in gradevole sorpresa quando Zia Bisaccia sollevò il coperchio di una di quelle arche sotto cui il cagnolino era scomparso egli vide grandi corone di fichi secchi attorte come serpenti inzuccherati e uva passa lucente e una pentola colma ad una sostanza dura gialliccia che gli era ignota allungò la testina si fece coraggio cos'è questo miele assaggialo siccome egli esitava Zia Bisaccia cacciò vigorosamente un dito nella pentola e sollevandolo gocciolante di miele glielo costò alle labbra sulle prime egli torse il visino poi non solo succhiò ma leccò il dito di Zia Bisaccia rimasti soli Pasca ferma accanto alla porta chiese a me chiorre cosa voleva da lei cosa voleva egli se ne era quasi scordato è tardi e la disse guardando fuori spicciati che i padroni mi aspettano il padrone ti aspetta vai a letto tutte le sere col padrone il diavolo ti porti ricominciamo sono venuta per questo sì per questo egli gridò afferrandole un braccio è vero che hai detto questo questo e quest'altro che io sono un ladro un manutengolo che il carcere mi aspetta è vero di ripetile a me queste cose subito altrimenti ti farò vedere chi sono io sono stanco sai adesso basta tu vuoi rovinarmi non sono io che mando le accuse anonime e la disse infine dunque è vero dunque parla figlia del diavolo chi le dice a te queste cose le afferrò l'altro braccio e la scosse tutta ella lasciò fare tranquilla non me le dicono le sento io non voglio punto rovinarti cosa mi importa di te ma ho parlato perché non posso vedere quell'otra e maligna e perfida e perché non puoi vederla ella non sepe rispondere macchinò la testa e sembrava turbata perché non puoi vederla se non ti importa nulla di me perché e la taceva Melchiorre non ricordava più perché l'aveva fatta chiamare non ricordava più il suo pericolo le gravi accuse che lo minacciavano solo l'ultimo perché lo urgeva tutto il resto era nulla anche suo padre egli dimenticava in quel momento dopo un breve silenzio domandò con voce mutata non hai paura di me tu perché dovrei avermi posso ucciderti ucciditi egli ebbe il violento desiderio di ucciderla e allora perché un tempo avevi paura di me allora non desideravo morire e ora lo desidero sì perché perché sono disgraziata perché sei disgraziata perché il mondo è pieno di menzogne di calugne di infamie e tutti tutti ci credono tutti mi odiano e tutti soprattutto tutti bastarono queste parole egli si convince che le cose dette sul conto di lei erano menzogne calugne infamie e una gran gioia gli tremò il cuore pasca disse sollevandole a forza la testa e anche calunnia che fai all'amore con il mio mandriano povero ragazzo disse ella col viso sollevato ma con gli occhi lontani dagli occhi che la guardavano pazzamente povero ragazzo ripette egli tra sé guardami comandò ella lo guardò pasca perché mi hai lasciato perché eri geloso e tutti i giorni mi tormentavi mi vuoi bene ancora ancora pasca disse egli come indiglio e tremando tutto se la strinse ferocemente al petto la sollevò tra le sue braccia immerse le labbra in quelle di lei con la stessa assetata avidità con la quale aveva bevuto l'acqua su alla sorgente della montagna nonostante tutta la sua famosa astuzia rientrando in cucina zia bisaccia non si accorse del torto che aveva fatto a sua nipote Benturedda lasciando quei due soli col lucignolo ridotto in braccia la lucerna si spegneva e fisio reggeva una piccola corona di fichi secchi pasca strinse sull'esile collo del bimbo il collare che si pelava come un vecchio gatto e lo trascinò via erano appena usciti che egli chiese quando ci torniamo qui spesso purché tu stia zitto me lo hai promesso voglio vedere affrettò il passo perché vide Felix il figlio di zia bisaccia che tornava a casa ubriaco nella sua ebbrezza Melchiorre ricordò finalmente che zio Pietro doveva aspettarlo inquieto e disponendosi a partire disse alla donna pare che la cosa sia vera non solo ma che sia assai grave c'è gente che mi vuol male non so come finirà io però sono tranquillo perché ho la coscienza pulita ad ogni modo bisogna essere prudenti tarderò a ridiscendere in città dite dunque a Benturedda e da vostra sorella che per qualche tempo non mi aspettino parla 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 incalzò zia bisaccia afferrandolo per il cappotto cosa sono queste lettere nonime cosa ti ha detto quella fraschetta parla sarà poi vero o sarà come il vento che pare racconti cento cose mentre non è che un soffio d'aria se non ci credevate perché l'avete fatta venire e gli chiese aspramente l'hai voluto tu state zitta vedete vostro figlio che ritorna e non è solo a quanto pare felix entrò barcollando con gli occhi chiusi e le mani penzolone vi lascio con gesù e con maria me ne vado salutò il quanto ironico melchiorre e scappò via mentre zia bisaccia aggirandosi su se stessa guardava da capo a piedi l'ubriaco melchiorre che era venuto e se ne andava a piedi sentì gli improperi e gli urli con i quali la madre accoglieva il figlio e disse a voce alta lo dia a sua nipote quello lì era notte la luna alta sul cielo illuminava i bassi tetti delle casupole e le viuzze erbose gli alberi e i cespugli degli otticelli e dei cortiletti di santussula stendevano la venatura dei loro rami ignudi sullo sfondo azzurro latte o dell'aria canti rauchi e dubriachi risuonavano in lontananza pareva una notte d'autunno e in quella luce in quella trasparenza lunare melchiorre dopo tante emozioni sentiva i muscoli agili e avrebbe voluto correre e saltare come un giovine cervo da quanto non si era sentito così felice gli pareva di volare ogni pulsazione del suo cuore diceva pasca 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 come è bella come le voglio bene sarà mia l'otre tarterà a vedermi come liberarmi dalla promessa ma neppure questa domanda turbava la sua gioia selvaggia pasca pasca tutte calunnie tutte infamie di gente che ci vuol male ma adesso tutto è finito ci sposeremo e saremo felici come sarà contento mio padre ah era tempo che le disgrazie cessassero era tempo pasca amante mia cara in lontananza vibravano i canti d'amore dei giovani paesani nuresi e pareva accompagnassero la sua marcia trionfale ino che mi fa che die t'antende a parma dorada ma arrivato davanti al casotto del dazio trasalì si fermò di botto poi si volse per fuggire due carabinieri proiettavano le loro lunghe ombre deforme sul terreno chiaro di luna ma quando si sentì inseguito Melchiorre si fermò e in quel terribile momento benché il profilo del monte ortobene lì davanti gli ricordasse il padre che lo attendeva ebbe un pensiero che lo colmò di gioia la mia coscienza è pura se mi arrestano almeno ho una scusa per rompere la promessa con l'otre il vecchio della montagna di Grazia dell'Edda capitolo 11 nella grotta zio Pietro attendeva inquieto anche lassù la notte era limpida e i boschi taciti sotto il cristallo argente o del cielo ma il gelo si diffondeva con i raggi della luna Basilio aveva raccolto le capre nei ripari e legato il cavallo davanti alla grotta le ore passavano Melchiorre non tornava non è in vano diceva zio Pietro parlando come fra sé siete uno stupido zio Pietro egli è presso l'innamorata e si dimentica il vecchio curvava la testa tanto che la barba gli copriva tutto il petto e taceva poi dopo un po' ripeteva ma e le altre volte non è in vano che tarda così che matto che voi siete ora l'amore cresce e vostro figlio sarà rimasto laggiù come un uccellino nel vischio o forse si è ubriacato egli non si ubriaca oh no mai disse Basilio con ironia ad ogni modo tornerà domani se non torna stanotte oricatevi voi non mi corico non è in vano che egli non torna che ora è mi seccate disse rudemente Basilio ma si alzò tosto e stette sull'apertura della grotta con i pollici fortemente ficcati entro la cintura e il viso in su dalla luna possono essere le otto che è accaduto pensò zio Pietro egli non ha mai tardato così che se si è ubriacato davvero che l'abbiano arrestato e provò tale angoscia che un sudore gelido gli bagnò la nuca in un attimo ritornarono gli antichi terrori tutto fu buio fuori e dentro di lui e in quel momento mentre coi piedi entro i ceppi Melchiorre pensava con dolore a lui egli intuì mirabilmente tutto ciò che era accaduto passato il primo stordimento più che dolore provò paura ma non disse nulla per timore che Basilio lo abbandonasse si coricò ma stette sveglio con gli occhi aperti in quell'immenso e angoscioso buio che lo circondava da ogni parte anche Basilio si era buttato per terra accanto all'apertura ma neppure lui dormiva zio Pietro lo sentiva a muoversi ansioso e nella sua inquietudine capiva che anche il mandriano era turbato perché per affetto per timore non sapeva e l'inquietudine di Basilio aumentava la sua le fredde ore passavano silenziose sui boschi nella luminosità sempre chiara della luna al declino ogni foglia delce aveva una fiammella perlata lunghe ombre si stendevano ai piedi delle rocce e dei cespugli e il torrente lontano continuava a rombare Melchiorre non tornava zio Pietro sentiva che non sarebbe tornato più eppure lo aspettava sempre sveglio immobile sulla stuoia della quale nella dolorosa insonnia sentiva ogni giunco premergli le membra il sangue gli pulsava forte alle tempie entro le orecchie nei polpastrelli delle dita eppure aveva freddo e il rumore del torrente gli sembrava il palpito del suo sangue e provava una impressione di gelo come se tutta la fredda acqua scendesse dai monti e gli scorresse nelle vene Melchiorre non tornava e anche Basilio continuava a vegliare al tramonto della luna il cui chiarore penetrava sin dentro la grotta il giovane si scosse forte si sollevò zio Pietro lo sentisti racchiarsi e sbadigliare poi soffiare sul fuoco spento la fiamma sorse e un improvviso tepore giunse al volto del vecchio gradatamente un dolce calore lo invase allontanando quella gelata illusione d'acqua che lo soffocava il sangue battè meno rapido gli occhi si chiusero mentre stava così assopito gli parve di sentire un fischio ma non ebbe la forza di muoversi Basilio invece accoccolato accanto al fuoco con le ginocchia strette fra le braccia balzò subito in piedi uscì e corse verso la capanna nella radura incontrò Felix il figlio di sia Bisaccia che per la sbornia della sera prima aveva ancora gli occhi rossi e la voce cavernosa hanno arrestato Melchiorre mia madre sa che lo accusano di aver venduto bestiame rubato dicono di averne veduto qui intorno all'ovile Basilio bada a te ragazzotto lo prese per gli omeri lo scosse violentemente oi per chi mi prendi a me fanno un corno rispose Basilio sollevando un dito la luna tramontò un improvviso buio si fece intorno e nonostante la loro bravura i due giovanotti abbassarono la voce probabile che vengano i carabinieri a perlustare la tanca bisogna allontanare quel bue dove diavolo l'hai nascosto sei venuto per questo è dunque per vedere i tuoi begli occhi felix aveva rubato un bue e aspettando l'occasione di rubarne un altro e di venderli tutti e due appaiati lo aveva consegnato a Basilio perché lo tenesse nascosto nella tanca avrebbe poi ricambiato il favore facilitando la vendita di qualche capo di bestiame trovato dal mandriano andarono in cerca del bue lo trovarono sdraiato nel bosco lo svegliarono e lo aizzarono la bestia nera e grassa si inginocchiò pesantamente sulle due zampe anteriori poi si rizzò e si mosse stordita nell'oscurità tru tru oh vai via vai via cominciò a gridare Felix battendo le mani e ricorrendo il bue Basilio si curvò brancicando prese tra la fredda erba una pietra e la lanciò sul fianco dell'animale questo scosse una zampa volse il capo e leccandosi la ferita partì con trotto pesante i due uomini lo rincorsero lungo tratto emettendo strane voci per aizzarlo l'eco della notte ripeteva la pesante corsa del bue e i passi e le voci dei due uomini il cane dell'ovile abbagliava in lontananza zio Pietro restava assopito ma nel sonno affannoso sentiva voci confuse grida passi e l'abbagliare del cane ad oriente gli elci ancora neri rabbrividivano su uno sfondo di cristallo e le capre si cozzavano entro i ripari quando Felix e Basilio entrarono nella grotta il fuoco si era di nuovo spento zio Pietro si svegliò appena sentì la presenza di un estraneo chi è? domandò sollevando la testa e porgendo una mano Felix si chinò gliela prese e lo aiutò a sollevarsi sono io zio Pietro sei Felix e Melchiorre e siccome l'altro taceva gli chiese risoluto lo hanno arrestato? sì questa sillaba sebbene attesa gli diede un mortale dolore uno scomento indicibile signore sia fatta la tua volontà Gemè ma tutta la sua antica fede la sua semplice filosofia la sua bontà e la sua forza caddero come pietre dall'alto entro quel misterioso gorgo d'acque velate che nuovamente lo circondava in vano Felix cercava pietosamente di ingannarlo Melchiorre se ne tornava all'ovile quando incontrò due carabinieri ubriachi che lo insultarono egli rispose vivamente e perciò lo hanno arrestato ma non è nulla zio Pietro state tranquillo non è nulla oggi stesso Melchiorre tornerà non è così perché cercate di ingannarmi gridò il vecchio e da quel momento non ebbe che il desiderio il fermo proposito di scendere a nuoro a qualunque costo per sapere per conoscere tutta la triste verità portami in città Felix portami con te fammi questa carità siete matto zio Pietro gridò Basilio cosa volete farci laggiù strapazzarvi in vano è cosa da nulla è cosa da nulla ripetè Felix per quanto zio Pietro supplicasse non lo esaudirono Felix rimase tutto il giorno e la notte seguente lassù avendo saputo dell'arresto tutti i pastori dei dintorni compreso il vicino Porcaro corsero desolati a confortare il vecchio assicurandolo che fra poco Melchiorre verrebbe certamente rilasciato libero egli ascoltava e taceva con le orecchie intente la ruga dritta in mezzo alla fronte le mani una sull'altra sul bastone e nessuna parola lo confortava nessun conforto lo distoglieva dal proposito di scendere a nuoro eppure per tutto il giorno lo sostenne la speranza di sentire Melchiorre tornare il cane usciva e rientrava inquieto e nervoso e guardava il vecchio gemendo la lepre allungava tratto tratto le orecchie come scuotendosi dalla sua indifferenza solo il gatto fermo davanti al fuoco con la coda assortigliata alle due zampe anteriori conservava negli occhi socchiusi verdi come due smeraldi un'espressione di beatitudine profonda passarono i giorni gli amici si stancarono di visitare il vecchio l'ovile desolato parve un eremo Melchiorre non tornava zio Pietro non mangiava non beveva non si muoveva il suo cranio si fece pallido la barba ingiallì voi diventate matto gridava Basilio con disperazione sincera se continuate così diverrete presto un cadavere e quando Melchiorre tornerà troverà ben in ordine le cose sue bel guadagno fate zio Pietro la giustizia si mangerà tutto portami a nuoro Basilio portami un corno voi restate qui ve lo giuro che mi escano gli occhi e mangiate e bevete e state forte che le cose si rimedieranno zio Pietro non protestava taceva curvava il volto sul bastone ma il suo silenzio era più triste d'ogni querela allora Basilio cercava di intenerirlo gli si inginocchiava davanti come un bimbo e porgeva latte e pane mangiate zio Pietro siate buono piccolo zio mio siate buono che ne ricavate voi da questa vostra ostinazione andiamo siate forte zio Pietro vi ricordate tutte le storielle che vi raccontavate tutti gli avvertimenti che mi davate a che servono essi se non mi date il buon esempio andiamo via siate savio andremo da nostra signora e pregheremo volete volete piccolo zio Pietro mio mamma mia diceva poi parlando fra sé è inutile non capisce un accidente siete diventato sordo zio Pietro urlava alzandosi come farò io quando ho tornato Melchiorre e vi troverà morto dirà che sono stato io ebbene lo so io il rimedio me ne andrò e vi pianterò voi con le vostre capre e i vostri diavoli solo questa minaccia scuoteva il quanto il vecchio l'orrore della solitudine la paura che derubassero l'ovile vinceva nel suo dolore Basilio accudiva malamente a tutto il da fare le mandri erano sporche il fuoco spesso spento il latte monte in fretta riusciva scarso e torbido egli scendeva e risaliva il monte senza indugiarsi a nuoro e dal giorno dell'arresto di Melchiorre per quanti convegni le avesse dato non aveva riveduto Pasca questo finiva di turbarlo dandogli una inquietudine una tristezza intensa un giorno disse sono stufo alla fine ho bisogno d'aiuto bisogna che la veda poi zio Pietro bisogna cercare un aiuto le cose vanno male così volete il vecchio a noi compare Jaco disse al solito Basilio passando dal porcaro vicino badate a zio Pietro e alle capre e al solito il vicino promise ma non mantenne Basilio scese in città cercò nel vicinato di zia Bisaccia un ragazzotto robusto e sfaccendato e gli propose di salire all'ovile per aiutarlo a badare a Greggio durante le sue assenze quanto mi dai quattro lire al mese no dieci dieci puh urlò Basilio sputandogli addosso e osi chiedere dieci lire tu rognoso altrimenti non vengo disse l'altro tranquillo passando la mano sulla saliva di Basilio poltrone cialtrone siete tutti così maledetta razza nurese cani senza padrone morite di fame e quando vi cercano per laverare vi credete dei signori sei di cattivo umore oggi eh disse l'altro con disprezzo ti mette le corna Pasca Basilio andò in cerca di Pasca ma non la trovò fu assalito donna tristezza e rosa e poiché l'ora avanzava e occorreva tornare all'ovile con qualcuno che all'indomani restasse lassù e così gli permettesse di indugiarsi a nuro per rivedere a qualunque costo Pasca tornò dal ragazzo ti do cinque lire no dieci sì no dieci sei mendicante se non accetti ti prendo per il collo e ti faccio uscire le viscere di bocca no dieci dopo tutto pensò Basilio non si tratta delle mie costole sette gridò l'altro accettò e presero la via dell'ortobene caricandosi l'un l'altro di improperie e di minaccia tremende ma giunti presso l'ovile Basilio disse smontando da cavallo sta zitto botte di feccia se quel buon vecchio ci sente ci sgrida ma per quanto lo ricercassero quel buon vecchio non c'era zio Pietro aveva lasciato il suo triste posto verso il fuoco appena Basilio era partito pensava gli andrò dietro udrò i suoi passi e mi orizzonterò se si accorgerà di me a mezza via non avrà il coraggio di farmi tornare indietro per un tratto la cosa andò bene egli conosceva il sentiero che conduceva fuori dalla tanca e poté percorrerlo tendendo appena di tanto in tanto il bastone in avanti e palpando l'aria con la mano sinistra davanti udiva distintamente il passo del cavallo di Basilio la giornata era bella si sentiva un soffio che annunziava la primavera la fragranza dei sereni pomeriggi montani profumava l'aria e nella serenità silenziosa tremolava solo il grido di una gazza e più lontano mormorava il ruscello oltrepassato il varco della tanca zio Pietro si fermò indeciso sentiva sempre il passo del cavallo ma gli pareva di aver smarrito il sentiero tuttavia proseguì il terreno era piano molle erboso per quanto protendesse il bastone in giro zio Pietro non trovava alcun ostacolo ingannato da ciò per un tratto procedè tastando solo il terreno tendendo l'orecchio al passo del cavallo al grido della gazza al mormoria del ruscello che si avvicinava all'improvviso un ardore doloroso gli bruciò la testa aveva battuto contro un tronco si fermò portandosi la mano alla fronte e lacrime coccenti gli bagnarono le palpebre un'onda di disperazione gli coprì il cuore un'angoscia indefinita si fuse al dolor fisico chiamò gemendo Basilio e gli parve che il passo già molto lontano si fermasse ma per quanto ripetesse la chiamata nessuno accorse cessato il primo stordimento riprese la via fermandosi ad ogni passo per tastare il terreno e il davanti e i lati del sito percorso ciò nonostante scivolava spesso il terreno gli mancava sotto i piedi ruvide fronde gli sferzava nel volto ora udiva il grugnire di porchetti sparsi al pascolo ma il grido della gazza si allontanava e il passo del cavallo sudiva solo a intervalli ma bastava quel tenue eco ripercontentesi nel silenzio del bosco soleggiato perché la vecchia anima non si smarrisse nella tenebra in cui precedeva avanti coraggio Pietro carta la salvezza di tuo figlio forse dipende da questi tuoi passi avanti egli diceva a se stesso e pensava a Pasca e al magistrato suo padrone di costui ricordava la buona accoglienza la pietosa cortesia della signora sua moglie e sperava sarebbe andato a trovarli avrebbe domandato pietà a Pasca a tutti a quale azione non si sarebbe egli piegato per salvare il figliolo avrebbe detto adesso basta adesso sarete contenti adesso lasciateci vivere giustizieri diceva fra sé rivolto a invisibili personaggi rendetemi mio figlio che è innocente togliendomelo mi togliete una seconda volta la luce il male i delitti le rapine le viltà le commettono gli altri non mio figlio i colpevoli cercateli altrove uomini del re questa volta il delitto lo commettete voi e poi volete che io mangi che io beva che io mi lavi che io mi pulisca la testa e non mi muova mentre mio figlio soffre di corpo e di anima innocente sentite innocente l'aspra fragranza delle nuove felci esalava intorno egli dovette procedere ancora più cauto e lento attraverso la molle e vegetazione rinascente e intanto il passo del cavallo lontano ormai sfumò via più riducendosi quasi a un fruscio percepibile appena dal suo fine udito una volta egli cade lungo disteso sul dorso non si fece male perché l'erba attutì il colpo ma perdette il bastone e dovette a lungo brancicare qua e là per ritrovarlo in questa ricerca affannosa cessò di pormente al passo e questo gli sfuggì del tutto quando ritrovato il bastone si sollevò gli parve di essersi smarrito in una solitudine insidiosa ebbe l'impressione che qualcuno che prima lo accompagnava lo avesse perfidamente abbandonato ed isperò di arrivare a nuoro in vano le orecchie tese cercavano di raccogliere i suoni più lontani e vaghi nel tiepido tramonto non si muoveva una foglia e il gorgheggio di qualche gazza accresceva il silenzio dell'uovo zio Pietro pensò che doveva aver fuorviato verso nord se non incontrava nessuno se non udiva un passo umano poiché in quella stagione la montagna era piuttosto abitata quel dubbio accrebbe la sua inquietudine ma proseguì sperava sempre di incontrare qualcuno che pietosamente lo accompagnasse eppure temeva quest'incontro pensando mi inganneranno mi ricondurranno all'ovile giacché pare si siano dati tutti la parola per non lasciarmi scendere a nuoro allora cercò di andare di fronte al sole orientandosi dal suo teppore ma lo sentiva calare fra poco sarebbe tramontato e dove andare poi mancandogli anche quella guida infatti sparito il sole ben presto egli fuorviò nuovamente verso nord ritornando nel bosco il suo bastone batte incessantemente sulle rocce un grato teppore alitava ancora intorno e si sentiva il profumo dell'edere e del musco ma l'ombra del crepuscolo calava già sul monte e zio Pietro sentiva le sue ombre interne addensarsi invece di scendere ora egli saliva dove andava dove era che c'era intorno a lui la disperazione crebbe il suo cuore pareva stretto fra due di quelle rocce che si seguivano sovrapponendosi le une alle altre il suo bastone e la sua mano ormai non si posavano che sulla pietra e i piedi ardenti di stanchezza si sollevavano a stento per proseguire e gli brontolava fra sé devo trovarmi su qualche cresta se potessi ritrovare la discesa forse arriverei dove in qualche precipizio torna torna indietro vecchio la sera si avvicina no 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 non voglio scendere voglio arrivare Melchiorre aspetta se potessi trovare la discesa arriverei dove non certamente a Nuoro forse in qualche luogo più lontano dove Melchiorre non t'aspetta torna indietro vecchio pietro ma il bastone continuò nella sua lenta esplorazione e i piedi nell'astra salita per un breve tratto le rocce cessarono il bastone trovò un terreno molle di foglie fracide ed erba ma poi toccò di nuovo la pietra sprofondandosi spesso nel musco o in fenditure delle quali non sempre raggiungeva il fondo zio pietro si sedette un momento sentì che in quel sito non c'erano alberi e che la luce del vespro illuminava ancora le rocce lassù era il dominio della pietra e le creste della montagna dovevano ergersi vicine forse sul suo capo stanco qualche soffio di brezza gli gelò il sudore che gli inumidiva la nuca dandogli un senso di angoscioso raccapriccio ebbe il desiderio di gridare domandando aiuto eppure non si pentì di essere partito solo disse dove sono oh signore mio ritornatemi nella via buona o sia fatta la vostra volontà forse non troverò la via e passerò una ben triste notte ma mio figlio forse non soffre anche lui e Cristo non ha sofferto per tutti noi riprese la via e nel profondo dell'anima quasi si rallegrava dei suoi patimenti il bastone tornò a battere le rocce di sopra di sotto di fianco spesso zio Pietro doveva arrampicarsi per superare la salita una volta trovò il vuoto davanti e sotto di sé e sentì la brezza soffiargli forte sul viso pensò sono in cima se potessi trovare la discesa ma dovete indietreggiare ridiscendere tentare un altro punto qui gli parve di orizzontarsi meglio e quasi di riconoscere il luogo giacché il bastone sfiorava macchie e cespugli dal grato profumo e un mormorio di alberi saliva dalle chine sottostanti devo essere a cucurumiedo pensò cammino da tanto tempo e non mi trovo distante che una mezz'ora dall'ovile ho ben girato e rigirato e sentì che la sera avanzava poiché gli uccelli tacevano nei loro nidi e le pietre e le macchie esalavano quella speciale fragranza umida che dà loro l'ombra a zio Pietro doveva ben poco importare che la notte calasse poiché non poteva essere più nera di quella che lo dominava eppure egli aveva paura dell'ombra e l'avvicinarsi della notte sembrava aumentare il suo buio interno un brivido cominciò a fargli tremare le mani e le ginocchia sentiva la gola stretta lo stomaco duro la testa pesante come i macigni su cui scendeva trascinandosi ma non pensava a fermarsi qualche cosa d'arcano ed irresistibile lo attirava che cosa Melchiorfe o il vuoto il pericolo e la fatale discesa continuò le mani graffiate dalle pietre ardevano e pulsavano nel gran buio della loro vuota visione i morti occhi scorgevano come un punto turchino e di dato giù al di sotto i boschi fremevano per la brezza che saliva a sbattersi contro le rocce sono stanco pensò zio pietro fermandosi di nuovo signore aiutatemi dove sono mai chi io possa trovare riposo chi io possa vedere rovesciò un po' la testa all'indietro come cercando la luce con disperato sforzo e ascoltò ma non udì che il sussurro del bosco e non vide che quel fantastico punto turchino alto e lontano come una stella la brezza gli battè sulla gola dandogli di nuovo un angoscioso raccapriccio un senso di disperazione ma il signore udì la preghiera riprendendo la discesa zio pietro fermò il bastone sopra una piccola sporgenza ingannato da questo appoggio tese il piede ma il piede trovò il vuoto e il bastone si spostò gli parve che il sussurro della selva diventato fragore gli sibilasse entro le orecchie e che il punto turchino si sciogliesse come un razzo in mille faville ridate poi tutto attacco e tutto sparve era caduto da un'altezza di sei metri battendo il dorso sopra una pietra non svenne ma tutti i suoi muscoli parvero spezzarsi il sangue sospese il suo corso i nervi stettero tesi in una immobilità più straziante di ogni dolore ma a misura che il sangue ricominciò a correre irregolarmente il dolore lo salì gli parve che un cane gli morsicasse il dorso poi tutte tutte le membra non cercò neppure di muoversi dalla posizione in cui era caduto solo tese la mano cercando il bastone non lo trovò credette di averlo smarrito e ne provò dolore e solo allora cominciò a gemere tutto immerso nel suo spasimo come in un bagno di sangue bollente poteva essere mezzanotte quando basilio e il pastore porcaro dopo lunga affannosa ricerca arrivarono in quel sito la luna al suo ultimo quarto saliva sul cielo limpidissimo le rocce nere sullo sfondo d'argento parevano il profilo di una misteriosa città e sopra di esse dominava la piccola piramide del punto trigonometrico cessata al sorgere della luna la brezza ogni cosa taceva in silenzio ineffabile i boschi scendevano compatti al di sotto di cucuruniedo e i raggi obliqui della luna segnavano vaghe ondulazioni di luce su quel dormente mare di foglie e intorno nell'immensità del paesaggio le montagne lontane sembravano nuvole azzurre sull'orizzonte azzurro zio pietro zio pietro che avete fatto voi gridò basilio curvandosi sul vecchio mi sentite sono basilio sono qui che cosa avete siete caduto è da tanto tempo che vi cerchiamo zio pietro il vecchio giaceva immobile il giallore del suo volto vinceva quello della lunga barba scompigliata è morto ridò basilio sollevandosi e si mise a piangere infantilmente battendosi disperato le mani sulle cosce che ho fatto io che ho fatto io che conti renderò il mio padrone del padre suo e glielo dicevo per scherzo che lo avrebbe l'ho trovato morto è morto è morto davvero la sua voce e i suoi singulti vibravano nel silenzio del burrone roccioso ma il pastore pose una mano sul petto di zio pietro e guardò in alto animale disse a basilio meno chiacchiere e più coraggio è vivo deve essere caduto di lassù portiamolo all'ovile trapparono foglie ed erbe e le sparsero su quattro rami intrecciati e delicatamente presero il ferito e lo deposero là sopra egli gemette basilio tremava anch'esso e gemeva come fosse ferito che ho fatto io ricominciò a gridare che mai ho fatto io tacci donnicciuola disse il pastore dandogli uno spintone non vedi che lo spaventi e si curvò sul vecchio dicendogli dolcemente che avete zio pietro siamo noi non è nulla fate coraggio il vecchio continuò a genere una leggera bava sanguigna gli colorava le labbra scorrendogli sulla barba i due uomini sollevarono i rami e cominciarono a salire con cautela attraverso le rocce e le spesse ombre ogni cosa taceva la luna passava dietro i rami neri nell'aria fresca errava l'umida fragranza del bosco basilio piangeva silenziosamente mordendosi forte il labbro inferiore per non scoppiare in singhiozzi una tempesta di dolore e di rimorso devastava la sua anima era questo il presentimento che mi rattristava lo sentivo io che qualche cosa orribile doveva accadere e son io son io che vi ho ucciso zio Pietro sono io sono io e gli volevo bene e voi mi avete dato da mangiare e da bere e mi avete vestito e calzato io invece vi ho ucciso sono io che per il primo feci passare per l'ado il vostro figliuolo per far piacere a lei e lei è stata la prima ad accusarlo e invece ero io che introducevo nella tanca il bestiame rubato che ho fatto che ho fatto io anche il pastore contemplando il volto di zio Pietro che pareva di marmo quando la luna lo illuminava provava una cupa tristezza ma egli non era più come Basilio giovane e appassionato e dopo il primo fremito di rimorso non si rimproverava più neppure fra sé l'ultima denunzia anonima contro Melchiorri nella grotta il ragazzo nuorese che aveva approfittato della solitudine per divorare quasi tutto il pane e il cacio dei pastori teneva desto il fuoco con le stoie e i gabbani Basilio e il porcaro prepararono un giaciglio ove deposero il vecchio lo spogliarono esaminarono il suo dorso tumefatto e livido non una goccia di sangue era svolgata dalla ferita nera e gonfia l'unsero con olio tiepido si strapparono le vesti per avvolgerlo egli piangeva con gemiti strazianti riempiendo la grotta di grido lamentose poi parve ricadere nel torpore in cui lo avevano trovato immerso sul dirupo chiamiamo un medico disse Basilio il medico vuole essere pagato si pagherà chiamò fuori il ragazzo e dopo aver flugato nella sua tasca gli diede un biglietto da dieci litri prendi il cavallo eccolo è pronto vada zia bisaccia che faccia salire un medico dia a questo che un vecchio è caduto e si è rotto la schiena dagli il denaro compra le medicine che ti dice lui se non fai presto ti massacrerò verti zia bisaccia che non dica niente a nessuno che zio Melchiorre non venga a sapere nulla cammina batte una fronda sulla groppa del cavallo e la bestia partì al trotto nera alla luna Basilio rientrò nella grotta si gettò bocconi presso il fuoco e ricominciò a gemere taci disse infine il pastore infastidito finiscila muso di faina tu piangi adesso dopo che non farmi parlare Basilio attacque ma la tempesta imperversava sempre più feroce nella sua anima rivedeva zio Pietro nei sereni giorni trascorsi quando Melchiorre era libero e la pace regnava nell'ovile udiva ancora le semplici storielle del vecchio ricordava l'innocente felicità goduta prima di conoscere Pasca ora tutto era accaduto Melchiorre in carcere zio Pietro morente l'inferno nel suo cuore il vecchio non si sarebbe più rialzato mai più la sua buona figura avrebbe vigilato l'ovile ogni cosa accadeva solo un barlume di speranza avrebbe potuto ancora illuminare il buio della sua anima stravolta Pasca ma anche Pasca per la quale ogni disgrazia era accaduta anche Pasca lo abbandonava perdendosi nel turbine che lo travolgeva verso l'alba il pastore andò a guardare nel suo ovile una torma di graziosi porcellini rossi e grigi neri macchiati di giallo bianchi screziati di nero gli venne tra i piedi grugnendo rotolandosi frugando la terra col musino roseo il cielo appariva azzurro nello sfondo dei tronchi e dei rami oscuri una giornata serena sorgeva a illuminare il torbido dramma di quegli uomini abbandonati a se stessi ritornando verso la grotta il porcaro vide Basilio venire gli incontro col volto grigio e gli occhi gonfi zio Pietro ritorna in sé non chiamiamo il prete non sarebbe bene di fargli fare il testamento il testamento il testamento sai bene se Melchiorre viene condannato la giustizia si piglia tutto se invece zio Pietro fa testamento ad altri egli raccontava sempre che la sua padrona quando egli era servo fece testamento a lui poi egli restituì tutto al figlio di lei uscito dal carcere ma il pastore si mise a ridere che pensieri hai giuro che mia madre non mi riveda che io farei altrettanto gridò Basilio il pastore cessò di ridere si fissarono e si intesero Basilio se tu vorrai il tuo padrone non sarà condannato perché dare a zio Pietro quest'ultimo dolore è come dirgli voi state per morire e vostro figlio sarà condannato rientrarono pensierosi nella grotta zio Pietro si lamentava non erano più i gemiti incoscienti di prima ma un lamento vivo ancora più straziante misto di dolore fisico e di affanno morale muoveva la mano destra brancicando qua e là e appena sentì rientrare i due uomini chiese gemendo dove dove l'avete lasciato il mio bastone e qui disse Basilio con pietosa menzogna che bisogno ne avete ora state tranquillo è vero non ne ho più bisogno egli rispose con amarezza perché non mi hai aiutato piccolo Basilio per tua colpa io morirò senza aver riveduto il figliolo mio fu l'unico l'ultimo suo rimprovero Basilio sentì un lungo spillo forargli il cuore e uscì nuovamente fuori battendosi le mani sul capo mordendosele torcendosi tutto in una crisi di rimorso il pastore scaldò un po' di latte si inginocchiò presso zio Pietro e glielo fece pazientemente bere il vecchio torceva il collo arricciava le labbra per lo spasimo e tremeva tutto la febbre aumentò ed egli cominciò a delirare muovendo le mani come per togliersi di dosso un insopportabile peso con voce rauca ma dolce quasi infantile diceva mille cose sconnesse brani di preghiere di storielle di antiche canzoni parlava a mechiorre bambino alla defunta moglie ricordava minuti particolari della sua giovinezza rivivendo in un tempo lontano ma gemeva ad ogni respiro se si muoveva gridava di dolore e di tanto in tanto cercava e chiedeva il bastone e ogni movimento delle braccia aumentava lo strazio della ferita poi chiedeva un prete e il pastore voleva mandare basilio a nuoro per esaudire il desiderio del morente ma basilio aveva paura tutto avrebbe fatto forché scendere a nuoro ripiegato su se stesso raccoglieva entro il cuore tutti i lamenti e lo strazio del vecchio e la sua impotenza ad alleviarne le sofferenze accresceva la sua pena gli dava un desiderio pietosamente crudele che egli muoia presto che cessi di soffrire signore fatelo morire subito va disse il pastore va almeno a cercare questo maledetto bastone forse si calmerà dopo basilio si scosse uscì corse via come liberandosi da un incubo l'aurora saliva le rocce umide e le foglie dei rami apparivano rose e le montagne lontane sorgevano azzurre sul cielo rosso ove la luna tramontava di afana come un sottile anello dall'abastro saltando scendendo arrampicandosi sui macini curvandosi agilmente a fissare il vuoto dei crepacci frugando tra i cespugli e il musco umido per qualche istante basilio dimenticò il suo affanno ma non rinvenne il bastone ritornò tristemente e prima di rientrare nella grotta s'avanzò sul sentiero scrutando se mai arrivava il medico nessuno la solitudine della tanca era animata solo dai capretti che correvano fra l'erba allegri e con la museruola come tanti cagnolini i porcellini avevano illecitamente passato il varco della tanca ma ora nessuno più pensava ad offendersene nessuno giungeva eppure le rocce rivolte ad oriente pareva aspettassero come sfingi vigilanti nel quieto splendore del mattino le capre ritte sui dilupi frecce e spugli volgevano i grandi occhi foschi in lontananza il gatto fermo sopra la grotta guardava intorno coi verdi occhi socchiusi il cane gemeva guaiti lamentosi che vedevano che aspettavano quale mistero giungeva nella piena luce del mattino le erbe le fronde le pietre gli animali parevano vinti dal senso di attese e di terrore arcano che tante volte aveva stretto l'anima di zio Pietro veniva la morte rientrando nella grotta Basilio trovò il vecchio che agonizzava il pastore inginocchiato a capo scoperto con un pezzetto di cielo acceso fra le dita pregava nella penombra della grotta il suo volto olivastro incorniciato di lunghi capelli neri unti appariva come il luminoso dalle lacrime che lo solcavano simili a rivoli d'acqua pura sul granito che ho fatto io gemeva anche lui e la morte del vecchio gli sembrava un castigo del signore Basilio si gettò di nuovo al suolo non aveva più lacrime non ricordava che l'antica preghiera frisca frisca seggi scale scale rosa frisca seggi scale l'izzo mamma de su santo vizzo mamma de su santo vizzo santo il nome de su babbo de su vizzo e de su spirito santo la recitò dieci venti volte tenendo gli occhi spalancati e fissi sul volto del morente vedeva la bianca barba muoversi ancora le palpebre che tentavano di sollevarsi la mano secca e livida del morente si mosse due volte branciccando nel vuoto cercava il bastone Basilio ne provò una pena profonda e si pentì di non aver cercato meglio fino a trovarlo e riportarglielo e continuò a fissare il morente senza più pregare né piangere atterrito dalla visione della morte la barba del vecchio si agitò lievemente le labbra umide di bava sanguigna e di latte s'aprirono ad un piccolo sbadiglio le palpebre si sollevarono sugli occhi vitri tutto era finito zio Pietro vedeva l'eterna luce il pastore spense il cero e con questo segnò una gran croce dalla fronte al petto e sugli omeri del morto gli abbassò le palpebre gli congiunse le mani sul seno poi uscì fuori e pianse basilio si protese sul morto fino a sfiorarne il viso estette immobile palido e scrutando un gran mistero della morte dunque quel corpo rigido e muto non si solleverebbe mai più quelle labbra non si muoverebbero più mai la barba non ondulerebbe più e ieri alla stessa ora era ancora vivo e domani anche la fredda spoglia sarebbe sparita più nulla per quanto si cercasse soprattutto la terra in tutti i tempi si troverebbe di quell'uomo un'ombra fosca oscurò i limpidi occhi di basilio per la prima volta l'anima selvaggia e incosciente sentiva il solenne mistero della vita e della morte cominciò a parlare piano piano puedilmente rivolto al cadavere zio pietro non vi sollevate più non mi sentite più sono basilio sapete non mi sentite più non mi ascoltate ancora non ho potuto trovarlo il vostro bastone ma lo cercherò ancora finché lo troverò fuoco sebbene voi non ne abbiate più bisogno non lo soffierete più il fuoco no non le spazzerete più le mandrie zio pietro destatevi alzatevi vi ricordate ieri a quest'ora quante cose possono accadere in brevi ore forse anche io domani a quest'ora sarò morto può darsi benissimo ma voi siete già in cielo ed io andrò all'inferno avrò tempo a pentirmi zio pietro oh no non lo dite a nessuno che siete morto per causa mia raccontatemi ancora una storiella vi ricordate zio pietro la storiella di quel re che aveva le orecchie d'asino voi non tornerete più alla capanna voi non vedrete più vostro figlio oh zio pietro mio 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 e ripeteva le ultime parole del vecchio piccolo basilio per colpa tua muoio senza aver riveduto mio figlio si sollevò e battendosi le mani sulle cosce gridò disperatamente e io lo dicevo per il scherzo che sareste morto zio pietro e invece siete morto davvero siete morto solo l'arrivo del ragazzo onorese col medico e con altre persone lo distolse dal suo estremo colloquio col morto fatte le constatazioni il cadavere fu deposto su un carro coperto di fronde e portato a nuovo basilio avrebbe voluto prima correre in cerca del bastone per metterlo fra le mani del morto qualcuno sorrise di questa sua idea fissa ma non perciò egli la depose sul pomeriggio partiti curiosi egli munse le capre le contò spedì il latte a nuoro e pensò a rifocillare sé e gli animali il cane non cessava di lamentarsi il gatto vagava smarrito e affamato emettendo acuti miagolì e pareva davvero che come affermano i pastori si accorgesse della morte del padrone solo la lepre profittando del trambusto aveva effettuato il suo lungo sogno di fuga era scomparsa lasciando un pezzetto della corvicella rosa verso sera appena poté basilio ritornò fra le rupi di cucurunietro e ricominciò a cercare il bastone seguì quelle che gli parevano le tracce di zio Pietro e pensando allo smarrimento e all'angoscia che doveva aver provato il vecchio nel trovarsi perduto fra le rocce sentiva quasi la stessa inquietudine giunse così sul macigno del quale zio Pietro era precipitato e stette a lungo curvo sull'orlo del dirupo i boschi tacevano le nuvole salivano dal mare e passavano lentamente oscure sul fondo pallido del cielo basilio scavalcò l'orlo del macigno si calò agilmente di roccia in roccia fino al punto preciso dove zio Pietro era caduto tastò il musco l'erba i cespugli trascinandosi sui ginocchi l'ombra cresceva così curvo il suolo stanco con le palpebre pesanti egli vedeva sempre la figura del morto col dorso tumefatto e violacero una graffiatura rossa sulla mano destra una foglia secca fra i bianchi peli della barba il suo dolore allora cominciò a diventare ossessione l'infruttuosa ricerca del bastone lo stancava e l'irritava e a un tratto sedette e poi si arrovesciò sulla pietra dove il morto era caduto le nuvole passavano lente sul suo capo mere sul fondo argente o pallido del cielo come enormi uccelli silenziosi in alto le rocce guardavano il crepuscolo nelle fredde lontananze le montagne sorgevano fosche livide sul pallore di quel gran cielo morto basilio vedeva sempre il dorso frantumato del vecchio la foglia secca tra i bianchi piedi della barba e ripeteva fra sé le ultime parole di lui per liberarsi da quell'incubo pensava che con la testimonianza sua del pastore porcaro ed altri vicini melchiorre non avrebbe tardato ad essere posto in libertà ma poi ricordava pasca e la sera in cui dalla sporgenza di monte bide tra le ombre del crepuscolo il suo cuore aveva gridato voci d'amore selvaggio vuoi che uccide il vecchio zio pietro parla parla io mentirò io ucciderò io farò tutto ciò che tu vorrai per amor tuo vuoi che uccide il vecchio zio pietro sì egli lo aveva ucciso ma sentiva che nessuna cosa al mondo neppure l'amore di pasca avrebbe potuto ridonargli la pace grazie